Giacinto la durerà, ci sarà una manifestazione, ci sarà una rappresentazione teatrale e che dire di Giacinto, uno dei più importanti critici d'arte che abbiamo in Italia ha lavorato da tantissimo tempo, ha insegnato all'Accademia di Belle Arti di Brega ha seguito tutta una serie di manifestazioni anche qui in Abruzzo come alcune edizioni di fuori uso manifestazione importantissima di carattere nazionale e internazionale per cui è veramente un piacere con cui grazie per aver accettato il nostro invito socialmente Grazie Ringraziamo il direttore Marco Brandizzi ringraziamo il coordinamento della Scuola di Scultura il nostro coordinatore il professor Ludovico il professor Pietro Niro il professor Franco Fiorillo tutto il Dipartimento di Archivisive ringraziamo il nostro tecnico di supporto Paolo Orsini che sempre segue le nostre attività e prima di dare inizio ai lavori passerei voce a Sara Diaz che ci approfondisce il profilo del nostro ospite Giacenzi Grazie a Sara Allora mi metti così Salve, buongiorno Ritorneremo un po' Tutti posta il profilo, no? su Facebook ha aggiornato il profilo, no? ha messo il nuovo profilo e sono sempre un profilo non capisco perché si chiama profilo Buongiorno Giacenzi di Pietro Antonio nasce a Letto Manopello nel 1954 e attualmente vive a Moncalieri dal 2000 al 2017 è direttore della GRAMEC Galleria d'Arte Moderna e Contemporanea di Bergamo è docente di due insegnamenti verso l'Accademia di Belle Arti di Bergamo a Milano ossia Sistemi Editoriali per l'Arte e Ditoria e Storia dei Medi di Rappresentazione è stato tra i fondatori nel 2003 dell'AMACI ossia l'Associazione Musei d'Arte Contemporane italiani e per cui ha diretto anche la rivista The Love Museum ha ricoperto il ruolo di redattore capo e vice direttore poi per Flash Art in Italia dal 1986 al 1992 rivista con cui oggi continua a collaborare e dal 2011 tiene la rubrica per il diritto di cronaca sulla rivista Art Tribune e con Luca Rossi la rubrica online oltre già il vino sul sito White House sui testi sono apparsi e appare ma anche su riviste come Parquet e Domus dal 1994 al 1996 è stato consulente per le arti visive della regione Abruzzo e con Michelangelo Pistoletto il gruppo Parquet e Corinne di Seren poi all'edizione di BIG la Biennale Italiana Arte Giovane di Torino 200 ha creato mosse personali di Anfab e come dicevamo prima come eventi collaterali della Biennale di Venezia nel 2007, 2009 e 2011 e tra le molte importanti mosse personali e collettive ricordiamo Over the Age di Ian Coet a Kent in Belgio e Alighiero Coet quasi tutto alla GAME che è la fondazione per di Buenos Aires ha fondato e diretto la rivista di discussione sull'arti perché e ha redatto il periodo di curato molte monografie tra cui quella di Anzo Bucchi Ian Fabretto e Spalletti è stato curatore del corso superiore di arti visive alla fondazione Antonio Arti di Como dal 1995 al 2004 ed è stato membro del comitato della quadernale di Roma nel 2005 oltre che membro del comitato scientifico per l'arte dell'assessorato alla cultura del Buen Spazio Oberdan della provincia di Milano e della fondazione Coet di Budapest è stato inoltre consulente artistico del MIART nel 2008, 2009 e 2010 consulente del premio Fuella Quaini Stamparia per l'arte e membro del comitato scientifico del museo di arte moderna contemporanea Luigi Pecci di Prato e del CAC Centro Italiano Arte Contemporanea di Poligno inoltre nel 2008 è stato insegnico scusate dal magnifico rettore dell'Università di Bologna Pieruco Calzolai del riconoscimento alla carriera promosso dall'Arma della Tecnica Bolognese Grazie Sara Giacinta, allora ritornando su questo discorso del profilo diciamo così come nasce la tua presenza qua da noi nasce da un'esigenza che è maturata durante il corso che stiamo seguendo di tecnica della scultura la cui esercitazione simulata operativa prevede una mostra in ambiente urbano quindi fuori da quello che è un terreno istituzionale che però è diventato grazie anche al tuo lavoro possiamo dirlo uno dei terreni istituzionali dell'arte parlando sempre di terreni però vorrei riallacciarmi a questo discorso dell'immagine che abbiamo utilizzato per questa lucandina è un'immagine che è legata un po' al territorio non succede niente va bene questa qui dice tu no? allora intanto vi ringrazio di essere qui vi ringrazio l'Accademia il direttore Brandizzi che appunto mi ha proposto di fare questa gacchierata e tutti gli altri docenti come Pietromilo insomma altri che si sono uniti a questo questo incontro e devo dire insomma che prima cosa l'avendo insegnato all'Accademia fino a alcuni anni fa perché poi sono andata in pensione ma adesso continuiamo comunque a insegnare all'OIED a me fa sempre molto piacere insomma andare nelle scuole diciamo la scuola per me è stato sempre molto importante infatti pur coprendo vari incarichi come è stato ricordato quello che ci era sempre era l'insegnamento all'Accademia delle Arti perché appunto mi ha sempre interessato e ancora oggi avere il contatto con i giovani perché ti permettono di capire tante cose come cambia il modo insomma e anche quindi di aggiustare il tuo profilo come si diceva prima di aggiornare la tua ricerca insomma di non fossilizzarsi e quindi grazie insomma a tutti poi essere invitata all'Accademia dell'Apria è ancora motivo di orgoglio perché appunto l'Abruzzo è la mia regione alla quali sono molto legato e a cui ho fatto fuori uso ma anche altre altre mostre e altre manifestazioni che continuano comunque comunque a fare allora non c'era telefonita per dirne una qualcosa che magari quasi nessuno sa da misi anni 80 con Mariano Apa facendo una mostra a Poggio Vicenze Poggio Vicenze che è qua dietro Poggio Vicenze è un piccolo comune che si chiamava la pietra svelata era una mostra di scultura insomma una vicina di artisti insomma c'erano anche alcuni professori che insegnavano anche l'Accademia Artisti tipo che erano scultori poi insomma visto che questo è organizzato all'interno del corso di scultura poi anche io le cose che vi faccio vedere di cui parliamo sono state anche un po' selezionate in base insomma a questo tipo c'era quello Silvano Servillo che purtroppo non c'è più e Pasquale Imperatore insomma che loro insegnavano appunto qui alla canela dell'Amore con le altre provenienti da altre parti insomma d'Italia insomma io tendenzialmente al 99% quando propongo no una cosa in Abruzzo non dico di no è proprio il modo giusto sia per chi lo propone sia per me di fare la cosa perché io sono arrivato ad una conclusione da oggi che si può fare qualunque cosa e bisogna vedere come si fa insomma però è quello comunque andando a quest'immagine che voi avete scelto come la bandina è uno dei ritratti ci sono degli altri che però non sono dei ritratti di tipo celebrativi legati al narcisismo sono dei ritratti che dicono qualcosa questo qui è un ritratto in cui io sono con davanti una una testa e poi un pinocchietto il Pinocchio di Urbis ne abbiamo visto all'inizio c'è questo logo che mi contraddistingue da sempre che mi sono fatto da quando iniziato a lavorare fino al 1970 inizio al 1980 che è appunto questo Pinocchio con cui insomma mi sono sempre identificato ovviamente insomma per tanti per tanti motivi insomma perché intanto intanto Pinocchio è qualcosa che è legata comunque alla metramorfosi no la trasformazione adesso prima veniva ricordato Jan Faber con cui ci faremo qua in marzo il lavoro centrale il numero centrale di Jan Faber scritto l'idea grande da mostro che è poi l'idea dell'arte quella di trasformare qualcosa in qualcosa altro poi il fatto che Pinocchio arriva prima alla verità attraverso la bugia o attraverso una verità alternativa insomma che vuol dire non vedere cioè non è la diciamo l'accezione della bugia in termini negativi diciamo di tipo è peccato la chiesa eccetera con cui ho anche relazioni di lavoro tra l'altro ma ecco l'idea di vedere le cose anche in maniera diversa da quella insomma che appaiono poi comunque un personaggio ingenuo no? che crede al paese della cuccagna che crede che inseminando delle monete nascono poi nelle altre monete su un albero insomma ha tutta una complessità insomma che mi ha sempre insomma affascinato quando gli altri mi chiedevano ma sono i tuoi riferimenti uno diceva Ghan non so Zeman oppure Marx Platone eccetera io dicevo Pinocchio perché questi motivi e tanti altri insomma l'altra diciamo opera è una testa dell'Abruzzo che è la presenza dell'Abruzzo di Ugo la Pietra adesso vediamo se questo va indietro ecco questa è una opera d'arte di Ugo la Pietra che si chiama unità nella diversità e sono una serie di texte come vedete che lui ha fatto nel 2011 per le celebrazioni del centenale 150 anni dell'Unità d'Italia di Ugo la Pietra è un artista anche lui a Bruzzese è andato a Bussi sul Chirino che si è poi partendo da Milano e poi arriva a Milano da quando è andato a studiare ed è sia un artista visivo sia un architetto sia un design teorico insomma anche un insegnante a Breganza il dipartimento di design di Brega quando c'era di Filippi chiamò Ugo la Pietra che non insegnava in quel momento proprio a fondare questo 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 dipartimento insomma quindi è un artista multidisciplinare no? e questo con un altro problema a cui io sono molto interessato ho fatto anche delle mostre una che ho chiamata Poliarte che non è l'arte di Politi perché ho lavorato con Flesciarte non posso pensare che sia l'arte di Politi e Poliarte perché tutti questi artisti che io mettevo nella mostra sono degli artisti che hanno studiato la Politecnica dell'anno che è appunto come sapete l'Università di Ingegneria e di Architettura che si tratta appunto di Oculapietra quella volta c'era Oculapietra avevo fatto una categoria privata una categoria studi in Polonia dove c'era Oculapietra c'era Alessandro Mendini c'era Alberto Carutti Corrado Levi e Gabriele Basilico che sono alcuni sono ancora alcuni erano perché non ci sono più l'ultimo Carutti Basilico tutti gli artisti che hanno studiato la Politecnica quindi che hanno studiato l'architettura ma non avevano l'architettura che però non hanno deciso poi di fare gli architetti veramente per il proprio tranne Mendini ma anche lo stesso Mendini che è un architetto sui generis più che l'architetto che ha fatto più il design e più il teoreo per il design insomma e anche l'artista di seo insomma quindi mi interessava capire come mai da diciamo per sonno ce le fanno tantissime tantissime altre insomma ovviamente però mi interessava capire come mai cioè studiavano per fare una cosa e poi ne facevano una diversa anche se diciamo poi li microfa insomma in qualche modo c'è una tradizione italiana molto forte che affronta le radici intanto nell'antichità per prima cosa poi se vogliamo nei rinascimenti insomma ovviamente pieno di artisti che fanno varie che si esprimono in varie discipline vabbè insomma Leonardo Michelangelo ma lo stesso Raffaele insomma insomma era qualcosa normale ma anche la modernità in Italia nasce su questo cioè Picasso è un po' anche scultore cioè in Italia noi abbiamo De Tirico che appunto anche lui è un pittore però è un fratello Savigno e praticamente prima di iniziare a dipingere a disegnare era prima uno scrittore letterato musicista musicale e poi per non parlare del futurismo che vi è ovviamente elettorizzato quindi è una cosa anche molto italiana molto antica ma anche molto internazionale insomma quindi queste immagini qui rappresentano insomma alcune di queste cose che vi ho detto quindi non sono dei pretesti per me ma sono dei pretesti teorici insomma ecco ecco quelle cose che abbiamo visto prima per esempio erano ognuno aspetta faccio un attimo indietro non c'è me non torna vediamo allora poi ci vi dicevo che è molto interessante la pietra ha riletto le sculture di Altagirone le ceramiche di Altagirone sono un toast della ceramica diciamo popolare dell'artigianato che si è andato in Sicilia ma non solo le trovate dappertutto insomma che non vengono considerate opere d'arte nascono su una leggenda medievale quando c'è la dominazione alfa in Sicilia da una storia che una ragazza si affaccia dal balcone deve passare sul trovare bellissimo quindi se ne innamora e poi si fidanzia insomma eccetera proprio ogni intanto andavo all'indietro tornavi in Arabia insomma nel suo paese poi lei viene a scoprire in qualche modo che questo ragazzo in in Arabia aveva insomma un'altra moglie insomma che poi per loro era un mare insomma la mia non glielo dice però la notte mentre dormiva li taglia la testa e poi lo mette dentro un vaso sul balcone lo ricopri di terra e poi nasce il basilico insomma quindi questa testa di cartagirone che non è l'artista e non è l'artista e da questa leggenda poi viene fatta di arrivare queste testi di cartagirone per noi non fanno tanti interessi perché sono copie di copie che si fanno ormai da 500 insomma 600 anni Pugola Pietre che è un artista appunto come dicevo interessato a recuperare varie forme di artigianato in questo caso ha fatto questa operazione di rileggere la ceramica di cartagirone e queste sono state realizzate con gli artigiani di cartagirone essenzialmente ha fatto i disegni e ognuno è una regione abbiamo visto l'Abruzzo tra l'altro l'Abruzzo quello è il primo questo è l'ordine alfabetico no? sopra c'è l'Italia poi c'è appunto l'Abruzzo che è l'unico che ha una figuratività riconoscibile che infatti è un nato ritratto che conosce con la pietra lo vede subito perché è un nato ritratto perché qualcuno è abruzzese e la testa c'è tutto con il Bosco che ovviamente è la città la regione del Verde il parco nazionale d'Abruzzo e poi se è tutto questi orsetti orsetti marsigani e poi vedete lavorando sul luogo comune che il luogo comune è qualcosa che uno dice vabbè ma il luogo comune non è produttivo invece sono veramente interessanti i proverbi perché sono cose che nascono dei millenni nei tempi quindi hanno un deposito di sapere profondo che sono suscettibili sempre di essere riletti allora vedete la calabria si riconosce subito c'è tutti i peperoncini oppure vabbè la campagna con il Cinello ovviamente con i rettini con le corna insomma e così via e qua si vanno a fare un totò testa no? qua si è tutta Bruzzese ci sono di altre regioni devono dire milanese e molisano allora il molise è quello lì vedete sono gli stazzi con le pecorelle sulla destra e il pastore che hanno caratteristiche poi appunto abbiamo il professor Fusi e il toscano e vediamo la Toscana dove è quella qui in basso no è quella lì vedete c'ha la torre di Tisa la comune di Brunelleschi c'ha i pinocchietti quattro pinocchietti c'ha quella bottiglia che c'ha scritto del Chianti insomma però la cosa interessante quali sono riconoscibili perché queste teste vedete c'ha i capelli grigi no? cioè il volto però è una una giovane ragazza perché c'ha i capelli grigi no? c'ha i capelli grigi perché qual è la la pietra se voi siete appunto diciamo la scultura tradizionalmente il marble la pietra no? oppure l'argilla e allora e da una parte abbiamo il marmo il carave eccetera come sta in Toscana dall'altra abbiamo la pietra serena che si trova dappertutto in Toscana che è l'elemento che costruisce l'architettura le strade i marciapieni ma anche gli altri palazzi e anche insomma delle sculture poi vabbè direttore che è di Roma vedete lì di Roma c'è il Colosseo c'è il pretese tutto il Colosseo poi sono interessanti i dettagli dei cori se vanno là c'è la crema oppure l'Emilia Romagna c'è i tortellini vedete lì la sicce le mortadelle insomma e così via sono ognuno è pieno insomma di cose si potrebbe parlare ora cosa che io tra l'altro ho fatto quando c'era il lockdown praticamente non sapevamo cosa fare erano tutti chiusi io siccome queste teste ce le ho tutte a casa le ho comprate dalla pietra e quindi ce l'avevo lì su questo scaffale che tutti i giorni ne vedevo però queste cose del covid che ero chiuso mi hanno permesso di vedere cose che non vedevo ma comunque di vedere in maniera diversa quindi e quindi ho preso questo potete andare su youtube vediamoci il mio panale per l'antonio e c'è la sezione che si chiama mite e mitologie dell'arte e io ho fatto venti mite e mitologie dell'arte mi mettevo davanti una testa seduta nella scrivania con il computer accendevo il video e partivo parlando di una testa e da lì entravo dentro la regione la storia della regione insomma e così via anche perché c'è e quindi poi si trova di tutto si trova l'arte le filosofie di quella regione i luoghi comuni insomma e così via tra l'altro alcuni come la Toscana durano quattro ore cioè dove io ho parlato ininterrottamente per quattro ore la Lombardia tipo mezz'ora perché ero il primo che facevo quindi sono partito insomma poi man mano aumentavo le durate perché mi organizzavo anche meglio insomma diciamo la prima l'ho fatto provare l'impronta insomma quello che mi veniva in mente insomma e così quindi sono la pazienza ma poi essendo su Youtube lo guardo un po' e poi lo stoppa poi lo riprende insomma così via poi magari vediamo dei pezzetti e quindi mi veniva in mente che comunque il fatto che tu abbia messo Pinocchio come elemento iconografico già quel Pinocchio lì è un elemento iconografico perché può essere per esempio cartellano usato però anche quella immagine per cercare se quindi è stato assunto ma soprattutto è anche un tuo trascorso in Toscana che tu in Toscana hai operato molto allora intanto Pinocchio l'hanno utilizzato molti artisti insomma tra cui Cartland in quella versione diciamo che c'è nella fotografia perché Cartland ha utilizzato il Pinocchio di Walt Disney come anche quello lì era appunto un Pinocchio di Walt Disney un pazzetto di Roma che ho comprato in un mercatino visto insomma tipo un euro diciamo uno dei centesimi si in Toscana ho lavorato una delle prime non ho immagini perché loro non avevamo i telefonini quindi non dovevamo documentare insomma e si c'era questa manifestazione che si faceva tutti riferi a quella no? e che si chiamava Volpaia perché si faceva un piccolo borgo su una collina che si chiama Volpaia dove c'è una piccola chiesa un po' di casa insomma fa parte del comune della D'Inchianti provincia di Siena che è la provincia del professor Fusi tra l'altro possiamo addentrare perché poi siamo andata nella Toscana io parlo anche di questo cioè quella che si può chiamare ma non in termini negativi inerzia iconografica che praticamente perché se noi andiamo a Siena e poi andiamo nel museo guardiamo i quadri diciamo questo qua è un quadro del medioevo il fondo d'oro e poi la legge 1500 1450 aveva allora questi senesi a Firenze avevano fatto già la rivoluzione della cospettiva eccetera la realtà è che i senesi non hanno mai potuto sopportare i fiorentini ci hanno fatto anche una guerra insomma varie guerre e quindi hanno rifiutato completamente Firenze e hanno rifiutato completamente quello che rappresentava la cultura di Firenze quindi il rinascimento la prospettiva tutto questo conquisto ma non era una cosa di non capire cosa stava succedendo era una guerra culturale che continua tra l'altro ancora oggi insomma ecco quindi comunque è comunque un valore allora questa volpaia era questo piccolo borco dove c'era questo gallinista diciamo Pistoi che aveva convinto i proprietari di questo borco che avevano avuto delle vigne insomma delle cose questi anti-mascheroni a farlo l'inizio di settembre quando c'era la vendente l'essere questa cosa perché con l'aumento del clima dopo le venti anni si sono spostate però tutti facevano qualcosa ma la maggior parte facevano le sagre del paese dell'uva quelle cose invece avevo convinto a fare queste sagre questa sagra di fare una mostra d'arte insomma e quindi si facevano queste mostre con vari curatori dove c'erano gli artisti senior che ne so Paolini Salvo insomma Garotti abbiamo detto prima insomma Montano insomma e altri e poi aveva chiamato un giorno insieme alle rotele parmesane per fare una mostra di giovani artisti e quindi lì facevano una mostra con una una trentina di allora giovani artisti insomma da cui c'erano quasi tutti i gruppi di Lazzuolo Palazzo per dire Arienti insomma con tanti altri insomma e così via e poi feci altre due mostre da solo perché non ne vado fare più anche perché non ne vado pensare più una teorica dell'arte che ho inaugurato di noi insomma e la seconda mostra o la terza non mi ricordo non ne ho idea la feci tre e era una mostra in cui mettevo insieme artisti di varie discipline cioè non come poi altri un artista ma tipo c'erano artisti visivi c'erano design c'erano un disegnatore di fumetti tipo Igor per esempio c'erano Denis Santagliaro per il design c'era un gruppo popolo alle statunitense che si chiama i Residents che è un gruppo d'avanguardia di San Francisco con un bio bellissimo insomma era una cosa c'era Luigi Serafini per esempio che è un disegno che sarebbe famosissimo per questo libro il Codex Serafinianus qui parliamo 87 88 89 di San Francisco quindi poi un'altra che fece fece un'altra mostra che nasceva sul fatto che spesso io incontravo le persone dicevo ah ti ho visto un'altra mostra mettiamo cupi no? ah eh ho visto un'altra mostra internet apposto e noi non so niente quindi non c'erano altri che sono lontani come artisti che conoscevo ah sì ma non lo so non c'erano niente eccetera eccetera che sono quelle mostre che si fanno qualcuno l'ho fatta anch'io ma quasi mai insomma forse uno o due prendendo dei lavori di qua di là fai le mostre insomma senza parlare con l'artista senza condividere con l'artista una cosa e soprattutto erano mostre che mettevano insieme artisti già affermati poi non è più cantare pistoletti eccetera con dei giovanissimi all'opera allora io faccio questa mostra mi compresi dieci artisti giovani allora dieci artisti affermati e dieci critici curatori e li misi insieme quindi per esempio c'era Marco Mazzucconi che allora era un artista poi scomparso allora era un artista veramente molto famoso in Italia lavoravo con Marconi per esempio con Piero Gilardi e con Angela Vettese che discutevano cioè nel senso volevo che si riconnettesse questo discorso perché in Italia è successa una cosa a mio avviso molto grave proprio una cosa italiana tante cose sono una cosa italiana quello è il tentativo insomma di cercare di costruire questa cosa è successo che praticamente con la transavanguardia devo spiegare che cos'è che tutti sapete si è interrotta una tradizione secolare in cui gli artisti erano connessi tra di loro cioè quando questi artisti fanno le mostre da Sperone no? e la Mazzone insomma devo firmare e cioè lo facevano perché frequentavano gli artisti si frequentavano cioè loro frequentavano gli artisti precedenti come appunto Pistoletto Mario Mezzo insomma eccetera andavano al bar insieme andavano al bar insieme questa è una cosa che si è persa cioè l'idea del bar del caffè è un altro che bisognerebbe raffrontare no? cioè tu andavi a Roma tipo negli anni 80 fino a un po' negli anni 90 con Bartolo tu andavi a Roma arrivavo anche a mezzanotte andavi all'Eningway capito? poi parliamo degli anni 80 negli anni 70 andavi al privé negli anni 60 andavi al caffè rosato negli anni 50 andavi al caffè greco infatti tu vedi che ognuno di questi caffè si sono creati nelle storie del latte dall'anno 80 in poi poi si interrompa questo rapporto no? perché cosa succede? succede che succedono tante cose poi le parliamo anche un po' più avanti succede che praticamente cioè Bonito Olivato è una strategia post moderna che in quel momento lì di che lo seguono anche gli artisti ovviamente non è una cosa contro benedoliva è un racconto di quello che è successo cioè noi andiamo a vedere il catalogo di quell'epoca lì le mostre anche avanguardia transavanguardia cioè ci sono artisti dei secoli dei anni precedenti poi si ferma con pubblichia insomma eccetera e con rispettivi esteri e anche le altre mostre erano tutte così non c'erano dei dei giovani che venivano dopo cioè loro correvano per conto loro in un orizzonte solo internazionale e avevano rotto questo rapporto con di continuità di relazione fra le varie generazioni io quest'anno mi accorse di questa cosa qui e feci questa mostra proprio per questo motivo cioè nel senso perché io potevo prendere per girare come deve lavorare in mazzucco lo metterò lì e poi un giornale girare c'è una moscatura con mazzuccovoli non so Paolini Moradoleno insomma Martegani Mondino quindi ci vuole che ne so insomma eccetera io cioè non solo gli avevo invitato a fare questa mostra e gli avevo detto io ti vorrei mettere con questo artista per questi motivi ma anche a fare una conversazione per il catalogo quindi si dovevano confrontare anche le poetiche quindi quello era un tentativo insomma di questo tipo io le mostre che ho fatto sono mostre quasi tutte diverse perché ognuno cercano di affrontare di affrontare di affrontare il pubblico e questo proprio già appunto dall'inizio io non sono un curatore che fa le mostre storiche nel senso che non mi interessa farle non è che non sono importante però non mi interessa cioè come la commissione non la posso anche fare ma che nasca da me cioè io faccio una mostra sull'arte povera non mi importa niente quella mostra sull'arte povera cioè ce l'hanno fatta età ne le faranno delle altre insomma e così via e quindi Toscana Borpia insomma e poi anche altri sicuro non mi ricordo è interessante questa cosa perché Borpia innanzitutto era fuori era nel circuito ma era fuori circuito era un circuito da se stante e oltre quello che ti dici è quasi una mostra di di relazione in sa stessa quindi è già anticipa dei tempi in sa stessa allora sì insomma nel senso io poi tutte queste cose qua le ho viste a posteriori le ho non le ho cioè il fatto di metterli insieme per questo motivo sì perché di questa cosa qui me ne parlavano gli artisti Giacinto scusami cioè questa azione è stata strategia o performance? cioè mettere insieme quasi la vedo un Giacinto di Pietra Antonio quasi come il faccendiere e il faccendiere e tutto però lo vedo tra un'azione strategica e quasi una performance perché poi occorrono anche delle abilità ma allora io quando ho fatto queste mostre lavoravo già a Flash Art e qui c'è anche dopo ci si capiva il tenese nel libro a Flash Art insomma all'intelligenza all'intelligenza artificiale insomma quindi avevo nonostante fossi agli inizi del mio percorso avevo molta credibilità perché allora lavorare a Flash Art voleva dire tantissimo insomma quindi conoscevo le persone insomma citavo tantissimo e io quando ho capito che c'era questa cosa qua tra l'altro ho capito perché sono gli artisti i giovani artisti tipo Quartana Luca Quartana Bernard Rudi che erano erano quegli artisti lì c'era Garienti Della Vedeva Mazzucconi quegli artisti che stavo a Milano quindi erano questi con Roma dei giovani li conoscevo poco conoscevo ho conosciuto Alfredo Pirri qui aveva una una forte ancora oggi una forte relazione insomma ed erano appunto gli allievi di Fabro praticamente che mi dicono mi hanno fatto notare questa cosa di questa censura io non ce l'avevo fatto caso ma questa cosa anche perché il mio percorso è un percorso che viene un po' fuori dal circuito dei diciamo dell'arte insomma e poi magari più avanti vediamo delle cose e mi dicevano questa cosa qua allora io l'artissima se ti vuoi fare questo lavoro devi sempre stare con gli artisti perché è fondamentale insomma che dagli artisti tu impari tantissimo poi vabbè sta a te avere la capacità di trasformare insomma qua sono tutte le cose che ho fatto l'odevo a un artista o a un altro che chiacchierando mi ha illuminato una lampadina insomma questa cosa questa cosa qui e e questo era appunto fuori varie volte nei discorsi perché perché in quelli di Tarzanopalazzi aveva una coscienza forte del sistema dell'arte erano studenti di Favro queste cose si imparavano da Favro anche queste cose qua e mentre Arienti, Mazzucconi questi altri martegali erano artisti che non veniva nessuno dal mondo dell'arte e Arienti studiava agraria Mazzucconi studiava l'architettura Mazzucconi studiava psicologia comunque della vedola anche lui faceva non mi ricordo ma faceva l'Accademia di Belle Arti insomma eccetera e loro avevano la riparta perché Corradone è un altro outsider praticamente li aveva visti aveva visti le loro cose in questa mostra la Brambovere la Brambovere non è che spazio abbandonato a Milano non esiste che una vecchia fabbrica la Brambovere ed era dove si trova adesso il tosco verticale insomma e poi una battuta una battuta ed era una mostra che un gruppo di giovani artisti milanesi tra l'unistro spazio ma era tutta sfondata tutta abbandonata e avevano fatto una mostra era una mostra per chiamata no? ognuno mi dava un amico eccetera eccetera e a riempi questi qua frequentavano un po' gli artisti perché gli piaceva quel mondo però loro lo facevano tutt'anno però c'era questa cosa dei questi artisti che realizzavano questo Brambovere ah ma perché stavo facendo questa cosa perché non vincano tu fai qualcosa capite eccetera e loro avevano fatto qualcosa e coloro lì stranamente aveva individuato quelli che ma non perché sapessi che erano artisti perché aveva visto in loro delle cose diverse da quelle che facevano altri per esempio arienti aveva fatto c'è tutto del muschio perché erano tornati a discende abbandonati e lui aveva quando dice senti colorati aveva colorato questi muschi sul muro insomma e così via però questi qua non avevano la coscienza che avevano quelle che facevano un percorso all'interno del mondo del mondo dell'arte no? Mentre quelle di che venivano da un percorso diciamo di gioco artistico accadendo poi con Luciano Fabro e queste cose le spiegavano avevano questa coscienza che si sono accorti insomma di questa cosa anche perché loro vivevano questa cosa anche con Fabro perché Fabro e poi su questo c'è un'altra mostra che ho fatta fuori uso poi ne parliamo più avanti se abbiamo tempo perché poi sono un piacchierone parla tanto insomma e così eccetera e quindi quella mostra lì non era una strategia cioè io ho visto questa cosa e ho detto perché io poi non sono mai stato strategica anche se alcune scelte miei sembrano strategiche però se sono qualcuna strategica è per caso insomma e quindi però mi serviva mettere a fuoco questo problema comunque e ci ha evidenziato questo problema però faccio quindi c'erano quindi dieci critici dieci artisti senior e dieci allora artisti insomma giovani e quindi poi qui tu vuoi vedere che cosa appunto visto che c'erano dei nomi anti-artisonanti vabbè questi sono dei nomi tipo di scultura insomma io penso che qua alcuni nomi li conoscete alcuni no no però io studiando riparando i miei corsi di storia e l'arte quando insegniamo all'accademia ancora adesso anche io all'accademia non ho mai fatto anche lì c'è i corsi di storia dell'arte come li fanno normalmente ma non perché quelle non vanno bene cioè non me li sento insomma c'è il libro di racconto quello che c'è scritto nel libro c'è io ho sempre considerato incidenti delle persone oramai che hanno 18 anni cioè se non sei in grado di leggere tutti diciamo hai sbagliato scuola insomma e c'è quindi il libro dell'arte povera tra leggi fanno il programma per leggi studiare io cercavo invece di costruire dei discorsi di storia dell'arte che partissero dalle origini dell'umanità in giorni e ostri quindi dei discorsi anche qui sempre non è perché è meglio ma perché io riesco bene a fare queste cose quelle altre cose mi annoia le insegnerei male insomma eccetera e anche perché per dire agli artisti voi gli studenti che sono gli artisti praticamente no? ehm cioè secondo me non dovete fare arte pensando a quella che ha fatto quello prima che comunque dovete conoscere ovviamente insomma ma dovete pensare all'arte con qualcosa di più over che vuole è chiaro gli uno fa quello che vuole ovviamente allora studiando questa cosa qui mi son detto allora perché l'arte ha un valore insomma per l'umanità anche no? cioè al di là della storia dell'arte in genere allora noi se noi andiamo a vedere la storia dell'umanità vediamo che in tutte le culture c'è il diluvio universale ma in tutte le culture comunque in tantissime in tutte le parti del globo l'uomo è stato fatto modellando del fanno dell'argilla quindi è stato fatto come una scultura ma se noi lo vediamo così è una storia della Bibbia eccetera ma in realtà la Bibbia è un libro darwiniano senza saperlo cioè è un libro della favore dell'evoluzione perché allora voi sappiamo poi io volevo anche dei testi non solo originali ma dei testi che conoscono tutti per cui questa cosa che raccontano gli studenti che hanno delle chiave voglio poterla raccontare anche a chiunque allora Dio nella Genesi praticamente crea tutto con la parola la cosa più semplice è di creare l'uomo con la parola sia le stelle sia l'acqua sia l'acqua però esiste poi c'è tutta un'altra storia di cose climatici comunque l'acqua preesiste a Dio e nella Genesi si legge che lui crea tutto l'acqua non la crea esiste già viene nominata come che la separa dalla terra ma c'è quindi preesiste a Dio l'acqua e quindi mi sono detto ma perché questo qui crea tutto con la parola poi crea l'uomo crea come una scultura la cosa più semplice era sia l'uomo che l'uomo non variva non è più logica è come per esempio nella questo e sono le storie perché questo è quello che l'ha scritto l'hanno scritto gli opere che i libri divini spiegati ad altri fanno scritto le persone che osservavano quello che loro erano riflettevano su loro stessi ecco e allora se se lo crea con le mani per quali motivi lo crea con le mani allora perché ha bisogno di creare l'arte ha bisogno di creare l'artigianato cioè l'uomo deve giustificare perché vediamo di un eco pastorico in cui deve essere giustificato dal divino nelle azioni umane quindi deve giustificare l'aspetto no? ehm artigianale plastico insomma eccetera poi crea la medicina perché anche lì poteva plasmare anche Eva no? perché non la plasma prende una costola e lì un atto di clonazione poi la chiesa come la clonazione in realtà nella bibbia già si fa la clonazione insomma eccetera e allora poi mi sono detto ma allora tratti questa cosa qui non è tutto io non invento io perché se voi leggete le vite del Vasari il Vasari parla appunto quando va a parlare di Michelangelo preme più o meno è premesso del grande scultore divino Dio che creò la scultura dell'uomo adamo bla 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 lo scultore è Michelangelo ovviamente no? perché tutte le vite del Vasari sono toscanocentriche e poi per arrivare Michelangelo e e e allora io cosa ho un giorno indagato ma fammi vedere un po' che è successo nelle altre però questi nomi che sono sono i nomi di persone divinità che hanno creato l'uomo come viene creato nella Bibbia ma alcune preesistono prima della Bibbia per esempio Enchi che non è un uomo è una donna è una divinità perché in alcuni casi è un uomo comunque Dio non ha sesso però è rappresentato sempre come un uomo no? non viene mai rappresentato come una donna poi vecchio con la barba non si capisce perché no? ehm 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 è una divinità ehm sumera che era che è una civiltà che preesiste a a Israele insomma e quindi anche alla Bibbia eccetera ed è viene creata l'Evra è una dea che crea l'uomo sul tornio del vaso quindi intanto allora che cos'è questa cosa? il vaso che dicevamo prima volevo arrivare anche a questo è una cosa che era una delle prime sculture dell'umanità fatte come viene fatto l'uomo cioè plasmando un pezzo di argilla insomma eccetera inventando il vuoto e il pietro no? ehm Knum è una divinità egizia è un dio egizio ed è proprio chiamato Dio Vasario quindi è chiamato Dio Vasario e ci sono appunto degli affresi appunto in Egitto in dei templi in cui c'è appunto questa divinità che lui ha figurato Antonio che plasma l'uomo insomma eccetera la Grecia la Grecia si allarga ci sono tre esempi di creazione dell'uomo e della donna perché per esempio Pandora è una donna che viene creata come una scultura e poi il vaso di Pandora insomma eccetera Prometeo che è una semidivinità se voi andate anche su internet c'è per esempio nel museo di Madrid un sarcofone del secondo secolo dopo Cristo romano dove c'è tutta una ragione degli dei e al centro c'è Prometeo che è seduto e tiene sulle ginocchia un uomo che ha creato e poi in piedi tra le varie validità l'unica che osserva Prometeo perché gli altri sono distratte altre cose e questa in piedi che mette sulla testa una farfalla tutto il marmo ovviamente e questa qui è Atena che infonde l'intelligenza e l'anima all'uomo che è la stessa cosa che fa Eva però nella cultura giudaico-cristana deve essere c'è il peccato c'è la punizione a differenza di quella greca e quindi Eva ovviamente è malafemma compie il peccato eccetera eccetera senza fare la punta dell'essere della Louise e allora quando noi vediamo per esempio ce l'avete in mente penso questa famosa opera delle Giro Boetti io che prendo il suo rottolino il 16 gennaio mi pare del 69 è praticamente una specie di pupazzo stilizzato fatto con le palline di cemento che lui con le sue mani l'ha presa quindi c'è questo gesto di plasmare e di costruire l'uomo e questa farfalla c'ha sul petto e questa figura in questo stato ritratto c'ha sul petto una farfalla gialla la conoscete insomma questa opera è un'opera famosissima di Boetti è uno dei capisanti dell'arte povera quindi vedete come li andiamo a me non mi interessa anche perché è stato detto e ridetto il cemento la civiltà industriale l'ideologia materiale dell'arte povera a me mi interessa andare scavare di più andare fino all'origine cioè nel senso a Boetti che cosa mi dice rispetto all'origine anche dell'umanità insomma e quindi noi andiamo con quella scultura di Boetti ma poi ci sono tanti altri esempi che possiamo così poi Pura e anche questa è una divinità greca questo lo trovate in un mito dei 272 miti questo libro si chiama Favole raccontato da Igino che era un bibliotecario scrittore romano dell'antica Roma che racconta tutte queste mitologie greche la favola 221 racconta la favola di Pura poi ci sono tutti i curatori quindi il curatore è un personaggio mitologico infatti è un personaggio mitologico perché tu ne rispetti pure delle persone tra l'altro io a differenza di tutti i curatori che sono tutti i curatori indipendenti io mi definisco curatore dipendente perché io sono dipendente dall'arte questa cura che sembra un altro mito greco perché loro erano specializzati in miti ce ne hanno tantissimi questa qui praticamente attraverso un fiume esce dal fiume e vede tutto questo fango bello su cui lascia le ore insomma che è bello questa materia e plasma l'uomo anche lì poi Giove vede che ha fatto questo personaggio così bello arriva e dice ah beh beh sono il capo dei dei adesso gli do il nome a questo essere che tu hai creato e lei mi dice no ma l'ho creato io non voglio dare io il nome che si ripete comunque in senso allora chiama Gea che non è la figlia di Politi ma è la moglie di Giove no? la chiama difesa e quindi ci riesce tutta una diattiva insomma chi dà il nome chi non dà il nome insomma eccetera eccetera si indicano poi arriva Saturno che allora lui mette pace e blocca le cose arrivano a un accordo praticamente vabbè tu gli dai il nome fino a che non muori poi quando muori ogni nome Giove gli dice insomma eccetera quindi hanno un'idea della cura vedete poi Qutale allora Luua è una divinità cinese che ha creato anch'essa l'uomo sempre dalla fango che è stato arrivato nel fiume un po' come cura però lei non ci mette le mani prende una canna del fiume si tira fuori ah no scusate prima le fa con le mani poi dopo un po' si stufa dopo qualche ora e prende una canna sta con la canna e infila la canna nell'acqua e tira fuori il fango appunto sulla spiaggia e poi è interessante perché c'è una già un'idea di divisione di classi perché praticamente la mitologia lui ci racconta che i primi uomini creati che lei ha creato con le mani sono la castra dei nobili sono tutti perfetti belli questi creati così un po' questo pezzo di carne che brittava così eccetera eccetera sono invece la breve poi sono fatti male sono un po' brutti insomma e così via poi qua non l'ho messo però c'è anche per esempio negli asteti c'è una la mitologia che l'uomo viene creato sempre con l'argilla però a forma di vaso panciuto in realtà lì viene creato una donna quindi come vaso panciuto come donna incinta praticamente e Allah uguale a quello di Dio cioè sempre quest'uomo che viene creato nel corano si parla di fangotintinnante si parla che vuol dire fangotintinnante vuol dire quello appunto dai cocci dei vasi quindi questo vaso che ritorna che continua insomma a ritornare sempre e quindi cioè è interessante insomma capire come qualunque cosa che noi il vaso lo consideriamo una cosa appunto quotidiana eccetera invece c'ha delle ragioni profondi c'ha delle delle storie profonde e tutte le culture hanno i vasi d'argilla cioè noi andiamo a vedere la prima forma di plastica e di cioè non è la costruzione dell'uomo ma proprio il vaso perché era comunque l'idea di fare un'opera che avessero una funzione utilitaria fuori tutto come fuori luogo ah ecco questo è quello che avevo detto prima critico curatore paesano parrocchialo dipendendo dall'arte l'avevo messa da qualche parte non mi ricordavo e va beh paesano perché appunto io mi rendo un paesano ancora e tra l'altro e poi parrocchialo perché appunto cioè io non credo nel senso come tutti noi siamo tutti battezzati altresimati perché si usa quelle chiesa queste cose qua però mi interessa molto tutto l'ambiente della chiesa ovviamente sia quella delle passate perché ovviamente senza la chiesa tanta arte non ci sarebbe cioè la maggior parte insomma dell'arte non ci sarebbe anche l'antimità cioè i templi erano uno delle chiese non cristiano erano delle chiese greci quindi insomma è così dire e poi dipendendo dall'altro quello che l'ho detto insomma è così dire compagni questo non lo buttiamo in politico perché dice lo buttiamo in politico compagni perché compagni questa parola che si usava tantissimo quindi negli anni 70 poi dopo c'è il crollo delle codici dell'ideologia alla fine delle loro narrazioni illuministi ma anche comunisti eccetera però compagni tutti quelli di sinistra questa è una brava compagna che voleva dire tanto insomma quelli di destra erano camerati per esempio e allora qua entrando questa cosa dei compagni che prima ho accennato in qualche modo e qua vi faccio vedere un po' le differenze di come cambia il mondo insomma dell'arte questa qui è un'opera di Max Ernest del 1922 Surrealismo e questo si trovano tutti il primo museo di Colonia e l'avete avuto esami quindi l'appuntamento che incontro degli amici è ambientato sulla luna perché la luna era un riferimento uno dei surrealisti come anche il gioco e il giocattolo sono così e i compagni vedete ci sono tutti i vari Max Ernest con i capelli bianchi a sinistra quella con la mantellina rossa e André Breton che è appunto diciamo il capo il teorico del surrealismo questo con anche un altro problema cioè nel senso che tutta l'avanguardia praticamente si sono stati fatti manifesti appunto come sapete non sono dei poster ma sono dei testi degli iscritti con dei programmi perché si rifacevano al manifesto del partito comunista che è questo libro di Marx che viene pubblicato nel 1848 dove Marx enuncia appunto una teoria di riflessione rispetto a un'epoca della rivoluzione industriale che era iniziata e quindi un progetto politico di cambiamento eccetera ed avanguardia fanno dei manifesti in questo senso vengono chiamati manifesti proprio per questo infatti loro non parlavano solo di arte nei loro manifesti i manifesti erano manifesti politici perché l'idea era quella di arte e vita no? quindi l'arte doveva avere l'importanza della vita doveva cambiare doveva cambiare la vita e c'è una condivisione tra gli artisti e diciamo quelli che poi scrivevano manualmente in alcuni casi che scrivevano gli artisti stessi Marinetti per il futurismo per esempio no? erano anche loro artisti poeti insomma e così via dopo con le diciamo le neo-avanguardie soprattutto agli anni 80 in avanti questo non succede più la trans-avanguardia non è un manifesto anche l'arte povera sono dei testi teorici che mettono insieme delle cose che stanno succedendo ma gli artisti lo condividono per opportunità diciamo no? ma non è che si sono seduti insieme a volitorio a scrivere cosa vogliamo dire cosa non vogliamo dire quindi è uno spartiacque ma è così dappertutto non è solo appunto in Italia questa è una cosa cioè non è che in Italia non troviamo più manifesti e ritroviamo anzi in Italia su questo da qualche punto di vista tra virgolette è il ritardo se vogliamo nel senso che l'ultimo manifesto tra virgolette diciamo della storia dell'arte è la transavanguardia ma non è che in Germania dove c'erano artisti diciamo similari ci fossero dei quiz che avevano fatto un manifesto che gli avessero dato un nome transavanguardia o qualche altra cosa e così via tra l'altro anche già negli anni 60 il manifesto dell'arte concettuale l'ho scritto un artista da solo e proprio si stava scaricando questa cosa del manifesto come voleva diciamo la manguaglia poi c'è Tostoievski il numero 6 poi il numero non ricordi che il numero è con Graffaello si riconosce insomma e poi tutti gli altri artisti art numero 3 insomma e così via De Chirico vedete quello lì quella è Gala vedete quella Gala la moglie di Dalì la moglie di Dalì tra Gala e De Chirico appatti sono considerati come due muse ispiratrici del surrealismo e quindi De Chirico che era appunto un punto di riferimento molto forte per i surrealisti che poi li negheranno quando poi negli anni 30 De Chirico si mette di piccina alla maniera all'antica no? si definisce Petroptimus insomma e per questo viene amato poi degli artisti postmoderni insomma però ecco la cosa interessante qua è che vedete sono tutti artisti poeti sia viventi insomma che sia di inferimento insomma insomma mi sembra che ci sia anche rispetto a quello che dicevi prima Sanzio e Dostoevsky che non sono proprio dei contemporanei a prescindere che l'arte è sempre contemporanea però non sono proprio dei contemporanei cronologici qui a Vamonte non ho però però appunto erano dei come dicevo io mi faccio Pinocchio forse le facevano Dostoevsky anche a Freud poi però Freud l'avevano aveva rifiutati i surrealisti quando loro gli avevano detto che per loro erano molto inspiratori poi l'aveva preso per quattro contemporanei mi ha detto non c'entra di niente insomma eccetera e quindi ci sono o gli surrealisti questo appuntamento degli amici questo ritrovo degli amici e sia appunto con gli riferimenti sia viventi come Teghiere con Gala oppure come appunto Dostoevsky Raffaello che sono gli riferenti storici questa qui è la prima mostra in assoluto che io ho fatta la prima volta che la tiro fuori perché mi è saltata fuori facendo un traslogo da Como a Moncaglieri finalmente mi è saltato fuori questo Depriano che praticamente forse alcuni di voi conoscevano alcuni di loro no quei giovani no i professori sicuramente e questa era appunto una mostra fatta in questa galleria che è esistita per pochi mesi a Bologna a Guido Lotti nelle galleria Lotti in via San Felice in centro che era un corniciaio che Leonardo Santoli e Leonardo Novali avevano convinto a fare delle mostre perché avevano uno spazio che non utilizzavano quindi fanno questa mostra che in tre Luigi Mastrangelo e Leonardo Santoli e Leonardo e Leonardo Novali e mi chiedono ma io stavo ancora che studiavo ancora insomma comunque vivevo a Bologna e Luigi Mastrangelo che viveva a Commenzi e aveva altri questo 82 e vivevamo in quattro cinque studenti in un appartamento come normale fuori sedi insomma per diventare le spese eccetera lui ci ritorna un giorno e mi fa facciamo una mostra eccetera eccetera perché abbiamo da uno spazio abbiamo pensato che tu potresti fare e scrivere il testo insomma della mostra ma io non ci pensavo neanche a fare questo cioè nel senso io venivo dal paesella di Montagno e non sapevo neanche cosa fosse l'arte contemporanea queste cose qui io pensavo di fare professore di laureare e andare a fare professore e e io ho detto siccome sono abbastanza inconsciente insomma disponibile come dicevo prima ah va bene e allora mi sono messo a fare questo scrivere questa cosa che mi ha scritto una settimana dieci giorni a scrivere queste quattro cose che ovviamente oggi scriverei mezz'ora e e poi una cosa importante che sono andato a allestire la mostra con loro e mi si è aperto un mondo perché durante l'allestimento di questa mostra e anche lì ci abbiamo messo una settimana dieci giorni a allestire perché oggi allestiremmo anche lì in 2-3 ore però sapevano tante queste cose sull'arte contemporanea il sistema dell'arte perché io non sapevo veramente niente non sapevo e e mi raccontavano tutte queste cose qua per cui io essendo quasi a giuno perché assorbivo tutte queste cose qua mi si apreva un mondo cioè a Modena c'era la transbambuaglia che era appena esplosa faceva le mostre la mazzuaglia non sapevo niente quando mi hanno raccontato tutte queste cose poi le andavo a vedere insomma io mi ricordo allora non mi conosceva ancora personalmente ma mi ricordo cucchia insomma all'inaugurazione mi ricordo le opere bellissime insomma così e quindi per dire come questa cosa dei compagni è una cosa dei compagni di strada che è una cosa importantissima insomma lì mettersi a fare le cose insieme ai compagni agli amici insomma cercare di sviluppare insomma il lavoro perché da lì nasce anche il primo confronto il primo arricchimento ah ecco sempre in questa storia dei questi ritratti questo mi sembra sembra santo sì questo è allora quello è un ritratto con uguala pietra no? questo è invece un ritratto con salvo che forse è quello che mi rappresenta eh eh più di tutto no? però anche qui noi possiamo parlare per ora sulla teoria dell'idioto che c'è l'astoriasi che abbiamo detto prima a Lars von Trier il manifesto del cinema dell'idioto insomma eh e avevano una categoria assieme al medioevo ma coloro che non sapevano né leggere né scrivere certo ma anche nei qua dei di Bosch quando vedete quelle persone che hanno un testo e un imbuto e l'idioto che viene in testa e un imbuto insomma eccetera e questo è salvo che è stato appunto un mio amico uno degli artisti con cui ho lavorato di più ha fatto anche la mostra a Bergamo insomma anche lì quando ne sono sono filata più da anni insomma la mostra personale insieme a Basilico faccio una mostra uno tutto bianco e nero uno tutto a colori una cosa interessante è che dipendere pareti di nero come l'avevo dipinto per salvo a furioso e poi più avanti ne parliamo perché il quadro di salvo su delle pareti nero diventano un'altra cosa che deve essere interessante e infatti ci sono state molte persone in quella che sono venuta a vedere quella mostra che odiavano salvo che mi hanno detto ma salvo non è un artista non è una pittura non l'avevo capito insomma eccetera quindi questa è una teoria dell'arrestimento ma anche lì io non è che l'avevo ragionato questo allestimento cioè in questo caso si l'agame ma quello nasceva da una mostra di fuori uso che poi vi racconto dove i colori erano fondamentali vabbè queste vabbè alcune opere di salve il suo lavoro con la fotografia con il tratto come Raffaello salvevivo salvo insomma sono i lapidi queste opere assertive e poi vabbè quello San Martino che taglia il mantello col povero che quell'opera che lui fa prima ancora dell'Aberanza Maguaglia perché lo fa nel 72-73 e lo espone a Sperone cioè dove apri di cielo perché a fine allora Sperone è una galleria dell'arte povera il colore questo sconosciuto la pittura il colore le figure insomma però nonostante questo c'è Sperone mi fa la mostra c'è entrano in collisono in dibattito però questo non toglie che salvo è stato fino alla morte amico di Poetti sono rimasti amici e anche di Paolini perché Paolini è quello più lontano dal lavoro di salvo pittore insomma eccetera però il riferimento di Paolini è De Chirco per esempio che il pictor optimus quindi le strade dell'arte sono infinite quindi queste separazioni queste dialogie io non ho mai fatte le mostre mettendo solo concettuali solo io ho fatto quasi sempre tutte mostre mescolando sia tendenze e anche generazioni mi interessa proprio il confronto a 360 grammi allora questa qui è un'opera di Giulio Aldugini ah si? si che praticamente c'era una mostra c'è uno spazio a Torino io ho dato un paio che è praticamente attaccato a Torino sulla govelina e quindi frequento Torino tutti i giorni e là c'è insomma molti spazi questo spazio che si chiama osservatorio Futura che forse l'avete finito nominare che è uno spazio che fanno mostre insomma gestito creato da questi due giovani curatori Federico Palumbo e Francesca Disconzi e dove io vado sempre insomma loro mi chiedono sempre dei consigli o di fare delle cose con loro insomma eccetera e loro facevano questa mostra con un catalogo in realtà qui ci puoi scrivere un testo anche di introduzione insomma eccetera una specie di padrina che questo è un altro terreno che ho coltivato sempre quello dei rapporti con i giovani non solo artisti ma anche curatori mi faccio tre quattro nomi insomma Stefano Raimondi e io che ha lavorato con me alla gamica Alessandro Abbottini Vincenzo De Bellis sono tutti ecco Bruno Roccasalva sono tutti curatori e curatrici ma potrei fare anche degli altri che io li ho presi a lavorare con me quando nessuno li conosceva non c'era una scuola di curatori ma lui De Bellis ha fatto la scuola di curatori al macro quando c'era Ecker che voleva venire e scelse di venire a Bellino a fare lo stage poi in là si fidanzo con Bruno perché io non so le aiuto a diventare a perdere la possibilità coppa e guai mi disposo pure insomma ecco pacchetto con bene perché io quando faccio le mostre si muore ciglia quando faccio le mostre e coinvolgo i curatori quando c'era la gamica che venivano a fare lo stage io non ho mai fatto fare una cosa a un giovane curatore cioè come arrivavano dal momento in cui arrivavano dovevano fare tutto operativi a partire da curatore io come ti butti nella piscina se non sai notare affonti la vita e quindi devi notare quella però a me è anche perché la mia storia è così cioè io ho cominciato come vi dicevo prima per caso con degli amici che mi dica facciamo una mostra poi a lei ne ha fatto che mandiamo però sempre da solo cioè inventavo delle molte insomma questo è un tema tra l'altro interessante perché è un tema per quanto riguarda il corso nostro che si vede di estrema attualità perché si sta parlando proprio su questa figura che un tempo veniva definita militante in un certo senso abbiamo parlato di una referenza di impegno di agere una referenza politica che però può dire per vero riguardante il cittadino appunto quello che ci sta testimoniando Giacinto dove questa sua carriera è stata una carriera di frequentazione appunto di essere alla pari con gli artisti ed essere in dialogo si questo è successo perché io non sapevo non avevo i codici come dicevo prima no? vedendo così all'improvviso cioè noi andiamo a vedere gli anni anche qua era un giudizio di valore è come un racconzale no? se noi vediamo quegli anni cioè noi vediamo che Francesca Linovi Roberto D'Aolio erano allievi di Barilli e fanno le prime volte con Barilli Barilli poi diventano assistenti di Barilli Francesca è successo quello che è successo oppure Laura Gerubini Antonio Davos altri che abitavano con Bonito Oliva altri che abitavano con Piliberto Mello cioè facevano insomma assistenti collaboratori delle mostre ma loro non comparevano mai però cominciavano a fare ma io non sapevo che si facesse così capito? non è che l'avevo fatto perché che figo questi pedronatori che se ne frega dei critici importanti di quelli la ma io proprio cioè non avevo questa percezione perché non ero cresciuto all'interno del mondo dell'arte no? Certo quindi un'ignoranza che è un'ignoranza germinativa quindi facevo cioè poi non c'era neanche scuola di oratore facevo perché mi faceva fare così la seconda mostra per esempio è stata la mostra no è stata la terza di svolta perché la seconda mostra facciamo la mostra coinvolto un altro curatore che poi era smesso ma non fare più di Alberto Bellizzolo abbiamo fatto una mostra che si chiamava la linea d'ombra con i loro tre di prima maestranci, ronovalli e santoli perché erano tutta questa mostra da prima che abbiamo fatto che imparavo tutte queste cose avevo anche capito che quando andavo a cominciare a mostrare se facciamo trattenere e basta devi comunque alzare ogni volta un po' no? Certo cioè non andavo a nessuna parte io oramai leggevo le chart le art form e tutte queste cose qua mi informavo cominciavo a frequentare le mostre e e dico ma facciamo un'altra mostra che bella però non possiamo fare noi tre cioè noi quattro ma dobbiamo mettere un paio artisti stranieri almeno tedeschi perché loro hanno l'avanguardia la pittura insomma eccetera 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 e io sono andato a Bologna con l'altro stop se voi non vi racconti più sono andato a Bologna con l'altro stop dove aveva una fidanzata tedesca e praticamente la fortuna voluta li andavo proprio per vedere degli artisti giovani poi la fortuna voluta che questa mia fidanzata Bettina Bertzel condividesse l'appartamento con degli altri di voi uno Martin Rehbein che studiava medicina il cui fratello faceva l'artista Thomas Rehbein che poi dopo diversi anni dopo 10-15 anni ha smesso di fare un artista e poi facendo l'istra se siete andati altissimo vicesentro per esempio la valeria Thomas Rehbein di Colonia e quindi mi presento suo fratello e con suo fratello cominciamo andare a vedere gli artisti giovani eccetera eccetera e alla fine io prendo lui ovviamente e uno che si chiamava Rosemary Crocker che ha fatto una mostra collettiva non ha fatto ancora niente e quindi io espongo i tre italiani insieme a Rosemary Crocker e Thomas Rehbein poi Thomas dopo anni ha smesso di fare l'artista perché vedeva che non ce la faceva e fa il gallerista comunque in una buona galleria e Rosemary Crocker è diventata una star mondiale insomma e tra l'altro lei nei cataloghi mette sempre una mostra del sangue perché lei tra l'altro venne all'inaugurazione con Monica Sprout che apriva la galleria infatti lei è diventata uno degli artisti Monica Sprout questa cosa dei compagni degli amici che si mettono insieme che hanno delle visioni insomma un progetto insomma e quindi li appoggiamo poi le faccio un'altra che è Palazzo Parlese a Ortona che è una regione sempre fortuna vado dall'assessore di Ortona a chiedere se si faccia fare una mostra in questo spazio e gli chiedono se vedevano 3 milioni per tutto catalogo, manifesto insomma tutte queste cose qua poi si convince perché noi l'anno prima avevamo fatto una mostra curata da Giorgio Portenua con tutti i super artisti di allora Alice Ecock Caglio Costa altri insomma non mi ricordo e allora faccio questa mostra qui e anche lì perché ho sempre ragione sui cataloghi faccio un catalogo dove un'adrenaline artiste tra l'altro anche lì c'erano in mostra Silvano Servillo e Pasquale Liberatore e anche altri diagnosi insomma e faccio questo catalogo la nostra si chiamava linee di scambio c'è questa linea di esempio dello scambio eccetera faccio un catalogo dove metà c'erano il mio testo introduttivo eccetera e poi ci sono le foto degli artisti una foto per ogni artista e poi l'altra metà la chiamo sketch e questo è il 1984 sketch di tra i tre non esisteva ancora no non è un libro che cosa non si chiama l'hanno preso dal mio catalogo e quasi nessuno conosce questo catalogo comunque era un catalogo proprio di 100 pagine che si chiamava sketch in cui io avevo chiesto tutta una serie di critici che giovani che conoscevo che mi avevo contattato insomma perché poi in quella dimensione lì all'inizio così si è anche molto più un libro perché non pensano perché mi dice mi dice ci vado vai stai pensando al tuo lavoro stai pensando a questa cosa quindi anche voi dovete buttare soprattutto adesso perché ai giorni ci ricordo sempre ai miei studenti quando avete la vostra età difficilmente le dicono no cioè quando vuoi andare a parlare con un artista con un curatore perché un giovane fa sempre un po' ti fa ricordare quando tu ricominciare insomma magari magari non nasce niente però comunque riesce a parlarci insomma se è una cosa da dire insomma questo però è successo così quindi posso raccontare insomma questa cosa qua e quindi questa parte di sketch era tutta una serie di testi e piccole immagini sulla creatività giovanile in Italia nelle varie regioni ovviamente era lo sbaraglio quindi io conoscevo poche persone ma anche in Lazio per esempio ma non manca per me ma anche perché chi aveva chiesto non faccio i nomi di farmi il test mi aveva detto di sì e poi non me l'ha fatto quindi è uno stronzo perché io preferisco e tu mi dici non te lo faccio io cerco un altro io cerco un altro capito insomma è anche la volontà io è uguale no? e e succede comunque la stessa cosa io lo chiedi a Ciavogliello perché io scrivevo su Giulietta Boreani Ciavogliello io non lo conoscevo lo chiamo e mi dicevo con noi collaboriamo vuoi impararti un progetto ecc mi ricordo mi ricordo la Galleria Vittorio Emanuele a Milano e gli chiedo ma questo progetto lui mi dice vada non te lo faccio lui è veramente onestissimo non me la sento di parte però venga l'inaugurazione propongo la recensione un'articciata e gli ho detto va bene sono quasi menti forse l'inaugurazione che allora ci voleva tipo una giornata per arrivare la mattona invece perde l'inaugurazione quindi in questo catalogo ci sono tutte queste sezioni no? c'è la Toscana c'è l'Emilia Romagna l'Emilia Romagna l'Emilia Romagna l'ho scritto io no? però si parla di tutto cioè il Piemonte aveva fatto Francesco Poli Francesco Poli benché fosse già uno famoso perché aveva già scritto il Sistema dell'Arte per la terza io non conoscevo il chiamato l'ho incontrato l'Arteca della Cosa non ha fatto cioè è stata veramente una persona anche in una città intellettuale e anche umana insomma così c'è la Maria Campitiare che è scomparse da poco il Fiume della Venezia Giulia insomma da Campania con Gabriele Perretti sconosciutissimo se vi racconto di quando Gabriele è troppo bello prendo il telefono e mi metto in contatto con gli amici dei comuni sconosciuto c'è un appuntamento nella stazione di Napoli per segare i balli e io sono vestito così così arriva per cui aveva fatto sociologia allora forse mi aveva detto forse c'è una voglia o qualcun altro perché a me c'è una voglia che ha fatto sociologia e di Caserta c'è una voglia per esempio Gabriele Perretti non è nato nel paesino Saviani mi sa che si chiama il paese per esempio di Perretti arrivo alla stazione vado a incontrare perché c'era un appuntamento e questo qua aveva questo vestito grigio con questi lavori larghissimi con una cravatta a Bordeaux con un nodo grandissimo sembrava un sindacalista di allora come si vestivano con i sindacalisti con la cartella in mano di cuoio e poi neanche veramente diverse perché c'è un testo bellissimo tutto visionario perché Gabriele sembra un critico molto molto bravo poco considerato per esempio secondo me queste sono le cose italiane insomma vabbè insomma e quindi faccio questo catalogo ci ha voglia di venire si presenta all'inaugurazione con mia grande sorpresa perché io pensavo ai corsetti no? viene porta a Puliti propone la recensione a Puliti e poi Puliti la fa recensione io non avevo nessuno cioè ne conosceva nessuno e poi esce questa recensione insomma così eccetera poi dopo un mese la recensione esce il numero novembre a dicembre mi ricordo ero nella vacanza di Natale a casa dei miei genitori mi telefono buongiorno buonasera sono Giancarlo Puliti io pensavo fosse lui il giovancio non ci prendeva per i fondelli che gli stesse facendo uno scherzo perché i danni non conoscevo Puliti non li avevo in mano neanche incontrato e non sapeva neanche la voce quindi non potevo riconoscere la voce eccetera e quindi come ci può prendere tempo cioè lui mi diceva ma no perché lui mi percorreva un articolo su Flesciazzo la giovane alte in Emilia Romagna due numeri prima è riuscito un articolo di Claudio Cerritelli su Flesciazzo su Flesciazzo su Flesciazzo per cui è ancora più sospettosa due numeri dopo già un altro articolo che non lo faceva mai questo è Luigi che no perché abbiamo visto ci ha portato il catalogo abbiamo fatto una mostra io e Elena ci è piaciuto moltissimo tutta questa ricerca questa documentazione e poi il politico come sapete cioè negli ultimi anni ha fatto sempre queste cose delle ricognizioni delle regioni insomma eccetera allora non le faceva ancora insomma però lui sapeva sempre queste cose delle regioni dove stati così e quindi è venuto queste cose qua e gli asco io ah va bene ok io poi la mattina dopo richiamo me la chiamata da casa la sera richiamo in ufficio e me lo passano e lui è pronto sono ah Giulio Antonio e lui mi ha detto pure che lo ha chiamato per sapere se era vero perché mi ha detto che fosse uno scherzo sempre verificato e niente poi ha detto vabbè poi come si me lo mandi e come si me lo mandi ho pensato me lo mandi si si va bene io lo mando io ho via fax poi io vado lì io lo vado a portare a mano quindi poi sono tornato a Bologna perché abitavo ancora a Bologna dopo l'università sono stati 3-4 anni ancora a Bologna quindi sono tornato a Milano ho scritto l'articolo e sono andato a portare l'articolo e lui poi io quel periodo facevo per mantenermi facevo le polizie e quindi mi ha chiesto varie cose facevo eccetera eccetera e questa cosa che io facesse le polizie per mantenermi per fare il cliente del curatore ma lui l'ha colpito molto e mi ha detto vabbè propone tutti gli attivi che lui ma non mi ha detto questa cosa qua però mi ha raccontato una storia io l'ho raccontata anche altre volte da Mark Horb quando lui si trovava in New York e era andato in un ristorante e Schnapper gli dice se andava a vedere i suoi lavori che lavoravano al ristorante Schnapper e lui ha detto e poi gli ho detto ma domani partiamo in settembre eccetera eccetera e quindi non ci sono andato ho perso questa occasione di andare a vedere insomma i lavori di Schnapper e di scoprire un grande artista quindi raccontandomi questa storia dopo i video avevo detto che facevo le polizie eccetera non mi aveva detto però a specchio che mi ha dato tutta un'apertura di cioè se uno vede le cose di flash art poi magari ne parliamo delle immagini cioè in parte che io ho avuto a parte la figlia sono arrivato a quelle che nessun altro curatore redattore condirettore nessuno mai è stato condirettore possiamo scoprire un po' di immagini che c'è sempre direttore ah no guarda vedete così frequente l'accademia ma niente di serio sistema dell'arte questo è il libro dei maromani dei giovani artisti di Alviggini che prende bene in giro l'opera di Adrian Paci no? poi quello lì questa cosa è nata un po' per scherzo perché glielo raccontavo perché questa cosa di che io non ero nell'arte lui per esempio l'ho incontrato per esempio io a Spalletti l'ho incontrato nel 1990 stavano a 100 minuti eh poi non sapevo neanche se stesse Spalletti che erano tutte queste cose qua perché perché un po' ti spiega adesso allora lui mi dice eh ma c'è ma tu dove è? allora 9 anni eri già flashati da 86 quindi eri conosciutissimi insomma eh e io gli dicevo gli risposi ma io ai tempi di boys facevo il play boys cioè nel senso che io in un piccolo paesino con i miei amici andavamo a parlare tutti i giorni tutte le sere no? per cercare ragazzi insomma quello era il nostro il nostro modo di farci no? c'erano due sezioni c'era la sezione nel mio paese quella che la domenica andavano a vedere la partita la squadra locale all'ettese io mio fratello e altri andavamo a parlare nelle discoteche e quindi nel tempo di boys facevo il progetto e poi ci ha fatto la maglietta ci ha fatto la maglietta no ma perché io non c'ero c'è voglio dire erano i performatini giacinto della sezione ma no erano le persone normali perché a 16 anni vanno dietro il ragazzo o i ragazzi quello che ti facciano voglio dire quello che a me mi interessava a me lo sport non interessa nel senso capisco l'importante quello che vogliamo i vasini quelle che vogliamo però non ho mai avuto attrazione dello sport insomma eccetera vabbè qua io sto appunto un po' divaganto eccetera però questi ragazzi si ricollega alla cosa di prima del ehm le grandi potenziali di Max Herbis questa è un'opera da trovano più opere di Carlo Maria Mariani sono due opere importantissime che però anche qua non vengono valorizzate come dovrebbero essere valorizzate perché queste sono due opere fondamentali insomma nella storia dell'arte perché queste raccontano quel momento storico questo a destra è la scuola di Roma che diciamo il cartone il disegno a sinistra c'è l'olio l'olio è la velenia zona d'arta modella e questo invece il cartone il disegno con delle piccole simili differenze si trova nella collezione di Gerenzo Sperone perché queste opere sono state esposte appunto ehm da Sperone ehm questo qua la cosa interessante di quest'opera come vedete dice vabbè uno dei manifesti postmoderni uno dei manifesti postmoderni perché noi anche qua vediamo tutta una serie di personaggi allora riconosciamo Mario Mertz un Ercole riconosciamo delle fascine adesso qua non si vede bene però a chi spalla vedete la palla è quella è il Gino De Dominicis davanti c'è uno specchio d'acqua qua non si vede bene se lo vede nella realtà ci sono tutti i quadrati che è quella famosa opera di Gino De Dominicis dove c'è un video che lui lancia dei sassi nell'acqua e il titolo dell'opera è tentativi di formare dei quadrati invece che dei cerchi invece quella della palla è la palla fermata un attimo prima del rimballo e anche quella pietra è una pietra che insieme all'ascia è esposta alla mia dell'immortalità insomma nella sua visita tra l'altro se voi andate su Google e mettete onde quadrate nel mare esistono queste onde quadrate cosa che non esistessero esistono in Francia e come sai nel Corfo di Sky comunque nel nord della Francia c'è un punto dove è corrente forma dei quadrati invece che delle onde così se si possa andare si vede anche nei mari della Russia se non mi ricordo quale mare si forma insomma questi quadrati non lo sapevano cioè lui facevano queste battute queste puntate io l'ho scoperto per caso una sera facendo zapping in televisione c'era un programma di focus mi sono messo a guardare e parlava di queste onde quadrate in questi posti in questi posti poi ci sono appunto alcune artiste rappresentate anche come figura come persona dei Tontani tratto di Guarimede e così via oppure vede le Chia con il pazzoletto in testa come nel quadro nelle Camerone di Pasorini il tempo è Francesco Clemente le ticialatele in mano il puttiere per gli reggicolori quello dietro Chia è il barone Franchetti quindi il collezionismo quello proprio sul cavallo con una ostendata è Tuombri lì appunto le mimesi di Paolini le testi di Frassitele che si guardano poi Cuneris lo vedete il terbo il corvo i pezzi di le robine classiche la maschera il flauto che vi faccio appunto anche delle performance insomma eccetera quello lì con la penna d'oca che appoggia la la mano sulla fama è praticamente Italo Mus Italo Mus è un critico che poi è morto abbastanza giovane per un tumore è un critico che seguiva Mariani e quel tipo di arti che aveva creato questa la pittura corta c'era la pittura corta Italo Mus l'ipermagnelismo di Trotto Massone tutti questi italiani e poi Calvesi era l'anacronismo l'aveva chiamato ed erano tutti artisti come Mariani Piluc distasi che prendevano l'arte antica insomma in qualche modo ehm vabbè lì c'è Polito Riva vedete come imperatore per Cesare e là c'era la storia della scultura che prima non vi ho detto per esempio in quella lecita di nome c'è questo c'è anche Butate che non le avevano essere una divinità con la lecita di nome di prima Dio Allà insomma Buttate e Butate Siccioglio che era un vasaio di Corinto in cui voi andate per esempio di storia dell'arte anche su Google eccetera viene chiamato come quella la nascita della pittura che in realtà è la nascita del disegno della scultura poi comunque sono riuscito ancora a capire perché viene denominato come il nascita della pittura che racconta praticamente che la figlia di questo vasagno ehm ehm aveva fidanzato in casa il giorno partiva che era una guerra e non si sapeva se sarebbe tornato no? e allora alla luce era una lucetta mentre lui dormiva che progettava il porto sul muro il profilo divisa anche il profilo poi il giorno dopo il padre per rendere l'oratura queste immagini con della crema modella questo profilo ehm e poi lo cuoce nel forno insieme ai vasi insomma c'è la piaccia della scultura no? anche dal passo rilievo anche dal passo rilievo che dalla che dalla che dalla pittura e qui vedete che c'è proprio una triangolazione c'è voluto lì mettere in mano la profila della sua ombra e qui racconta il mito di ehm di butade e poi c'è la scultura ehm come come risultato però la cosa più importante di questa opera qui ehm vabbè questo è Vettor Pisani questo è Pagni e questo è l'ermafrudito questo disteso quella lì è la Musa Camiene che è una musa tipicamente romana ehm la cosa più importante di questo quadro di cui Mariani era al centro dove porta il mantello dell'Accademia di San Luca l'Accademia di San Luca l'Accademia di San Luca sapete l'Accademia degli Artisti San Luca era il santo pittore per fare la Madonna eccetera che è in mano il disegno della Gorgone però la cosa più importante di quest'opera che non l'opera nessuno l'aveva mai scritto questa cosa qua infatti quando io ho scritto questa cosa qua Speron ha telefonato che ricevo del canale come hai detto ma questa cosa l'ha scritto non lo sapevo non l'ha scritto mai nessuno ma neanche Mariani cioè lui l'ha fatto inconsapevolmente ma perché in quel momento storico rendeva possibile questa cosa qua che cosa? c'è dipingere i danielisti poi avete visto che nell'opera di Max Ernest i danielisti non c'è non c'è il mercato perché i compagni il mercato il capitalismo era il diabo era satana quindi il mercato cioè oggi tutti mettono l'opera all'aste per far salire i prezzi allora chi si ricorda come noi siamo appunto di una certa età quando un artista la deve mettere un'opera all'altra andava in panico cercava di ricomprarla o di far ricomprare le proprie galleristi perché voleva dire che qualcuno si era soddisfatto e quindi che non interessava più il suo lavoro poi ci dicevano spruzzicato l'unico il rabbit un milione di dollari insomma eccetera eccetera è diventato uno strumento di valore ma perché proprio è cambiata è cambiata l'importanza del mercato all'interno dell'anno e questo avviene nel postmoderno cioè però fino agli anni settanta non veniva data questa importanza al mercato ai galleristi insomma eccetera che poi spesso se lui va a controllare i documenti i galleristi hanno fatto le mostre agli artisti molto prima dei curatori dei critici se ti vuoi vedere il pistoletto e lui le più mostre le fanno insomma beh lo fanno ancora con le gallerie con Pistoi Paolini con Pistoi per esempio insomma con la Stein e così via quindi però questa cosa dell'ideologia compagni marxista questa cosa che il capitalismo doveva essere combattuto e diciamo nella maggior parte dei casi diciamo la cultura avanguardia era diciamo di sinistra praticamente non riconosceva queste cose quindi i galleristi dovevano stare sempre un passo indietro no? come le artiste donne marxista 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 le dipinge ma gli dà un'importanza pazzesca perché quello è seduto con il mantello verde la tubica verde e col cappello di Goethe avete presente di Ghelli famose e questo è infatti di Cibain questo artista romantico che fa Ghelli seduto con questo cappello e questo è Paul Menzi che adesso lui era chiuso la galleria a fare il consulente ma Paul Menzi negli anni 70 e negli anni 80 era fino a metà degli anni 90 fino a che non era chiusa la galleria era una delle gallerie più importanti al mondo cioè aveva l'italiana aveva Favro, Salvo, Paolini poi aveva Kiefer insomma Andarboven tantissimi insomma e quindi erano due delle gallerie più importanti quella al centro che sono la figura di passaggio è Maria Diacono che lui è un poeta cioè non è proprio un vero mercato un vero gallerista però lui gestiva la galleria Planita a Roma di questa collezionista come si chiama perché si ritornerà poi lui ha venuto a fare gallerista cioè nel senso si trasferisce l'America a Boston aperte una galleria insomma eccetera e la bestra in piedi è Carenzo Sperone che ha in mano che dipende come un Apollo no? come un Apollo greco quindi non solo sono messi nel quadro in una posizione importante centrale dietro l'artista ma sono messi come delle divinità insomma e sono appoggiati su una scultura quella si chiama la pietra della felicità quella l'indopro la sfera ed è la scultura fatta in marmo quindi una scultura ovviamente concettuale da Goethe perché lui ha disegnato ci ha pensato poi l'ha fatto fare le marmisti che si trova nel giardino della casa di Goethe a Breymar quindi il fatto che lui c'è perché io vado a parlare da Mariano perché mai non ci avevo pensato però il fatto che lui si sente la libertà di poter rappresentare rappresentarli dei stimoli del cambiamento d'epoca del fatto che il mercato comincia a essere riconosciuto quindi al sistema dell'arte critico artista critico e collezionista come abbiamo Franchetti si aggiunge appunto la figura del gallerista e quindi del mercato c'è una cosa che volevo mettere in evidenza che gli unici che tengono mano un disegno un foglio o comunque sia sono un pittore Mariani al centro che mostra e invece Sperone che non mostra ma legge sulla stessa diagonale si quello che legge Sperone come dei valori speculari praticamente si perché quello che legge Sperone sono diciamo ma andiamo insomma sono le istruzioni della mostra che Mariani sta preparando per la galleria Sperone poi si può non si vede perché sono piccolissime si chiama la costellazione del Leone la sopra che è la costellazione che Mariani è nato mi pare verso la metà del 22 23 luglio e quindi si andano nella costellazione del Leone quindi appunto è per questo un altro tratto questo è un altro lavoro di Mariani vedete più tardi perché lui torna su questo tema nel 2018 2016 ci mette anche tanti anni e qua è una guaschiera finita insomma su tela interato anche questo abbastanza grande vedete 1,85 per 2,41 quello la è molto più grande quello era 3,40 per 4,40 quello di prima quindi ma comunque questo è un quadro bello grande e qui praticamente ci sono anche qua per esempio questa qui questo è l'Aureo Perumilli per esempio e poi c'è i tantomassoni insomma ci sono vari curatori però qua ci sono tantissimi galleristi vedete qua Mario Diablo questi sono i numeri che avevamo messo Mario Diablo Barilli Bonito Oliva Cella Cherubini Puglius Witter qua sono tutti critici eh vedete poi cominciano i galleristi per esempio Fliggia Clare che è quello lì con la cosa in testa col bello in testa poi Mattiumaccio un gallerista c'è Cannariello un gallerista Flammann un gallerista poi la Cooper Meri Bonner c'è Svater che è la socia di Sperone Barbara Gladysson Marian Goodman Sperone vedete Lenni Garlaugian sono tutti galleristi quindi vedete come si è evoluto come si è trasformato il sistema dell'arte anche di percezione e come lui può essere libero di fare questi quadri che nessuno dice niente se avesse fatto un quadro così negli anni del surrealismo praticamente l'avrebbero messo all'indice per dire questo per dire com'è è cambiato la cosa la cosa ropa alcune sono gallerie con cui lui lavora o ha lavorato insomma e poi c'è anche Mariani ha dettato sei anni quello piccolino lì che è al centro alla base della colonna e così via vabbè poi c'è Grisciaprata che ha aperto lo spazio l'organismo che conoscete galleria romana insomma e così via vabbè questo flash art l'abbiamo già detto prima insomma queste sono copertine di quell'epoca in cui io lavoravo a flash art che avevo Volo Pasquale Pardigiani Vettor Pisani De Vissalle Luciano Fabro Vettore Spalletti Vimopoladini Viterbi e qua insomma ci sono perché poi non solo io mi ero arrivato a quella posizione però io non avevo fatto niente non è che mi ero mai riusciato a fare qualcosa insomma lui mi aveva preso un po' l'inzifatia partendo da quella cosa lì insomma e in questi numeri all'indicato ci sono anche 3-4-5 mili articoli interviste una cosa che non si fa cioè in un giornale ma in una rivista però lui mi dà tutto questo spazio questa possibilità è però cioè io politico sono riconoscenti cioè molto riconoscente perché sapete lui praticamente io ho conosciuto mezzo nuovo perché a me lui non mi dava solo lo spazio cioè la mia vera scuola se c'era avere un ripetimento cioè non solo i teici quelle cose di lì ma è appunto politico per dare tutte queste opportunità perché poi lui mi portava da del tutto cosa che non aveva fatto con nessun altro redattore lui con sua moglie erano a Roma quando andavamo a Roma sempre in america in russa insomma e qui andavano in Germania da Polmese andavano con politico quindi un conto è andarci da solo da Polmese un conto è andarci con politico che allora era una potenza mondiale aveva scavalcata anche Artforum perché aveva scavalcata Artforum perché Artforum era una rivista che saremmo avvenuti ideologica c'è la vera dentro Artforum e quindi erano positivi a questo cambiamento postmoderno la pittura per cui se uno voleva sapere che stava succedendo in quel momento che erano gli artisti giovani che esponevano con tutto questo successo poi no? franzaguardi italiani tedeschi americani eccetera eccetera dovevi leggere Prechart e quindi Prechart è diventata una rivista più diffusa insomma è diffusa nel mondo insomma e quindi vabbè insomma luoghi dello spirito luoghi dello spirito questo è la chiesa del mio paese come io sono andato in contatto con le immagini che però non sono immagini importanti come dicono le statue che ci sono nel paese sono tutte copre le briche insomma come sappia però io ero molto affascinato da questi luoghi perché in un piccolo paese come il mio no? dove non c'erano altri non c'era anche la mia famiglia insomma la famiglia proletaria non c'erano libri in casa mia tranne una un'ammanacqua del partito comunista perché mio padre era comunista e comunista e con la copertina esegliata da Vottuso no? prega che si fosse scesa chi fosse Vottuso perché ero piccolo proprio queste immagini mi attraevo quindi sono sempre stato attratto da queste immagini insomma dalle immagini c'è questa e anche il cinema c'era il cinema come tutti quanti della mia età immaginare passando insomma attraverso quella cosa quella cosa lì poi noi qua ci trovavamo ci trovavamo sempre giocato qua fuori vediamo ma va più avanti vabbè questo è un centro di niente però lo metto perché voi sapete che la produzione è il più prontino perché vorrei tanto che questa mostra si facesse ancora e continuasse l'ho già anche detto altre volte al direttore perché questa qui è una di quelle mostre che ho voluto fare perché è veramente un'idea straordinaria cioè fare delle mostre in un museo più o meno sono tutti capaci insomma si conoscono gli spazi si conoscono le dinamiche insomma e c'è qui invece mettersi alla prova no? che dei luoghi messi nella natura pieno di storia pieno di spiritualità poi la brucia sapete considerate il piccolo divet no? viene chiamata proprio per questo numero di così alto di erni quindi questo portato insomma di spiritualità e poi si pensava che era una delle prime che avete fatto no? si questa è la prima edizione partiva proprio da questo presupposto non da l'arte mostrata ma cercata sostanzialmente e poi il percorso per arrivare nei vari luoghi faceva parte in qualche modo proprio dell'opera era proprio quindi era è stata sì un'idea che poi è stata realizzata in realtà proprio grazie agli docenti che si sono messi in via ed è stato con gli studenti ecco che c'erano che c'erano in quel periodo quindi per loro è stata anche una bella una bella esperienza sì un'idea sì un'idea diversa un pochino forse non so mai cosa è un'idea diversa però insomma questa è la pensata effettivamente come quasi un nascondere l'arte non quindi ribattare un pochino questa questa qui appunto aveva un'idea straordinaria perché secondo me qualunque artista che viveva una cosa viene affatto però che gli spieghi di che si tratta da tutto il mondo come abbiamo fatto con Forius poi ci arriviamo insomma ed è veramente perché che fa andare a fare un'opera dentro una grotta in un posto dove c'è stato Celestino V no? ti pone delle cose insomma che cioè va bene il Marx va bene insomma cioè non è una cosa per il museo poi ho diretto il museo per 17 anni insomma la camera e poi io venivo 17 con molta sfortuna che non bisogna essere superstizioso scherzo scherzo però voglio dire questo qui è veramente una mostra straordinaria e anche oltre che essere una mostra in sé è un modello di mostra e quindi che io invito mi prendo insomma perché poi il covid l'ha interrotto anche se poi una cosa così è proprio una cosa covid si 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 ah se l'aveva fatto proprio in quel periodo poi era non era possibile eh? che è successo? ha toccato qualcosa? ha toccato qualcosa che Paolo? ma no questo è un lavoro si si è bloccato se intanto ci sono delle domande o ah si ma qui c'è un balzo temporale di 800 anni si allora se ci sono domande chiedete non è perché io come vedete sono un flusso eh allora come vi dicevo prima ehm si può fare qualunque cosa dipende come fai no perché ci sono quelli che dicono vabbè bisogna fare mostri in certi posti in certi musei dopo se delle mostre faremo di più è il lavoro che vale cioè non è la mostra per sé eh quindi un giorno eh eh vengo chiamato per eh eh degli amici calabresi di Cosenza perché io tra le altre cose adesso qua non l'ho messo ho fatto ho fatto mh ho fatto una selezione in base così con un corso di scrittura insomma eccetera ehm ehm avevo una residenza no a Cosenza? si avevo una residenza che si chiamava Boxart che sono stato chiamato dopo l'ambroso e quindi lì ho maturato delle amici e allora c'erano questi 800 uomo io non andavo più a Cosenza perché poi si è interrotta la diciamo questi boxart perché un po' il Covid un po' per cambiato l'amministrazione in Italia come sapete cioè non è che uno guarda se un eh una cosa va bene o non va bene cioè siccome l'ha fatto per il partito lì il partito dell'amministrazione lo deve cambiare o lo deve chiudere insomma ehm così e quindi però comunque mi ha venuto questi rapporti io mi chiamo diciamo ci sono 800 anni del Duomo di Cosenza ehm ci sono le celebrazioni noi vorremmo ehm ehm chiamarti perché vorremmo noi vorremmo beh il Duomo di Cosenza è un duomo molto spoglio no? ehm ehm con la pietra insomma come vedete no? ehm 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 e quindi in passato diciamo avevano ehm degli stenniardi insomma sui muri di alazzo vorremmo cercare di ripristinare un po' questa tradizione no? ehm ehm con degli artisti contemporanei e quindi ehm mi hanno detto tu che sei un oratore che non c'era gli artisti eccetera ti piacerebbe insomma fare questa cosa e questa cosa qua io non ci ho visto più perché questo qui è una delle cose più belle che mi siano delle opportunità più belle che mi siano capitate sono tutte bellissime le opportunità che mi sono capitate io sono stato fortunato insomma ehm però sta qui una delle più belle perché avere la possibilità non è che non avesse fatto delle mostre nelle chiese a Borbaia diciamo la mostra centrale era una chiesa una chiesetta di questo borgo però qual è una chiesa come dire non sconsagrata cioè non più in uso perché io ho comparato tante cose da questa esperienza che per esempio non esistono le chiese sconsagrate cioè esistono le chiese che non sono più utilizzate ma non sconsagrate perché l'unico modo per cui si può essere sconsagrata una chiesa è se dentro avviene un omicidio se no le chiese non sono mai sconsagrate adesso ecco ci si hanno imparato tantissime altre cose a imparare e allora mi sembrava una cosa di una chiesa di un uomo cioè quella di Borbaia la chiesa c'era pieno un uomo no? ovviamente la chiesa di Cosenza della provincia insomma è una cattedrale e poi bisognava fare come vedete poi sono a tre in avanti nella patria centrale sei otto arcate dalla patria dal lato quindi sedici arazzi quindi non uno o due ecco ma questa disposizione è vera una tua invenzione una tua proposta o? no allora intanto il parroco della chiesa che ha un don Luca Perry dice io la vado a incontrare mi sembra Maurizio Misasi allora il quarto avviene di Maurizio Rico quest'artista nico di Cosenzi che mi ha fatto andare ai box e vado lì Maurizio Misasi che è il presidente della fondazione di Riccardo Misasi per diciamo che gestiva queste cose a livello che faceva l'interfaccia tra la chiesa è meglio insomma o comunque il curatore che sarebbe stata per scelta eccetera e ciao prima domanda che gli ho fatta questo Maurizio Misasi quando Maurizio Rico me l'ha presentato ma scusa ma tu hai qualche cosa a che fare con Riccardo Misasi il ministro della pubblica istruzione fino agli 60 inizio agli 70 eccetera mio padre era mio padre perché non c'è più e allora mi sapevano il nostro mito non perché perché noi eravamo studente in quell'epoca 70 70 70 70 ma struzione di sinistra scuole occupate eccetera eccetera era un mito perché questo Misasi questo ministro Riccardo Misasi che avevano una zia cristiana si era inventata questa cosa nel 72 tutti promossi cioè nel senso che non si bocciava nessuno non si rimandava nessuno tutti promossi e io ho detto anche il tuo padre è stato il nostro mito però poi ha fatto anche la domanda però ma lui ma tuo padre cioè però ti sento poi una cosa giusta tutti promossi che senso c'ha e lui mi ha spiegato c'ha un senso perché quando le preuosi in Italia si hanno delle belle idee poi si mettono in pratica perché cadono i governi perché tante cose insomma cioè lui praticamente aveva un'idea molto avanzata cioè noi facciamo tutti i promossi riformiamo la scuola mettiamo dei professori in più un minimo due per ogni classe i ragazzi soprattutto pensati per i ragazzi di famiglie proletarie insomma come la mia insomma nel senso che non solo che tu non avevi i soldi ma soprattutto che i genitori non avevano la capacità per aiutarti a fare i compiti cioè i figli di Orbegai come ero io non è che potevo dire a mio padre e a mia mamma non so questa cosa me lo spiego perché loro appena fanno la firma o cosa così capito quindi e i compiti si fanno a scuola con i professori di sostegno poi si dà a casa lì divertirsi di giocare eccetera eccetera quindi è come idea di avanzare è certo però allora appunto si parla di partito comunista ma anche la democrazia cristiana era sorprendente in certe situazioni perché lui era demociziale le democrazia di sinistra perché c'erano le correnti erano i Deossettiani di Lapira dove raccontava questa storia di Lapira che andava in Vietnam e andava a parlare come cimini un disagio era un'idea politica completamente diversa per questo potevano accadere queste meraviglie e infatti e quindi mi ha raccontato questa cosa quindi ho capito questa cosa qua e vivere di tutti provarsi e poi ho soffritto anch'io insomma di quella cosa lì e quindi facciamo questa cosa qua mi spiega la cosa e quindi io non ci potevo credere perché parecani queste sono delle opere permanenti cioè mostrano le chiese sconsacrate o comunque chiese non sconsacrate ma abbandonate le facciamo a bizzeffe no? ma qua si tratta non solo di opere contemporane di opere su temi biblici evangelici e permanenti che è una cosa che non si faceva più da 150 anni è una convintenza sì sì è una convintenza è una convintenza c'è c'è per esempio l'esempio avanzi di Matisse in questa chiesa convento delle suole domenicali ma lo sono pochi esempi nonostante i vari papi da Paolo VI Papa Giovanni hanno ripetuto sempre bisognava rifare questo rapporto con gli artisti ma infatti è venuta anche la direttrice dei musei maticani è venuta un mese dopo abbiamo fatto tutta una conferenza una chiesa piena di gente insomma eccetera e quindi vedete qua e e io Don Luca mi ha mandato poi ci siamo conosciuti ci siamo parlati mi ha mandato una mail cioè mai direttamente mi ha dato a Moris non le giravo a me con tutta una serie di temi quindi io dovevo trovare gli artisti e gli ho detto io facevo un progetto per un tema poi la realizzazione veniva fatta da una industria che si chiama Testa in un paese vicino Catanzaro in Calabria che lavora anche per il padre ha fatto anche l'abito del padre ha proprio questo lavoro qua perché sono tessuti per esempio per gli arasi per gli arasi tessuti però elettronicamente non può contenere elettorici e quindi mi manda questa cosa qua io in base al tema ho cercato di capire l'artista che poteva anche interagire interagire portello quindi qua avete visto tutti come si presenta si legge da sinistra verso destra qua c'è la porta però la lettura si parte dall'altare si arriva in fondo alla porta e poi si rigira il gusto feo e quando bisognava poi allora la cosa interessante è che io dovevo far vedere tutti i progetti prima che devono essere approvati quando era Maurizio Don Luca Don Luca Don Luca come vescovo che il vescovo non l'ha visto finiti perché è morto tipo un po' di settimane prima si chiamava Francesco Noe infatti quando abbiamo aperto l'inaugurato non c'era il vescovo perché quello non l'aveva ancora arrivato eccetera e quindi quindi io mandavo questi progetti e poi aspettavo che mi dessero l'ok e anche preoccupato perché se ti dici di no poi con l'artista hai anche un buona figura però io non l'avevo preparata ma ho detto guarda l'accesa e infatti sono stati un paio di artisti che io volevo con l'invoce ma non ho detto no perché non volevano infacciarsi con la chiesa non vi dico i nomi ma comunque la maggior parte quasi tutte hanno detto di sì la prima contata la cosa interessante è che non hanno censurato nessun nessuna cosa no con mia grande sorpresa perché nel senso magari perché ci sono delle cose che sono un po' borderlande io qui pensavo quindi quando si trattava di allestire perché c'era quelle è come fosse un libro infatti il prete ha fatto i santini con le preghiere dietro come con la mamma di Raffaele la domenica quando fa la messa ma ogni giorno è così che parla dal Vangelo secondo quando vediamo la parabola di Gesù cancione mercanti dal Tempio che racconta non so che lo dice ma Gesù secondo Matteo con lui che parla di questa cosa e poi dopo che parla con la mamma di Raffaele e poi dice e poi abbiamo guardate vedete l'opera di questa qua della mercanti dal Tempio che vediamo e ma nel San Bilrof abbiamo un ragazzo di un San Bilrof che era rappresentano la voce eccetera eccetera per cui questo per me è altro che il Max ma non perché l'ho fatto io perché non c'è la percezione perché noi viviamo in un mondo ancora che è anche giusto voglio dire il Max eccetera ma qua questa è una cosa che va a ordine come la cosa degli spiriti degli etni che fate voi cioè noi dobbiamo uscire da questa cosa perché noi su quello possiamo vincere questo non esclude di museo ovviamente mi sto dicendo questo però come fai a combattere col Mova col Compidou facciamo ridere però le cose così nessun americano può fare si si poi una cosa che è il mio peccato è che il mio peccato è che il mio peccato è che io lavoro sulla comunicazione io tutte le cose che ho fatte che hanno quella cosa che vuoi fare insieme cioè non è mai pubblicizzata dovrei fare un libro come un manuale per curatore quello secondo me è un problema direi di quell'arco temporale che non è comunico invece era la base di quello che noi stiamo vivendo però appunto si non è comunicato ma ha una sostanza quindi avete visto qua i nomi già tutto l'elenco di varie generazioni c'è anche Jan Fabre come sapete per l'ammazzo insomma eccetera eccetera quindi quando io poi dovevo dovevo allestire questi arazzi io mi sono reso conto cioè questo non è una mostra cioè nel senso io mi metto questo qua poi mi dicevi di mettere quell'altro artista questo è un racconto io non lo sapevo leggere tutte le tante cose non capivo perché avesse messo quel tema e poi quindi gli ho detto questo devi dire tu come dobbiamo apprendere qual è la sequenza e poi gli ho chiesto perché questo e dopo questo e dopo questo e poi mi ha spiegato certo e poi si capisce se posso dire è molto interessante perché c'è un dialogo proprio tra teologo e artista che era cioè uno dice l'arte concettuale qualcosa di contemporanea no appartiene per esempio in occidente appartiene alla storia cristiana cioè il teologo che dialoga con l'artista e la sintesi tra queste due cose dall'opera dove c'è una parte visibile e una parte invisibile che io trovo una cosa straordinaria ma poi l'iconologo l'iconografo l'artista era così cioè l'opera è collettiva era un portato di collettivo e tutto questo è veramente straordinario anche quanto si diceva dell'opera di Mariani ma l'artista non sapeva questa l'opera quanto ha intuito e quanto appunto è stato intuito ecco nella spiegazione ma perché l'opera è autonoma a certo punto autonoma dall'artista autonoma da tutto quanto che viaggia e viaggia da solo per cui insomma è una cosa che noi non siamo più abituati pensiamo che siamo libri e facciamo quello che ci pare ma invece se noi abbiamo dei limiti non è che dobbiamo avere sempre dei limiti proprio dobbiamo considerare che quando abbiamo dei limiti è interessante anche sfidare questi limiti e confrontarsi con questi limiti cioè l'artista fa anche questo cioè non si spaventa di niente cioè Raffaele tutti questi qua ma noi che non andavano un libro facciano a fresco cioè là c'è un cardinale con cui questo è successo un po' così cioè in maniera morto 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 in minore però la struttura l'approccio è stata quella perché la chiesa sono loro che comandano quando loro questa cosa qui c'è anche dei approfondimenti nei mani sì c'è anche dei approfondimenti quindi ha messo questa cosa qui allora non va ma ecco allora questo è una domanda di sì in qualche modo ti radiciamo anche alla prima osservazione alla partenza diciamo del discorso che si parlava un po' dei luoghi e forse la caratteristica di questo è anche la funzione verità del pubblico cioè non parli i tuoi biglietti da vedere la mostra nel museo ma è uno spazio che frequenti o frequentano le persone che visitano e che vivono quel luogo quindi credo che siamo anche un cambio di di VINCIO beh certo ma questa è una chiesa la gente va lì ad andare in chiesa non per andare a congere molto importante quello dell'alto anche perché questo si conosceva anche poco voglio dire quindi vado a venire perché vado a venire e anche il pubblico un po' estremo cioè adesso man a mano tanti amici che non ci non conosce per vedere però normalmente vanno a vedere la messa ma infatti adesso se abbiamo tempo dopo, ma comunque se no voi andate su internet e vedete su Youtube Trame Sacre Trame Sacre c'è il di Pedro Antonio con Mocosenza c'è su Youtube c'è un video ed è un video che ho fatto io perché l'inaugurazione che per loro non è l'inaugurazione anche la conferenza stampa che abbiamo fatto c'è il predo ha detto prima cosa, prima di dire qualunque altra ecco, buongiorno a tutti allora, siamo qui per parlare prima cosa, non è una mostra questa non è una mostra questa è un'opera spirituale un'opera della chiesa tutto un'altra linguaggio poi abbiamo fatto la conferenza abbiamo parlato poi siamo andati dal museo di De Cesane che è praticamente dietro dal Duomo siamo entrati tra gente insomma eccetera eccetera e c'era dopo un po' questi pregi non c'erano Don Luca e altri non c'erano più e perché fino hanno fatto la gente girava guardava se ne avanti insomma dopo 5 minuti 10 minuti gli accompagnano con tutti i paramenti sacri si mette sull'altare Don Luca poi c'è Diagono che si mette su un ambone poi c'è un altro ambone di legno questo tipo il ambone di legno Moriso Misasi poi c'è un altro che si chiama Ministrante che si chiama Torcia Sacra che è una candela alta tipo un paio di metri cioè c'è un bastone con un affare poi la candela tutti faranno un paio di metri di altezza e se non abbiamo fino ai piedi che arriva qua vicino avevano acceso il cielo pasquale che è questo cielo gigantesco che l'accendono a Natale a Pasqua due tre volte l'anno e loro avevano accendono tutte queste cose qua l'ho imparato lì e quindi accendono e dice la preghiera il padre del nostro e loro lavorano ovviamente accendono a parte questa torcia sacra e l'accendono uno stoppino e l'accende il prete poi questo qui si va a mettere sotto questo primo perché questo è il primo razzo come si legge la mostra che è la mostra si mette sotto qua ho capito? con questa torcia in maniera questa candela guarda perché è una torcia sacra è una candela si mette là sotto fisso e quello nel lambone di marmo di antiavolo mancuso legge dal Vangelo no questa qua non è la Vangelo dalla Bibbia nel popolo di Israele perché questo qua lo vinci lo vinci per il presidio questa opera questa è la profezia di Nathan che è un profeta al re Davide no? e racconta questa storia di Davide poi finisce questo qua sotto questa candela questa torcia sacra poi l'altro Morito di Sanzi lei ci volevo scritto io su questa opera con anche le citazioni dell'artista che mi hanno fatto delle frasi di voi ecco ma questa aspetta finito di leggere queste cose parte l'opera Don Pasquale Panaro aveva composto ma non mi avevano detto niente aveva composto una musica diversa per ogni razzo questo video io mi sono accorto ma infatti non c'è niente tranne questo mio video perché io mi sono accorto perché allora non avevano detto niente ma io mi preparavo no? qualche cagano tra gli amici di Cosenza anche praticamente questo cioè se poi si può andare su YouTube la possiamo anche vedere un pezzetto ma comunque anche col telefono io mi sono accorto di questa cosa ho capito l'importanza di questa cerimonia per cui noi le nostre inaugurazioni mi fanno dei baffi a questi qua cioè questi stanno arrivati da 2000 anni nonostante hanno cercato di buttarci per te perché hanno cioè noi possiamo essere d'accordo o non d'accordo con loro possiamo essere altri ma questi hanno un modo di gestire le cose che noi siamo le direttanti te lì no? allora questa cosa qua è durata un'ora 56 minuti perché finito lì si spostavo su quest'altro qua sotto quest'altro la razza e ricominciavo la lettura dei testi e poi la musica quindi la pezzo a quel punto l'opera cioè Marina Abrami ci fa un passo a questa cosa cioè se poi vedete i video è una cosa impressionante cioè la gente può mosso con la prima di oggi i fedeli io quando ho visto quella cosa allora ho entrato fuori il telefonino e ho voluto e ho filmato infatti è un video un po' così fatto con il mio telefonino e poi ho montato ma non è che ho montato l'ho lasciato ci ho montato all'inizio i titoli di testi i titoli di foto ma il video va da solo l'ho tagliato non so non lo saprei ma poi non ha neanche senso insomma quindi io ho filmato questa cosa qua era venuto Stefano Antonelli che si era portato la cinepresa perché lui per l'università mi stavano smesso ma è sempre che mi dava l'opera che aveva già non me l'ha mai dato speriamo speriamo che il mio problema lo dava però intanto io l'ho montato l'ho messo in rete e quindi insomma per cui l'opera non è la singola opera che vedete qui ma è l'interazione con tutte queste cose ma qui capito 16 volte questa cosa qua cioè una cosa io quando ho visto questa cosa qua quindi ho filmato io da allora sto pensando ancora a come fare l'inaugurazione delle mostre che farò perché come le facciamo noi non mi soddisfa più andiamo lì bicchieri a chiediamo non ha senso però non ha senso per rispetti dell'arte ma non è che perché siamo cattolici religiosi perché praticamente loro dimostrano veramente un rispetto per l'arte e voi diciamo a chi se non interessa l'arte quella è una dimostrazione che invece l'arte gli interessa veramente insomma che vedete mi sembra che ci sia un passaggio dall'idea di senso all'idea di valore senza aumentere il senso e valorizzare attraverso il senso che hanno le opere ma all'interno del contesto invece spesso nell'arte diciamo così di circuito si punta l'attenzione sul senso o su un valore che è un valore di carattere economico quando va bene storico invece qui c'è un valore di per se stesso che si estende a un valore sociale e diventa politico nel senso del termine per vedere riguardante il cittadino chiudo la parola certo questo è anche pubblico quello che colpisce è che appunto è una cosa naturale il dialogo andare qui perché non vivono in maniera romantica l'opera cioè quella è l'opera appunto è la relazione che si crea per tutti i misteri poi questo si legge da sinistra verso le alte cioè uno entra e non comincia a vedere dalle prove si legge da un altare da sinistra verso l'estero e il primo adesso però questo non è che esaurisce la cosa un altro prete può scrivere una storia con altre parabole altre per parte c'è la Bibbia e i Vangeli sono veramente dei testi pazzeschi insomma per esempio questi qua sono due lavori stranamente sono due primi nel senso di lettura di allestimento di lettura che sono quei due che mi hanno dato più preoccupazione perché questo qua allora qual è la storia della profezia di Nathan allora la profezia di Nathan è che praticamente questo profeta viene mandato da Dio a Davide che Davide è il secondo re di Israele il primo è Saul perché Davide sconfige Giorgia eccetera eccetera già si vuole costruire un tempio una casa per il Signore per Dio però siccome questo Davide è stato il belchino aveva pornificato un suo amico si era messo con la moglie le aveva tradite eccetera e questo ovviamente non commette la brutte perché Davide ci stava bene e quindi per punirlo gli impedisce di costruire allora Nathan mi ha mandato tu non vuoi costruire il tempio perché non sei degno di costruire il tempio la costruirà mio figlio per esempio queste cose qua a me così io non le sapevo diventare con questa cosa qui perché ci sono cose per esempio più conosciuti per l'ultima cena questa cosa la professione di Nathan eccetera poi quando mi ha mandato mi sono andato su Google a leggere queste cose e quindi perché lo metti per prima poi le ho chiesto perché la chiesa è il tempio di Dio e quindi noi partiamo con l'idea di costruire il tempio siccome stiamo celebrando di 800 anni della costruzione del Duomo di Cosenza 1222 e quindi devono ruotare sotto le linee del tempio no? e quindi che per i cristiani era la chiesa no? e quindi questa è la profezia di Nathan re Davide che era un ragazzino con il re Davide 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 e Coria sappiamo allora il principe esicce che ha fatto l'ha fatto il re Davide con questo ragazzino la palma della santità insomma eccetera che c'ha sul pisello la corona di re io ho detto quando arriva questo qua questo disegno che vi hanno mandato via me no? a figura si può fanno passare una cosa del genere e io molto preoccupato poi la re che rispondevano su loro è un tema diverso da quelli nostri e quindi noi rispondono bellissimo bellissimo sempre tramite Maurizio l'hanno visto bellissimo straordinario straordinario quindi hanno dimostrato un'avventura di vedute come anche questa questa è l'annunciazione vediamo a Mazzè io ho andato a Vediamo a Mazzè perché tra l'annunciazione c'è la c'è la Madonna vediamo a Mazzè sono due spesso loro fanno un lavoro dove ci sono anche loro in qualche modo che sembrano quelle più adatte per lavorare su un lavoro del genere invece loro hanno fatto un lavoro che vedete completamente diverso poi c'è una mano benedicente che nella realtà è la mano di Simeone che si rifà alla mano di Andonello dell'annunciato di Andonello della Messina dove vedete poi c'è l'arancio sul pollice il blu sull'indice e sul meglio c'è l'oro questi tre colori che uno è appunto l'angelo l'arancio perché se voi vedete gli affreschi dipinti degli angeli hanno spesso le aree arancio no? tutto nel medioevo insomma eccetera vabbè il blu manda la Madonna neanche a dirle e loro ovviamente a presenza di Gesù di un bambino ma poi c'è la mano che benedice quindi è una sintesi io ho detto che se questi qua non c'è l'angelo diciamo Madonna ma figuro se mi fanno passaggio da qua anche con Simeone stia diceva ma là una figura invece anche dopo un po' di giorni bellissimo bellissimo ma proprio entusiasti erano loro capivano e che loro capivano la simbologia di questo lavoro qua e io non è che gli spiegassi qualcosa che vedi la mandano si fanno così per far vedere perché loro capirano le immagini allora lo guarda è questo qua allora tu non vuoi costruire la casa di Dio perché sei un peccatore birichino qui viene annunciata la casa di Dio nel vento della Madonna poi la costruzione della cattedrale o la pietra no perché perché poi Dio la profezia dice anche sarà il figlio di Davide Salomone a costruire il tempio e qui c'è la concentrazione di Salomone di Davidevoraesce praticamente cioè in alcuni come la pietra vedi proprio la racconta anche di Dascale cosa vogliamo dello stile di Dio di Yugo questo no qua il tempio non c'è c'è una vagina per cui c'è la Davidevoraesce tutto un paesaggio naturale perché insieme alla natura le conoscevamo il sesso della donna la Madonna quindi è sempre con questo qua sotto lì che faceva questa cosa questo è appunto il tempio che è stato costruito poi i mercanti come sapete questo è uno delle persone più noti ovviamente fanno quella che fanno che nel San Biglo dove c'è questa figura di Dio Gesù gigantesca il mercante piccolino insomma in questo senso questo invece è la consagrazione del tempio della chiesa quindi della cattedrale che è appunto di Cosenza che l'ho affidata a Alfredo Pirri che è di Cosenza e lui ha fatto questa cosa sui chiodi no questa croce stilizzata che emana una grande luce una grande energia con le date sopra e sotto e poi partendo dai quattro chiodi che tengono questa immagine stilizzata di Cristo insomma della crocifissione insomma perché la chiesa cristiana e cattolica si basa sulla crocifissione si basa sulla crocifissione infatti la maggior parte delle chiese sono fatte a forma di croce ed è un documento per noi molto interessante nell'arte perché l'arte occidentale l'arte contemporanea l'arte insomma nasce da due fattori l'uno è la crocifissione perché sulla crocifissione si spaccano si spacca la chiesa cristiana il concilio di Nicea oltre a un secolo nel 1788 a Nicea oggi è Turchia Asia Milore discussione tra quelli che poi diverranno gli ortodossi e quelli che poi i cattolici la discussione sull'immagine sull'uso dell'immagine sul valore dell'immagine e su che cosa era possibile rappresentare c'è un dibattito che è durato mesi anni e su cui si sono spaccati le due chiese cristiane più grosse quella autodossi e quella diciamo di Roma dove la discussione erano su due punti fondamentali uno sulla possibilità di rappresentare l'immagine di Cristo soprattutto nella crocifissione e l'altro di rappresentare l'equarestia che se noi andiamo a vedere l'idea con i vasi con la realizzazione dell'uomo questa storia dell'equarestia soprattutto ricorda nelle varie scisma lo scisma di Martino di Lutero la discussione è sull'eucharistia cioè per i cattolici l'eucharistia è quando il prete fa insomma marzo eccetera e il corpo di Cristo che si impera insomma chi ci crede ovviamente no nel fedele che crede in queste cose qua invece per per i protestanti cioè è praticamente come è una ripetizione però non c'è questo corpo che si innerva veramente no c'è semplicemente un pezzo di pane è un pezzo di vino perché loro fanno più mangiando un pezzo di pane e un pezzo di pane è un pezzo di vino reale rimandano reali non c'è questa trasmutazione che noi vediamo nella chiesa diciamo cattolica cristiana e questa è una cosa che incida con la rappresentazione perché i protestanti negano le immagini non negano le immagini in generale negano all'interno delle chiese delle omisabri perché se sono all'interno dei omisabri diventano idoli e quindi falsi dei falsi dei fuori anche musulmani fuori dalla chiesa praticamente no i musulmani non hanno la rappresentazione non ce l'hanno dalla rappresentazione ma fuori dalla chiesa infatti il morto collezionismo è andato in quelle zone perché le opere che c'erano sono state portate via e se le sono comprate dai privati quindi nasce anche il collezionismo nasce questo non lo dico io di Cistroisita uno dei maggiori storici dell'arte quindi queste chiese le reti tutte bianne dicono che nasce nel contesto arte dove una cosa è arte e una cosa non è arte quindi e anche la stessa eucalistia è in questa cioè quando voi ti dice questo non è un'orinatorio è un'opera d'arte lo stesso come quando ti dice questo non è un'ostia ma è il corpo vero di Cristo i fedeli dell'arte credono che sia un'opera l'arte i fedeli della chiesa ma non c'è differenza sostanziale c'è nell'approccio quindi sono delle tematiche che all'interno della religione sono state ribattute e le pratiche sulla crocifissione era che la crocifissione non si poteva rappresentare perché nessuno aveva l'immagine di Cristo come era come era fatto insomma eccetera quindi sarebbe stato un falso quindi si poteva rappresentare solo la croce poi arrivava un punto in cui le rappresentano la crocifissione ma è molto statica sempre uguale no? per cui si conosciano specialista non distingui una crocifissione del Novecento ortodosso da una del infatti a parte qualcun altro noi non conosciamo artisti dell'arte ortodosso perché per loro gli artisti non erano artisti chi realizzava le opere tecnicamente era un artista è come l'artigiano è come la testa di una pietra come quella che opera l'arte oggi chi è che di voi magari qualcuno si sa fare la scultura ma il cadale ci sono le scarpelli ci arriviamo adesso dopo questo e traduce la cosa la chiesa di Roma invece ammette la rappresentazione della crocifissione ma non solo l'ammette ma l'ammette anche come diversità cioè nel senso quando la chiesa chiama Raffaello è perché vuole la crocifissione di Raffaello quando chiama Giotto è perché vuole la crocifissione di Giotto non è che parla solo perché è una crocifissione come negli ortodossi loro vedono alla bravura umana cioè l'interpretazione e infatti quando la storia dell'arte diciamo è una crocifissione comincia con Cimabue che fa la crocifissione con la Pizzantina e poi Giotto che comincia a scaponare se tu vai in Raffaello non ci sono le crocifissioni perché le crocifissioni di Giotto di Brunellesi di Cimabue c'è le varie chiese Santa Croce Santa Raffaello Novella Firenze eccetera però quando hai l'ufficio la prima sala c'è una piccola sala diciamo che non è ma poi la prima sala è quella importante diciamo specialmente alla seconda ma in realtà è la prima ci sono le tre madonna di Cimabue una che ci da poi inserita una ci mappure Giotto che è in mezzo e una a destra che ci mappure perché perché loro avevano un'idea evolutiva dell'arte della vita quest'idea dell'evoluzione dell'uomo che viene creato con le mani cosa allora ci distingue dagli altri animali noi facciamo parte della specie animale ma la nostra distinzione e ci sono tutte le mitologie sulle mani che voi non mi sto a dire se no guarda andiamo ancora quali ore e è quella che ci distingue a noi dice come? si distingue dagli animali perché ha le mani con cui modifica 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 il mondo no? e questa cosa qui e allora io ho la circolazione di Giotto c'è San Francesco chiamano Giotto il miglior scrittore del tempo ad affescare la chiesa ma perché? potevano chiamare Tucci da Boninsegno ma noi chiamano Giotto perché quella cosa di Giotto ma questo dipende da una lettura questo l'avevo imparato già prima di questa mostra perché sembra interrogarmi delle opere perché un'opera esiste come esiste partendo dall'origine dell'umanità per far capire alle persone che Tuchamp è come la Palestina cioè non è una cioè concettualmente è la stessa cosa è lo stesso approccio e se tu accetti il miracolo dell'Eucharistia devi accettare poi puoi dire mi piace o non mi piace ma quello è un friscopo ma concettualmente accetterai anche il miracolo di Tuchamp e dell'arte concettuale allora perché la Bibbia era uno quando pensa alla Bibbia pensa a un libro ma la Bibbia non era un libro erano dei rotoli venivano messi in dei vasi se avevo visto vasi intorno quindi venivano si mescolavano quindi la cronologia non era così molto regolare e la Bibbia è divisa in tre tre pezzi la genesi il discorso il discorso e il silenzio ci sono vari profeti che rappresentano questi blocchi in questo rimescolare questi tubi la cultura occidentale la rimescolate facendo la genesi il silenzio e il discorso per cui gli ebrei non hanno le immagini proprio per questo perché loro non hanno il discorso dopo ce l'hanno prima quindi poi arrivi il silenzio senza immagini invece la cultura diciamo cristiana c'è questa cosa il discorso che deve continuare e quindi ecco che gli artisti che la chiesa coinvolgeva perché oggi questo qua per me non dirà questo tipo senza cioè per me era ancora più di fortuna voglio dire non è perché l'ho fatto io ma per quella che rappresenta insomma e allora c'è tutta questa cosa qua che arriva anche fino ai giorni nostri perché pensare che noi siamo fuori dal sacro spirituale cioè è una smistra lo dice uno che non crede nel senso non crede in termini che va in chiesa queste cose qua sono buddista proprio culturalmente cioè della religione come sapere originario per cui non puoi far finge che non c'è che lo che lo che non lo consideri se vuoi andare a scavare affogare le cose non puoi prescindere insomma da queste cose qui sì stiamo andando avanti chiederei una nota tecnica al direttore siccome si sono fatte le due dal punto di vista organizzativo magari come ci vogliamo autogestire ecco 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 come mi chiedevano appunto come è gestita la cioè se dura fino a un pomeriggio senza pausa pranzo ci siamo ci dovete dire voi vabbè finiamo questo che vi faccio vedere ai tutti poi dopo che adesso non parlo più di tanto nel senso vi racchierate delle cose come funziona la struttura adesso non vi spiego ogni ogni storia capito non so come questa qua mi sa che chi chi dimentisce ed è che chi non sapeva chi fosse ma qua c'è è uno che anticipa l'equalistia è un miracolo che anticipa l'equalistia come una cosa di Cristo che infatti viene emesso prima dell'ultima cena cosa che viene chiaro di Arienti non va più eh vai quando è questo questo è un risorio alla zona della Stauroteca la Stauroteca è una croce non è la unica ce ne sono diverse questa qui è quella di Cosenza è tipo alta così tutta l'oro ben prestata è praticamente un reliquiario a forma di croce quel tempo che ha le pezzi di lei in questo caso che sarebbe il pezzi di lei della croce di Cristo questo è il trasporto dell'Arca dell'Alleanza l'Arca dell'Alleanza è la l'ape che contiene le tavole della legge che Mosè ha ricevuto da Dio e che gli erano costruiti che non si è stata definita è finita anche nel film di Interagione per fare una ricerca dell'Arcappertura per dire insomma però anche qui vedete con la poste LGTB e loro hanno accettato tutto c'è stato un progetto che loro avevano recitato questa va bene è la vista di Elisabetta che è la cugina della Madonna della Madonna quando c'è questa annunciazione quindi la mano consolare perché lei era spaventata il famoso quadro del Puntucco no questo è il tema si si questa annunciazione è una vallaricci poi questo vabbè il stampone uno stand che è stato stand qui a l'Aquila e l'annunciazione è tutto un montaggio di varie citazioni decine sull'erbo e con le nu con la mamma il padre e la Madonna che lui aveva perso tipo qualche mese prima lui aveva perso non mi ricordo se il padre poi la mamma o viceversa nel giro di due mesi prima il padre poi la mamma insomma e quindi uno mangia anche a loro però invece degli interni fiamminghi eccetera questo progetto si vuole Global Education poi questo è Giuseppe Gallo una mano in Sirio il miracolo di questo che viene guarito bagnandosi nel Giordano che non ha letta allora la lepre era un problema non è come oggi che si cuore insomma che si sa anche che non è contagioso questi gli alfabri che è appunto Gesù parisci dei cerebrosi sull'edere di Gerusalemme vabbè questo è tutto un blue brick non si vede mancare tanto bene poi quello è il miracolo della peste perché Cosenza è stata colpita dalla peste come anche parte d'Italia eccetera che è la Madonna del Pileg che è una protettrice che è un'icona di Bizantina per ricordare quella cosa delle icone che per esempio per i credenti ortodossi l'immagine è una Madonna che per me è un'immagine intanto per loro è un libro non è un'immagine è un libro ma poi non è una immagine per loro quando vedono la loro immagine è una Madonna quelle che noi vediamo come immagine per loro vedono la Madonna vera che hanno una concezione completamente diversa insomma dalla nostra e questa appunto grazie a poteri perché vedi poi loro hanno utilizzato il loro stile le cose che fanno cioè chi ha fatto questo paesaggio lunare come fa lei nei suoi video con questi segni croci che comunque lei già usa quindi l'ha adattata a questa cosa e questo va bene ovviamente questo è il tema del paradiso ovviamente il tema del terzo paradiso di Michelangelo Vistoletti che ovviamente qua era anche un problema perché per loro il paradiso è uno cioè non esiste il terzo paradiso ma neanche il secondo quindi però va anche il vino era contentissimo ah pistoletti il terzo paradiso insomma eccetera 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 e quindi questo diciamo è questa prima parte poi io c'erano delle altre ma vi dovete dire voi che vogliamo fare smettiamo che riprendiamo andiamo andiamo a qualche giornata poi perché adesso è tutta la parte della scultura non sono poi in corte anche dell'accademia anzi sono qui per fare il protelitismo cioè per iscrizioni nel corso di scultura no no questa manifestazione che facciamo nel mio paesello allora come ci organizziamo quindi volete parlare già una cosa si notare invece come appunto il Jacinto è bello che esistere quindi sarebbe anche pronta a continuare a capire la no vabbè però io non voglio neanche approfittarci allora quando quindi come noi diciamo non sappiamo se l'aula è libera o noi siamo qui anche al pomeriggio per cui condividiamo con Jacinto che ci porta delle tematiche che vanno ben oltre quelle che avevamo confortato in questo caso per cui ci porta su dei terreni che affrontiamo e quindi sono anche oggetto di verità diciamo per noi oltre a queste novità che sono direi sostanziali per questo strutturale per cui la disponibilità da parte nostra c'è credo della scuola sì allora adesso sono 14 e 7 io faccio una macchina pirocente 15 15 esatto 10 15 17 20 20 20 21 21 Grazie. Grazie. Buon pomeriggio continua con una componente magari informografica. Prego. Ma dunque, siccome devo parlare delle persone, ma non c'erano ancora, ma... Volete... facciamo intanto se c'è qualche domanda o qualcosa che qualcuno vuole... Volevi chiedere in attesa che aspettiamoci con 10 minuti. Io volevo chiedere se... Il tuo nome? Francesca. E poi? Viola. Viola? Chiona. Chiona. Volevo chiedere se c'era stato un criterio... E lei si è andata per scegliere le artisti e le artiste per quanto riguarda il progetto della... Il progetto della Chiesa? Beh no, nel senso che io ho scelto degli artisti intanto di varie generazioni, come avete visto... Comunque, anche in una certa importanza, è fondamentalmente degli artisti con cui di solito lavoro... che pensavo che potessero affrontare e anche affiancare un tema così delicato. Perché questa qui che abbiamo visto adesso... non è... c'è una mostra normale con le altre. C'è una committenza ed è una committenza particolare... con un tema particolare che gli artisti non sono più da frequentare. e quindi avevo bisogno un po'... ovviamente senza fare paragoni tipo valoriale... un po' come quando ero un regista... sono dei registi che lavorano spesso con... fanno quasi tutti i film con lo stesso artista, no? con lo stesso attore o con gli stessi attori... con Tifellini con Manuel Sandranino... o Mastroiandi, per esempio... o Scorsese con De Niro... perché sa che poi il lavoro di un curatore è un po'... come il lavoro di un regista... hanno metto insieme le cose... e quindi... soprattutto quando ci sono progetti particolari... come questo qui... che abbiamo visto adesso nella Chiesa... sono progetti... che non sai come reagiscono gli artisti... perché è una cosa nuova... e quindi... se io vado con... artisti con cui già lavoro da anni... con cui ho un rapporto molto forte... è più facile che... riuscire a portare a termine il progetto... insomma... perché poi questo è un progetto di cui gli artisti... sono stati pagati... e cioè... sono stati pagati in opera... perché il Sende della Lazio è un motivo... cioè è un tipo di tecnica... che si presta ad essere... fatti in più edizioni... quindi praticamente... si sono fatti tre edizioni... di cui uno rimane permanentato a Chiesa... uno è la Fondazione Visasi... che poi quando noi lo facciamo... la vogliamo far girare... in altre chiese... e uno... va all'artista del pagamento... che poi... se la può perdere... e quindi questo lo potremmo fare... con artisti... con cui ho una certa competenza... a chiedere... con cui lavoro da anni... insomma... un rapporto di fiducia... così... ecco... Altre domande? Lei diceva che... Ura... ha creato l'uomo... però c'è stata quella disputa... con Zeus... per... dare il nome... avendo cura... e... si sono accordati... che Zeus... avrebbe... deciso il nome... dopo che... non sarebbe morto... e... quell'uomo lì... ah... quindi è un nome personale... certo... ah... pensato se il nome... eh... si è... da... no... il termine... era generale... però... come sarebbe morto... quell'uomo lì... mi dava... perché questa cosa... dei nomi... è una cosa fondamentale... nella Bibbia... cioè... in tutte le culture... ci sono questa cosa... del linguaggio... no... eh... mi sembra a Bibbia... inizio... dicendo... in principio... era il verbo... infatti... la religione... è una versione ebranica... l'ebraismo... è una religione... del testo... del libro... della scrittura... infatti... come i musulmani... anche lì... è una religione del testo... fino a un certo momento... se tu vedi... fino... eh... all'inizio del novecento... agli un po' più anni... non ci sono artisti ebrei... perché loro... risultavano i nomati... uno dei primi... è Chatal... per esempio... no... e... e quindi... c'era questa cosa... che... però... nella Bibbia... che l'uomo... dà il nome alle cose... in quel caso... non è Dio... è l'uomo... che dà il nome... eh... il nome alle cose... e poi... tante... insomma... adesso poi... mi possiamo anche essere qua... fino a mezzanotte... a un museo del campo... insomma... tutto per poi... ma... ehm... allora... continuiamo... insomma... poi... ci sono domande... come farle... e... allora... questo qua... l'utilizzo un po' per... un luogo... così... loco... là... insomma... questo... questo qua... nasce anche questa... un'esperienza personale... un'esperienza personale... quando ero studente... e... studiavo... a Dams... a Bologna... e... dall'esame di italiano... l'esame di italiano... dove c'era questo... professore... pieno campore di strati... e non stavo con lui... cioè... nel senso... c'era... dalla A... alla M... con... Alfredo Giuliani... e invece poi... dalla M... alla Z... con... Piero Camporesi... io ho letto i programmi... ho visto questi programmi... in Piero Camporesi... che era... una cosa veramente... pazzesca... perché... tutte le cose su... le tradizioni popolare... cioè... praticamente... leggere... gli italiani... imparare gli italiani... attraverso... la cultura popolare... e quindi... insomma... a parte quei tempi... queste cose andavano... anche... abbastanza... insomma... Cioè... poi potremmo andare... e quindi... ho cambiato... sono andato... con quest'altro professore qua... che però... è un professore... terribile... cioè... nel senso che... a parte... vabbè... è uno dei... intellettuali a porta... degli italiani... più interessanti... è anche tradotto... moltissimo... all'estero... però che in Italia... noi li vediamo... così... anche si è pubblicato... tantissimo... con... 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 e... così via... tipo libri... come... la carne impassibile... il suo... della vita... che vuole... sul sangue... come secondo italiano... attraverso... le ricette mediche... i racconti dei medici... ne segui... non le ricette... che oggi... che ti fa... per andare in farmacia... no... quindi già... le officine dei sensi... tutto sulla lettura barocca... ma con dei riferimenti... all'artivisia... molto forti... insomma... ehm... ed è... questo professore... anche... molto severo... insomma... che se l'abbiamo... quindi tutti... avevano... venuti gli esami... insomma... eccetera... eccetera... e io vado a fare... l'esame... e... faccio l'esame... e praticamente... cominci a parlare... del programma... che noi... dovevamo studiare... per arrivare i libri... tipo... il pane selvaggio... un libro che aveva scritto... e... che era la letteratura... attraverso il pane... no... e altri libri... io... sono messo lì a parlare... eccetera... eccetera... e poi ho portato... perché là si parlava appunto di miracoli... queste cose qua... nella cultura popolare... io... e ho iniziato a raccontarvi... un po' di miracoli... che c'erano a... che c'erano in Abruzzo... no... sempre questa eucaristia... sempre fatta apposta... a Lanciano c'è questo miracolo eucaristico... no... questa cosa del suo... della vita... il miracolo del sangue... eccetera... che va bene... il sangue con la testa tagliata... a Lanciano... invece... l'oste che si rapprende... in una... ostativi di carne... che sanguina... perché questo frate... non credeva... che questo umilare... venisse veramente... eccetera... e lui... si illumina... e lui... prenda... sega... dentro anche... insomma... e coneggia l'assistente... prenda... prenda... dobbiamo... fare un viaggio in Abruzzo... dobbiamo tornare... in Abruzzo... oppure... chiaramente trova... la parte del carnevale... che era... poi... nel 76... 78... quegli anni lì... tutto il carnevale... con della rovescia... le manifestazioni creative... rispetto a quello... diciamo... più terrorismo... dagli anni... eh... sessanta... sessanta... e... in avanti... quindi... tutta questa cosa del carnevale... eh... che viene rappresentato... come... un Dio tornato... con questo cucione... e poi... siccome... c'erano tutte le... guance rosse... eccetera... e io... mentre raccontavo queste cose... vabbè... noi elettronopelli... abbiamo un pantalone... lo diluvio... che vuol dire... il pantalone di diluvio... ci sono tutte le pere... noi andiamo... in Abruzzo... tutto... ognuno... ha un soprannome... cioè... se tu... hai un elettronopelli... dove... dovrei andare... a casa... ci... ci sono... ci hanno incitito... le cittime di l'antaro... ce ne siamo tre quattro... le cittime di l'antaro... e ci hanno incitito... la volpa... perché... la mia famiglia è apposta... tra lui... aù la volpa... ma i palline... capito? insomma... e tutto abbiamo... e questo qua... che sono entrato... perché... un uomo... saperlo questo... se c'erano il tonanto... quando parlava... le mance rose. Allora noi ci siamo riparati al carnevale, il suo libro, dice guarda le trompele e dice un signore così 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 perché la cultura popolare. Cioè io me ne fregavo di seguire anche lì negli esami, le linee di imparare libero al campanello. A me ora non mi importava niente queste cose qua, non mi è mai riportato. Anche la storia dell'arte, andavamo in giro a vedere, ci facevano qualcosa un barocco, chiede a Luigi, al Maestro Angelo, ci organizzavamo io, lui, degli altri, in un gruppetto, andavamo a Roma per il libro di Portoghese, Roma Barocca, andavamo in giro tutte le chiese, guardavamo le opere, discutevamo, insomma così eccetera e ci divertivamo. Quello del Playboy si rimaneva sempre. Era tutto un divertimento, insomma, no? E quindi lui fa questa, faccio tutto questo esame, poi la Laura non la tiene. Poi ti rende appunti, ti rende appunti, ti dobbiamo andare in Abruzzo. Allora lui fa, va bene, allora io adesso, è molto certo, adesso avrei venuto dalle 30, però trentellone, però non glielo posso dare, perché lei deve imparare ad iscriversi meglio in italiano, come vedete ancora adesso, tanto è riuscito. E allora io, sai, mi giustificava, diceva, vabbè, ma è un piccolo paesino di montagna dove tutti parliamo in dialetto, io infatti ho parlato più in dialetto nella mia vita che in italiano, no? E quindi, mi dicevo, io operai nel senso c'è legge. Sì, sì, no, 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 lei però deve capire che oggi è passata dal comune alla nazione. Allora è quello che ho ricordato sempre e l'ho messa in una mostra che ho fatta sull'Italia, quando mi dirigevo la camera, che si chiama anche il paese dell'arte, come incipit racconta questa storia. Questa cosa qua, dal comune alla nazione, perché, come se l'è il comune alla nazione, perché adesso entriamo nella fase proprio del comune del mio paese, letto a notpello. Allora, questa è la vendiamo a sinistra e quello lì è santinaceto, perché l'ho letto un'opera. Nel mio paese c'è una tradizione di scalpellini, uno dei pochi di mastina in Abruzzo, che in realtà io ho anche abbastanza slobato, cioè nel senso che non me ne sono mai occupato. Tra l'altro, il mio padrino, che è morto anni fa, Antonio di Piazia, detto Labbob, è uno scarpellino, insomma. E quindi, questa tradizione di scalpellini che fanno, come vedete, i capitelli, i caminetti, le cose, insomma, che fanno le scalpellini, che sono degli artigiani, no? Questo l'ho messo perché, praticamente, voi vedete questa opera sopra, che vediamo lì, quella del Castello di Ioli. Ci sono queste cinque vasche, con dentro questo blocco di pietra, della stessa pietra della Maiella, che è un'opera che si chiama Uribe Stone, che è una delle opere più famose di Poiss, no? Che è stato fatto, appunto, dall'elettronoppello. Però dall'elettronoppello non sono state fatte le vasche, sono state fatte questi blocchi di pietra insieme di dentro, che c'è vista dalla vasca, tipo un centino e non un centino, attraverso cui, come vedete in quell'immagine, si fa colare l'olio fino a riempire, no? Scusate, quindi dentro ci sono dei volumi di pietra, dentro le vasche. Non sono dei coperti, sono dei volumi di pietra. No, 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 tutto il volumino. Voi, se ne dica la cesta, posso modello. Vedi, qua, vedi, queste sono, sono proprio di Eila, di Eila, di Eila, di Eila, di Cielo. Sì. Allora, traduzione. Quelle artigoli, qui sotto invece è a Zurigo, la gustosa di Zurigo, perché? Successe questo, che praticamente, l'opera di L'Occlese de Domizio, che appunto era una cadavista di Bois, insomma, eccetera, eccetera, in Bolognano, nel suo piccolo paese, in Abruzzo, vicino all'Ettomonopello, oppure all'Ettomonopello vicino al Bolognano, infatti voi, se vengono da dove veniamo, se viene da Piscata, incontra il primo l'Ettomonopello, se no Bolognano. Tutti di voi stanno in collina, rispetto alla strada, diciamo, la di Cortina. E, infatti, lì a destra, vedete, sono io, che ora sono stato veramente fortunato. All'inizio, poi era proprio all'inizio. Io non collaboravo ancora con Flashart. Bois fa, era già un'altra volta a Pescara, fa una difesa della natura. Lì avete appeso, appunto, quando si entra, come Santino, Santone, proprio difesa della natura, che avete fatto uno di questi ermine, appunto, a Santo Spirito d'Armaiella, che è Rolcao Morice, il paese di fronte si vede l'Ettomonopello, no? Che, se vogliono fare questo pollo, ci sono questo fiumicetto. Ti avevo il pollo di Messina e facciamo il pollo di Lettonopello. E, in pratica, li stavo intervistando Bois, col microfono, il registratore della cassetta, insomma. Perché avevo saputo che facevo questa cosa, e quindi sono venuto di intervistarlo. E poi, perché avevo un sarenco, facendo un avvista che si chiamava Lotta Poetica, mi aveva chiesto se andavo a intervistarlo. Poi, questa rivista è chiusa, mi è stata pubblicata l'intervista, poi me l'ha pubblicata, con presa, nel libro di presupparsi. di presa della natura, dove ci sono le foto, quando fanno queste opere, insomma, eccetera. Quanti anni ci avevo? Non avevo trent'anni, con tattattattattro, bisogna dire cinquanta e quattro. Qui, però tu devi continuare, devi dire, quanti anni ci avevo? Trent'anni, tu devi dire, ah, però non è che sei grandelo molto. che era un cammino, scusa. Il silenzio, il silenzio che parlo, il silenzio che parlo. Il silenzio che parlo, il silenzio che parlo. Ti devo dire tutto. Di una goccia d'olio. Vabbè, di una goccia d'olio. Vabbè, allora, adesso a parte gli scherzi. Quindi, poi, se fa questa azione, insomma, lì... C'è connessione su del Constantino Aceto? Sì, se pensi che conosciate, eccetera, eccetera. Comunque, poi, se cosa... frequentando la casa di Lucrezio, quella volta lì, lui aveva visto queste masche, queste grandi masche, che gli abruzzesi conoscono, perché sono le masche, che hanno le varie dimensioni. Per esempio, le aziende avevano una così piccola, così, dove si metteva l'olio, no? Che allora non c'erano, così, acciaio, queste cose qui. E vedi queste cose, poi, su queste masche, che però, ovviamente, la Lucrezia, come tutti i marini, i baroni d'olio, e i bubi, non utilizzavano più. Gli racconta che cos'è, insomma, cosa sono. Gli spiega la cosa per mettere l'olio d'olio, eccetera, eccetera. Da lui, gli aveva l'idea di fare l'olio d'olio, no? Però, per fare questi blocchi, ci vogliono gli scalpellini. E gli scalpellini, lui, ci sono, ma non bello. E quindi vanno in una bottega di Santino Aceto, che non c'è più, anche lui, perché adesso dovrebbe giungere 50 anni, a fare queste parti. Nel libro di difesa della natura, dove c'è tutta la cosa delle olive scorci, si è proprio apposta nella bottega con gli scalpellini, con Santino, i figli di Franco, Massimino. E quindi commissionano questi blocchi da mettere dentro. Quindi i blocchi che sono stati fatti là sono stati fatti gli scalpellini, mi lettevano un pello. Perché avesse assurito questa cosa? Perché che è successo? Quando un po' si è morto nel 1986, due anni dopo, la Deva ha cominciato a fare delle cose che poi avevano visto le opere che erano sue. invece Lucrezia era pagate, poi si era pagate le scalpelline, eccetera, eccetera. Quindi salta su una causa e praticamente la vince la figlia Lucrezia e vince la causa. Solo che la vita di Gianni, che allora era alla direzione dei Rigoli, sposa, diciamo, la causa della moglie di Boris. Cioè si mette dalla parte della famiglia dei Boris. La causa Lucrezia la vince, dice ah tu ti sei messo con lui, per lavorare mia testa lui non la ridai. e poi la collana alla costrata di Zurica, dove c'era Zeyman, lui non lo dirigeva però era lì che faceva il consulente, insomma, come fosse il direttore del Zessi, direttore che era cosa mi chiamava, eccetera. Quindi questo l'ha messo per questo qui. Per esempio, quest'altra cosa qua, Lago Cevilli se la ricorda benissimo, perché ha partecipato anche lui. Questo invece è quello lì, Gennarino. da Alfonso, che è quello che ha lavorato di più con gli artisti nel tempo. Qua vediamo due opere, tutte e due legate a fuori uso. Questa manifestazione che si faceva a Pescara, si erano fatte 16 edizioni da 1990 fino al 2016, perché non si facevano tutti gli anni, non c'erano soldi, insomma era signor. Comunque, questa qui a sinistra, queste sono due procurate io, questo a sinistra è questa testa che poi è stata disposta anche alla tete modern, è un'opera di Bilvutro, testa di Monet e di soldi. E questa testa, appunto, Bilvutro è quello che fate anche scultura, per sapere che è uno scultore inglese, di questo gruppo di artisti della scultura inglese, che negli anni Ottanta, tutte loro facevano una nuova pittura, tipo l'Italia transvanguara, la Germania espressionista, la Francia figura sul libro, eccetera. mentre l'Inghilterra ha tirato fuori tutti questi scultori, c'era un solo pittore molto, di cui si parlava molto, Christopher Lebron, che ricordo insomma, ma gli altri erano tutti, Tony Craig, Richard Deacon, Bilvutro, Wentworth, Giuliano Hopi, eccetera, eccetera. Lui erano tutti questi, insomma. Abbiamo fatto questo progetto, quindi questa testa, sempre con la stessa pietra, questa non è quella bianca, è quella vigia, questa qui a destra è quella bianca, l'ha fatto Gennarino, e poi ci sono queste monete, prenda monete che forse, lui ha detto che non è così, però noi abbiamo detto tutti come fosse una situazione. Giuda, 30 denari, insomma, eccetera, eccetera. Tra l'altro queste monete le ha fatto, si è fatte qui all'Apino, in un paesino, a San Deverno, a San Deverno, un ponte intorno, che le sei occupato tu Franco, no? Perché Franco Fiorino, il professor Fiorino, anche lui ha partecipato a delle emisione di Corioso, insomma, eccetera. E questo a destra invece, non ho potuto trovare la foto, perché questa è un'opera che sta in piedi, è alto quasi 3 metri, e in piedi, sempre l'ha fatto Gennarino, come progetto di Enzo Bucchi, questa è un'opera di Enzo Bucchi, e questo appunto, che lo chiamiamo come madre della nocima illustrazione, questo personaggio in piedi, con questo segno nero, poi c'ha dietro il sedere, diciamo la parte posteriore del paese, è geometrico, non ha come sedere in senso figurativo, c'è una come una polo di vetro, sempre fatta apposta per questa... Un attimo già cito, è importante per chi fa mano, ma non solo, scultura tecnica, vedete quando si parla di linguaggio dei semi, non è l'alfabeto dei sordini, ma vedete come è trattata la superficie? Questo passaggio che c'è con le subviature a lungo, la subviatura appunto, la sbozzatura, vari livelli di subviatura più grande e più fine, questa è la grande abilità tecnica di chi lavora, ma non è un'interpretazione copistica, ma è un'interpretazione linguistica, cioè come un musicista, quelli che abbiamo sentito ieri, gli interpreti che suonano uno spartino, in questo caso dato dall'artista, mettendoci la sua sensibilità. Quindi ci ricolleghiamo anche a quello che abbiamo esperienziato ieri al concetto. Grazie. Questo per dire che praticamente comunque c'è questa cosa degli scalpellini e da anni, insomma, in questo paese si fa queste mostre chiamate degli artisti, insomma, con opere che poi rimangono e via dicendo. dove sono stati anche degli scultori che insegniamo qua, come Pasquale Liberatore ma anche altri. Io non mi sono mai occupato di queste cose a cambiare un'occhietta, insomma, eccetera. Poi però qualche anno fa, di nuovo, che sono così, mi torna dalla carta, mi ha detto, ma perché tu che sei, insomma, come sgarbi? No, come sgarbi, cioè non sono ciao ciao, che sono meglio di sgarbi, e non ci dai una mano, insomma, a fare questa cosa qua. e allora io ho detto, vabbè, se ho carta bianca di pensare a un progetto in un certo modo, ci provo, insomma. E allora ho pensato, tornando a mutare, no, al basso rilievo, invece di ordinare a fare questa simpose di scultura, con le sculture con il mio favore che li fa tutto tondo, che si mettono nel paese, queste cose qua. Visti che poi, vabbè, tanto in tanto c'è una cosa che vuole venire per scolpire, perché non è una cosa come Gennarino fa una scultura e fa una scultura di coche, perché lì c'è un simpose che dura dieci giorni, si viene ospitato e tutto, e però l'artista deve fare lui o lei l'opera, no? Quindi ho detto, allora, però facciamo, cambiamo una cosa. La manifestazione si chiamava già dieci giorni in pieno, perché dovrà dieci giorni. Cambiamo il formato, facciamo una cosa, per esempio, degli scruttori, degli studenti dell'accademia, cioè l'accademia dell'acqua ce la mettiamo sempre perché è l'accademia dell'Abruzzo, e poi aggiungiamo ogni anno le accademie, uno o due azioni, no? Tipo questa qui, vedete, l'accademia dell'Arte dell'Aquila, Satia Forte, e Piotr Manzalevic, che è l'accademia appunto dell'Aquila, che Satia Forte la conosce, perché insomma è lì. E poi l'accademia dell'Arte di Breda, con creatrice Mosca, e Gabriele Ricchiuti. poi c'è praticamente degli scapellini, come vedete, antiluce giganti, poi questi sono diciamo scultore, e così via. Però l'idea era, che praticamente, devono fare del passo rilievo, cioè ogni volta abbiamo un tema, e devono fare, invece di dare dei blocchi, dare delle lastre, e devono lavorare a fare un passo rilievo, con poi l'idea, che alla fine, queste, l'opera che io ho chiamato, Pietrales, non Murales, non Murales, siccome sono partiti Pietrales, li ho chiamati Pietrales, li ho chiamati Pietrales. Quindi ho detto io, se vuoi, accettate questa proposta, io ci sto, e allora, li metto come curatore, li hanno messi come presidente, insomma, come una volta mi avevano fatto, anche il cittadino, onorare l'elettronompello, mi hanno detto, ma io sono l'elettronompello, mi fa piacere, però sono già l'elettronompello. E' un cittadino, aspetta, aspetta, ma noi ci conosciamo tutti, cioè nel senso, c'è una cosa, è come tutta una famiglia, cioè nei piccoli paesi, mi chiamano a me, ogni tal, qualcuno mi dice, ma tu, sei famoso, non si sente essere famoso? Io gli ho detto, io niente, perché io sono famoso? Sì, io sono nato famoso, perché io vengo da un paese dove siamo tutti famosi. Che cosa vuol dire non essere famosi? Che tutti ti conoscono. E' troppo, tutti ci conosciamo, siamo tutti famosi. qual'è il problema di essere famoso? E' non famoso, no? E quindi qua vedete, c'è una serie di immagini, dove ci sono artisti, insomma, al lavoro, momenti di lavorazione, insomma, e così via. e quindi noi siamo lì, ci ritroviamo, anzi, no, io sono qua, perché noi, gli studenti artisti, mi chiediamo, quando andiamo ad accadere. un anno passato, è stato romanzo. Sì, ma adesso infatti, non ho letto il nome, perché non mi riesco mai a ricordare come si pronuncia. Guardi, c'è scritto, lo leggo. nevo, 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 una ruva, che in dialetto di Nara toglie una ruva, toglie una stradina, è la ruva, è la stradina, è uguale. qua assieme. Assieme toglie una ruva. Eh, vabbè, insomma, e quindi, vabbè, quindi, con l'occasione, già per dire, poi ti scrivo Marco, una cosa ufficiale, che dovete segnalare i due studenti che poi vengono. Quest'anno, che facciamo dal 26 o 27 luglio a 4 o 5 posti, insomma. Quindi non potete andare in vacanza, no? Eh, quindi mettiamo dei studenti artisti al lavoro, no? A sinistra, vediamo, Satia Forte, perché è? Eh, vedete, le prese con lo scarpello pneumatico, che, come vedete, le scarpe nere sono ancora tutte pulite, quindi, appena visto che stavo facendo le fotografie sono andate a mettere per far si difendere. E a destra, sì, questa ma all'inizio, insomma, perché sennò, è tutto questo opposto all'inizio del paese. sono tutti gli artisti. qua con De Piotra, insomma, che poi adesso vediamo anche l'opera, più avanti. Ecco, adesso vi faccio vedere tutti perché sono diventati. Ecco, questa è la loro opera, installata permanentemente. Adesso qua, non c'è una foto. E poi, mi sono inventato, mi sono inventato di fare questi cartellini, perché prima o no avevano fatto di plastica, plastificata, insomma una cosa. Ho detto, ma scusa, ci sono gli spezzoli di pietra che le buttiamo, stampiamo letteralmente sulla pietra, perché un giorno vado dal sindaco e lui ha su una scrivania una pietra, un pezzo di pietra così, tipo questo, con semigraffata sopra e ho visto quella cosa e ho visto quella cosa questo qua è una bella idea, facciamolo, chieda a scalì usando gli scatti della pietra, ci stampiamo sopra il tefisto, no? Adesso ci dobbiamo anche infine qualcuno, perché sono cose lenti, come i comuni, poi un piccolo comune non c'ha soldi, insomma eccetera. e quindi vedete, qua poi si vede qui a destra ci sono queste pietre che spiegano tutta la cosa e qua la cosa si vede proprio, troppo, perché sono poi la parte del telefonino e loro si hanno divisi come una lastra in tue, no? Perché qua c'è chi, ognuno fa una, una lastra decina, le persone, sono quelle di breve, poi le vediamo, hanno preso ognuno una lastra e hanno fatto ognuno un lavoro, mentre loro hanno fatto un lavoro insieme e uno ha lavorato in un modo, vedete, che oltre ha detto, cioè io voglio fare una scultura dove uso il tagliacarte che uno dice ma è una cosa pazza, no? Cioè, uno pensa alla scultura ma è la pietra in mano, lo scalpello, eccetera, eccetera, non mi sa mai come un taglierino che viene fatto per tagliare la carta di farci una scultura e quindi l'avete visto prima che con la riga tirava queste righe che lavorò massacrando e lui diceva prende le righe che sono righe che sono profonde quindi lui per dieci giorni che tirava queste righe per fare questa parte tutta righe e poi ci sono questi due pezzi uno che fa un pezzo dell'uno e uno fa un pezzo dell'altro e questo quadrato in mezzo e Satia appunto ha fatto queste spozzature insomma ha lavorato con lo scalpello come avete visto però l'opera è un'opera unica per caso loro hanno deciso di andare a lavorare questa invece è una delle strade principali del paese c'è una insomma ce ne sono due due strade e vedete qua per esempio qui adesso stavano lavorando prima c'era la farmacia e quello è il lavoro di Beatrice Mosca e quella di Ricchiuti e Gabriele si chiamano? Gabriele? Gabriele 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 Ricchiuti la c'è un bar ci sono i tavolini perché è inserito nel contesto urbano per cui alla fine quando tu adesso ne abbiamo già una quale antica che l'idea è quella che viene sempre di più sempre di più il paese tutte le altre contrate siamo partiti dal centro storico nel medio di tutti questi murales ogni anno poi hanno un tema questo qua è il tema qual è il tema di quest'anno? L'acqua no, l'acqua quest'anno l'anno scorso arte e natura e invece tre anni fa c'era il tema della maiella come montagne insomma eccetera va bene e quindi qua si vede la diciamo le didascalie insieme all'opera questa è l'opera queste sono le opere questa è quella sulla destra di Mosca quelle di rinchiudere anche del bevo e mangio cioè il pietrales vicino insomma che è come perché la mia idea era quella di intanto fare qualcosa come l'arte antica che è inserita nel paesaggio fa parte del paesaggio e poi soprattutto che si aderisce all'architettura perché gli scalpellini e questa cosa nasce sui scalpellini allora gli scalpellini non sono degli scultori nel senso che fanno le sculture essenzialmente loro lavorano facendo le come si chiama le ornate si diciamo i caminetti le traviazioni i capitelli che lavorano nell'architettura essenzialmente quindi questo è un'idea di arte che si aderisce che aderisce all'architettura quindi in qualche modo sia nella zona con quest'altra e questi scalpellini sono questi qua sono arrivati nel 400 c'era stato un terremoto arrivati da dove si sa dalla Lombardia maestri maestri comacini quindi sono arrivati perché dovevano come è successo nel terreno dell'acqua ci sono servite maestranze in certe parti per fare i pezzi antini insomma quindi vennero perché qua non c'era niente di queste cose qui comunque non era sufficiente e quindi da lì poi parte la tradizione di questi capitelli che poi rimangono si sposano quelle dell'antruzzese insomma eccetera eccetera ecco qua per esempio questa è quella della Maiella dell'anno scorso era dello stesso anno questo è lo stesso anno ah sì questa è la Dea Maia che è dedicata alla Maiella qua vediamo questi due signori Raffaele e Patrizia proprietari di quella casa che vedete all'angolo questa è appunto Michela Alessandra Alessandra che è due in età non sguardo mezza inglese mezza italiana e appunto sono qua perché sono stanno allestendo il suo lavoro su quella parete che qua lo vediamo allestito vedete la Dea Scania sembrano le Madonne però non è una mamma è una Dea perché appunto Maia Maiella è la Dea che è la Dea di quella montagna insomma ecco questo qua poi le persone si vengono a guardare poi la cosa interessante è che il primo anno per avere le pareti era un casino perché tutti privati piccoli facevano rimanere un contratto non li possono togliere insomma adesso l'ultimo anno mentre noi lavoravamo ogni giornata arrivano affrontano ma alla casa mia quando lui mette la scultura vedete ora c'è una cosa che vogliono una cosa interessante è che poi le persone ancora più non è che gli attivano pelle Napoli senza offersi per Napoli una grande civiltà una monnessa le cose comunque però adesso ancora di più tra tutte le parti che ci sono queste sculture ognuna a casa proprio pulisce sempre davanti ci hanno messo anche dei vasi di fiori cioè ha sviluppato una cura per il paese che si è innescata senza che noi l'avessimo prevista quando avessimo nozioni l'avessimo prevista no? veramente questa qui invece è Sara Kalai un'artista iraniana che tra l'altro poi ha finito la cosa e poi è ripartita e poi è successo tutto il patatrak dell'Eran qualche settimana dopo che era rientrato in Iran questo è un momento dell'inaugurazione di quella del sindaco questo ragazzo qua con la camicia azzurra e Stefano Faccini direttore artistico che lui era uno scultore quindi sa tutto perché poi fa una cosa così è una cosa complicatissima che non è che mettiamo un quadro mettiamo un piove cioè qua c'è la pietra presa con la sicurezza il trattore con la gru insomma la sicurezza eccetera eccetera questa cosa in opera è a cura dell'amministrazione sì il comune direttore rompello quindi diciamo solleva anche il proprietario con le sue responsabilità sì loro hanno accettato questo progetto ci sono stati quello è per dirvi ma no cioè quindi vabbè diventerà donna hai fatto quello che vieni a fare no se tu trovi una chiave giusta puoi fare qualunque cosa cioè non è che devi fare per forza la morte solo al MoMA o solo al Maxi cioè tu puoi fare dei progetti interessanti anche imposti dove non c'è una cultura dell'arte o comunque dell'arte contemporanea che è chiaro se vai a fare il piccolo Maxi o il piccolo MoMA nel trono pelle perché non c'ha soldi non c'ha la cultura ma soprattutto non c'ha soldi per fare una cosa così allora ti devi inventare qualcosa che abbia un valore che crea una differenza rispetto alle altre cose e che in questo caso entra nella testa delle persone che si innamorano perché per me era facile nel senso di dire vabbè prenditi artisti amici ti faccio fare un progetto capito e l'attacco lì ma non aveva senso perché gli artisti devono stare là gli stanno lì parlo anche con il cittadino chiedendo che vede che stanno andando che fanno insomma eccetera vabbè la sono tutti vari assessori il sindaco poi quello è Brigante Francesco una giovane curatrice critica che ha scritto tutti questi testi e il giorno dell'innamorazione sa dire c'era tutto il paese praticamente insomma tutte le strade tutta la gente che veniva dire noi andavamo di pietrare se pietrarsi si leggeva il testo capito si dava proprio un diploma insomma così simbolico ovviamente comunque si viene ospitato insomma eccetera vedete questo è Nando Grimpa il pietrarsi che lui ha fatto una scultura da anni dipinto lombardo poi sono dei cadenisti olandesi che hanno sempre detto di questa cosa sono da venerla questa cadena che si chiama Long Art quello lì mi fa vedere Ron Long e questa è la figlia Sara Long e quella lì è la moglie che è di Salle quindi non resta e tornano in in Abruzzo questo è Antinucci è quello lì che avete visto il tappetto lui ha scolpito tutto a mano non aveva usato nessun volutamente non lo aveva usato proprio per far vedere la sua grande abilità manuale infatti c'ha un fisico c'ha dei muscoli che fa palestra tutti i giorni e poi mio padre che sta facendo il controllo qualità che girava vedeva se aveva messo bene le cose insomma 95 anni domani nozze di titanio 70 anni di matrimonio lui e mia mamma che è 91 quindi siamo fatti di pietra tosta e questo è cinese simpaticissimo Giang Yongliu ti ricordi Satya che era divertentissimo che altro era un bambino cioè un ragazzino peco invece ha tipo 40 anni si si ha tipo quasi 40 anni che ha fatto questa specie di fumettone no? con queste divinità delle nuvole eccetera questo è appunto una bella passa Gino Gino in duri in cielo questo è una nuova questo invece quest'anno qua con le vede Nevoa Narua detto bene almeno ho letto Nevoa Narua e qua vediamo un momento del trasporto dell'opera qua un momento dell'inaugurazione con Lorenzo di Piedra Antone con il mio parente e Alessandro come si chiama con lui Callocchia perché la mamma ti ha letto un'oppello ma beh Dio non ha letto un'oppello il padre non ha letto un'oppello perché quando mi hanno letto il cognome ha letto un'oppello perché non è un cognome mai sentito insomma eccetera che gli hanno dato il sindaco a organizzare questa cosa un po' come la cosa della chiesa a meno che mi avevano detto che hanno fatto il sindaco per un giorno il bambino assessore cercheranno tutto un laboratorio dei bambini che scolpivano tenuti da Rosa Mara Maria e quindi vedete si va in giro quest'anno si è inserita nel prezzo pure qua però non è che l'abbiamo chiamato noi si è presentato il tema era il tema dell'acqua quest'anno quale di Neva era tutta una serie di fontane che accolgono l'acqua piovana e l'acqua filtra da una all'altra e accoglie anche la sabbia le spore insomma quindi la vita insomma eccetera si è presentato il prete Don Davide con tutta l'altezza con tutta l'altezza per benedire e ha cominciato a seguire noi e benedivo ogni pietra Ales che veramente beh però questa cosa qua cioè il prete praticamente le persone che non sanno di altri dicono ma quello sempre il prete non benedico vuol dire che è una cosa di lui e noi ci dobbiamo prendere cura è una cosa nostra è una cosa che dobbiamo preservare eccetera eccetera e quindi qua vedete che sta benedicendo la cosa di l'opera del pedrales di Michela Ciaciuffe dell'Accademia di Belle Art di Bari che ha fatto questa idea della vita che nasce dall'aco con questa donna in mezzo all'alto e questo qui per esempio è una cosa interessante anche perché non solo è una collaborazione in questo caso come quelle che avevano fatto Sanzia e Piotr ci sono anche dei marbertini di Torino Andrea Cattolino e Yang Yong Suan è una cinese che hanno fatto questo lavoro che l'hanno intitolato se mi vedi piangi ispirate alle pietre della fame queste pietre della fame io non sapevo cosa fosse voi sapete cosa sono le pietre della fame ma trovatevi su internet da Zucco che mi mettete allora le pietre della fame sono perché abbiamo un'attualità molto interessante le pietre della fame sono delle sculture diciamo delle incisioni su pietra nell'arri dei fiumi avvilati che hanno cominciato a fare questa la vita degli anni il primo che si è trovato fino ad adesso il 1417 ma tutto il nord Europa la fascia Germania Cecoslovacchia il fiume Elba eccetera che quando l'acqua si è ritirata in questi ultimi anni per la siccità sono state scoperte queste pietre della fame sono delle incisioni che loro hanno fatto con delle date con dei segni quando l'acqua si era ritirata nel 400 poi la seconda che hanno subito il 1472 mi pare poi altre nel 1600 o qualcosa non mi ricordo altre nel 1800 quindi questa cosa dimostra dimostra allora c'era la siccità che si ritiravano le acque perché sono la profondità di vari metri cioè il fiume Elba è un fiume navigabile quindi sono tipo 8-10 metri insomma per poter scolpire nella base vuol dire che si era proprio ritirando tutta l'acqua insomma e così via e quindi diciamo anche questa cosa questa qui vedete poi dirò come si vede a scaliare i dialoghi interreligiosi perché questa qui è l'artista turca che si chiama Edrim Kilic che ha fatto questa scultura qui vedete dove l'acqua ha interpretato nei capelli perché lei si è ispira dal mito di Ofenia che il mito lo racconta da Shakespeare in Amleto è una tragedia dell'Amleto e la fidanzata di Amleto che non viene ricambiato e poi si annega nel fiume insomma c'è questo quadro bellissimo di Miglias per rafferire gli inglesi ma anche la canzone di Andrè la storia di Marinère è ispirata a questa parte dell'opera shakespeariana che poi risale anche alle vittorie di Gira più antiche e qua la vedi forbi perché quella dell'inglese ha visto la musulmana e poi l'avevo quasi utilizzata e questa è la vera che ho messo perché noi abbiamo delle sculture più belle del mondo di sempre perché è una scuola di scultura ma perché l'ho messo per questo motivo perché c'era questo scultore Vito Maiullani che è abbastanza noto soprattutto perché aveva fatto un'opera nelle pecore con i pannelli solari e lui è arrivato a fare questo suo lavoro e poi ha portato questi dischi che sono i dischi che si mettono nelle macine per immaginare l'olio no? quando fa metti le olime poi metti la sansa mette la sansa e poi mette un altro le scuole si come delle stuole poi mette l'altra sansa poi risprimi e esce l'olio e vedi insomma che lui utilizzava sia come strumento come attrezzo di lavoro vedete lui sta tracciando un cerchio su quel pietrale si utilizza questo questo cappello questa scuola e poi nei momenti di riposta lo mette in testa e allora io ho visto la fotografata e mi è venuto in mente questo paragone con i guiglieri di capestrano anche perché questo cappello dei guiglieri di capestrano non si sa da vedere perché è unica come è un capestrano si si è unica al mondo questa questa immagine non ce n'è una una simile guarda questa poi è la sua opera lui ha messo insieme che lui ha scavato e poi ha messo insieme diciamo questa opera che lui ha scavato da questa lastra che noi forniamo e poi ci ha agganciato sopra un pezzo di piedra che lui ha recuperato la sua mela è andata in giro che è tutta lavorata tutta scavata dall'acqua insomma questo invece è la Vitulli che sta disegnando il suo lavoro che è un'artista morisana di la Vitulli di Termoli Termoli di Larino non mi ricordo questo è il suo lavoro vabbè questo è sempre lo stesso l'ho montato io sempre con la messa d'angolo ma una cosa a vedere quella per far vedere con una specie di mondo le tra terra con tutta questa con la circonda insomma eccetera questa è un'artista tedesca Petra Lang che ha fatto questa scultura su questi microrganismi che ci sono anche quelli non conoscevano se c'era qua quando l'acqua si ferma ci sono corrisponde ferma a stranieri quando diceva un'acqua morta in realtà si attivano tutta una serie di microrganismi che la bandeggono in vita e noi abbiamo fatto vedere un libro dove ci sono fotografati al microscopio questi microrganismi che erano tutti ti ricordi? che sono tutte queste forme così che sembrano come dei fiori e lei ha scolpito questa cosa qua quindi una cosa anche questa vedete lei e lei sempre davanti alla sua ombra installata questo è di Scisciolo un'artista pugliese di parte mi sembra che sia anche docente eh sia anche docente all'Accademia mi sembra che la la il bichier forse lui affoggio non è affoggio che lui ha fatto invece di farlo il pietra si è trasformato l'ha fatto in tutto tondo però è importante che comunque un'opera che va a parete no? ha fatto questo un'opera che ha chiamato salvagnente che sono di pietra che sembrano dei salvagenti belli che sono fatti di materialismo però sono di pietra di pietra che affondano i pesci scolpiti di calo che è un pesce sacro per i cinesi insomma vabbè veloci vedete questo è il over the edge sempre nel qui andiamo molto indietro nel 2000 facendo dei salti è una vostra fatta con Yanot ma sempre in contesto urbano si con il contesto urbano che Yanot mi aveva invitato a curare con lui a Ghent che è una città e quindi vedete qua vi faccio vedere un paio di offre Jan Fabre che ha fatto quella operazione quella è la il portico dell'università di Ghent qua vedete che da vicino uno vede da lontano dice vabbè ma queste sono delle colonne di marmo no? rosso eccetera e in realtà le colonne sono quelle tipo grigie tipiche insomma edificio dell'ottocento che lui ha rivestito tutto di fette di prosciutto qua si vede c'è un particolare sembra ma ma in realtà sono fette di prosciutto lì è successo un pieno di animalisti eccetera eccetera c'è tutto uno di contesto con i cartelli via dicendo Yanot è andato poi in televisione a parlare per spiegare e ha detto ma scusate ma questo è come un lavoro di Magritte che sembra una cosa ma è un'altra come questo non è una pica questo non sono gli effetti prodotti questo è un'opera d'arte ma in tutto un altro senso queste sono due opere una con Giosella quella a sinistra che ha fatto il ritratto del padre vedete in scala gigantesca come un ciclope ma è il ritratto del padre vero ha preso la fotografia del padre e l'ha fatto fare con una fotografia del padre un po' ingarrabbiato questo è purtroppo io non c'ho un'immagine migliore è un'opera di Simone e Berti che ha fatto queste strutture in legno vedete e poi con dentro queste persone in arbitro elegante giacca pantaloni neri cravate camicia bianca che stavano immobili con le mani dentro con le mani dentro un'altezza tre metri tre metri tre e mezzo tutto il giorno stavano lì sempre poi ruotavano non ero sempre il senso poi all'inizio poi dopo aveva fatto solo in fine settimana che costava questo devi riparare magari metti là ti fanno questa è la copertina di una mostra che ho fatto questa è ancora in essere l'agra non c'è perché non ho scelto i posti i posti gli scendevano gli artisti questo era nel 93 il progetto inizia nel 92 la mostra nel 93 si chiama territorio italiano progetto d'eternità per l'arte contemporanea allora la cosa era io non avevo un museo non avevo niente non lavoravo più a flesciato perché è nel 92 non lavoravo più a flesciato cominciavo a fare a insegnare all'accademia e allora proprio io non non usero niente mi faccio il museo più grande del mondo che è l'Italia e quindi occupo l'Italia di opere d'arte questa è tutta una storia complessa come nasce tutto comunque facciamola veloce sul nostro governo quindi chiedo a tutta una serie di artisti sia che conoscevo sia che non conoscevo di scegliere un luogo in Italia che non doveva essere un luogo un museo una galleria un luogo d'arte diciamo ma doveva essere un luogo nella realtà non dell'arte e fare un progetto per questo luogo perché la mia idea mi dicevo ogni artista ha un sogno sull'Italia ancora oggi perché l'Italia è un luogo dell'arte è una tutto quello che vuoi no? chi sappiamo Roma Firenze e quindi mi fanno quindi io chiamo tutti questi artisti e poi io con una vera rica fotografa Laura Muragli vado a vedere tutti questi posti quando mi arrivavano delle segnalazioni voglio questo qua andava su e giù li mettevi insieme un po' che erano una zona diciamo se non vicino ma per esempio Rosseto Roma vado a Roma poi vado a Rosseto tornando su era andare a Saturna dove c'erano le terme quelle alla Pertro non quelle eh e quindi andavo a vedere a fotografare eccetera la mostra era una mostra di questi progetti con le fotografie dietro che eccetera però con l'idea che poi le opere avevo cercato di realizzarle tutti sono quasi 40 progetti poi erano arrivati in museo mi sono trovato altre cose e non ciò non le ho realizzate ma non le ho realizzate intanto però mi dovevo riprendere a realizzarle se questa cosa la facevo in Germania le erano state tutte realizzate questa è la copertina del tratale ecco qua quando si vede questo è il progetto di John Armleder che lui fa un progetto di una scultura vedete di un diamo 2,48 per 40 di altezza no 2,48 per quanto di altezza da mettere sul fiume Ponte perché perché lui Armleder a John è stato un canottiere professionista cioè faceva le cani di canottaggio e una volta aveva fatto tutta una traversata con i suoi amici con la canoa tutto il po' fino a Venezia dove insomma e quindi lui ha scelto questo po' non mi ha detto il luogo preciso ma di dove vuoi e poi siccome queste cose qui vuoi le fai se hai tutta l'ora dove c'hai amici delle conoscenze c'era lì e c'è ancora la galleria mitica lì 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 a placenza allora gli ho detto a me mettiamo questo progetto lo mettiamo indicando come si mettono eccetera e infatti questo è stato il primo uno dei primi che siamo riusciti a realizzare grazie a lì 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 qua vediamo un giorno dell'inaugurazione come vedete a un mese con la gravatta sempre le grandissime jeans e giacca e cravatta questi erano gli studenti della fondazione Ratti del corso della fondazione Ratti che io facevo insieme a Angela Vettese e qui l'abbiamo fatto durante che lui era visto in professor e questo era di sabato o di domenica non ricordo che i giorni di cui si inaugurava qui vedete ci sono io tipo Miami Vice spacciatore di droga 40 anni fa 40 anni 40 anni fa e qua è questo è il pontile vedete della messa a disposizione della società canottieri vittorino da feltren che poi avevo scoperto perché ma almeno mi ha raccontato mi sapeva tutto di queste cose di canotti eccetera che questa società vittorino da feltren era una cosa casuale perché io l'ho messo là perché c'era lino e quindi anche lì non sapevo questa cosa qua ma sono stati campioni del mondo campioni olimpiace negli anni 3 durante il fascismo era una potenza tipo come Sinner oggi nel terzo hanno inventato anni dei modi di girare le idee quindi questa cosa è fortunata che mi dicevo a me dalle cose che capiscono perché si così eccetera vedete qua c'è Nino Bardini e quello lato da fianco a me a me questo è un rappresentante della pub che aveva sponsorizzato questo qui a destra e tu lo leggeri famoso collezionista che è quello che aveva prodotto l'opera perché lui era il venditore di ile e quindi per lui fare un disco di cemento non ci voleva niente ma non solo l'aveva prodotto ma con un suo cane col braccio perché poi era una cosa piena non è che aveva fatto una cosa vuota era pesantissimo e con il camion con il braccio con la grua con il camion con la gru la caricata era venuta a portare l'abbiamo messa insomma eccetera e l'abbiamo messa solo del fuoco non galletto no noi l'abbiamo messa sulla riva perché l'abbiamo messa sulla riva con l'idea che diceva che era un artista fluxus che è quindi il fiume no anche il fluio il fluxus che l'idea era quella che negli anni poi le piedi del fiume avrebbe sei volte portata via ma infatti è stata così perché per esempio vedete questo è come si presentava questi vittorini alla festa ci avevano messo a disposizione questi barchini che portavano la gente davanti indietro e su questa cosa allora chiamano l'isola 8 maggio che i piacentini andavano a fare il bagno negli anni sessanta quando il fiume non era già era la spiaggia dei piacentini praticamente no? vedete qua c'è la bandiera svizzera la bandiera di piacenza che ha gli stessi problemi con la svizzera che anche rossa e la bandiera italiana e poi vedete a sinistra c'è l'opera coperta con la bandiera italiana che poi dopo il discorso abbiamo scoperto eccetera ecco qua vediamo ancora il discorso Decathlon questo a destra con la maglia arancione che andava dappertutto a quei tempi e non era così come fenomeno ancora a Garutti quello di Fiamia Cattelan Armleder Ammirati quello che credo che sia Federico Ranola Moral qua ancora sulla tecno la scultura scoperta se conoscete il lavoro di Armleder dove fanno tutti questi quadri con questi cerchi no? che è una presa in giro dell'astrazione svizzera Max Bill l'ostrazione svizzera arte concreta e qua siamo gli studenti del corso e Armleder e tutti sull'opera questo è come se presentava l'opera quando non c'era più nessuno questo vedete dopo un anno cioè l'opera è targata nel 95 perché era stata fatta nel 95 ma poi realizzata nel 95 quando c'era appunto il corso della fondazione l'arte qua vedete già da un anno o due si era già uscita il fossario nella niva perché la pietra l'aveva già smossa nonostante fosse comunque una scultura pesantissima e poi una po' densa quando c'è l'acqua ovviamente e dopo quattro o cinque anni non si vista più che poi è proprio scomparso luoghi vari va bene luoghi vari questa mostra fatta la rivoluzione siamo noi in Kosovo a Prizren che la città non è la capitale la capitale è Prizna due anni prima della come si chiama di manifesto o tre se non è la vedete e chiamata con questo titolo poi siamo la rivoluzione siamo noi questo e questa immagine anche altre è l'immagine di Giuliano Lucini che era evitato per fare la comunicazione cioè non è qui da mettere un'opera cioè perché a Di Gini è interessante quando lavora su quel piano no? internet sul catalogo sul libro eccetera perché lavora su un tipo la mematica o come la vogliamo chiamare e quindi qua va bene c'è tutta una marcia di bossi che si ispira in questo caso in questo caso al quarto stato di bellezza Volpedo che tra l'altro io quando ho fatto la mostra nel 2006 a Bergamo quando dirigevo la Gamech che normalmente poi si viene esposto a quest'opera perché è un ultimo manifesto che viene esposto un manifesto io quando ho fatto quella mostra a Bergamo su una parete di dieci metri esposi sei uno di fianco all'altro proprio pensando a quest'idea della 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 si di questa moltiplicazione del quarto stato insomma praticamente come quella del palais boys ma non è che cioè come un asset di risonanza non è che ho raccontato questa cosa a Bergamo e anche quando fece una mostra a parte che si chiamava Intilo curato insieme con Francesco Garutti il figlio di Alberto Garutti siccome il parco che penso conoscete a Milano di fianco quasi nessuno conosce c'è la galleria d'arte moderna dove c'erano il quarto stato o almeno c'era fin quando non hanno fatto il museo del novecento e noi abbiamo fatto quella mostra in cui abbiamo sfruttato proprio la vicinanza di questo museo no? e qui abbiamo fatto le lascanie con delle piccole fotografie tipo anche lì avevamo rimontato il box con un quattro e cinque box e la parete quando hai due entri al parco e poi la lascaria c'era le persone siamo noi poi sotto la piccola fotografia del quarto stato vedi il quarto stato sai come nei libri vedi il quarto stato quella lì era la porta a fianco e così su tutte le opere avevamo visto delle opere che c'erano potevano entrarci qualcosa con le opere esposte nella mostra c'erano 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 tanti artisti poi lì io ho fatto fare le pareti da vari artisti architetti design cioè tipo Gianni Petter aveva fatto l'architettura tutte di paglia tutte le pareti di paglia c'erano 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 l'architettura quella sua che fa metti tutte le sue decorazioni tutte multicolorate insomma eccetera eccetera e poi sull'architettura su diciamo questa opere io ho inserito sopra le opere degli altri artisti che io per cui tu l'opera stava dentro un po' come l'idea dell'arte antica che tu vai nel Vaticano c'è l'affaello poi c'è taccati migrani poi c'è il pinturicchio poi c'è una scultura poi c'è un passapidino che non sai di chi era un artigiano e lì era insomma eh era quella cosa lì l'accumulazione e quindi per dire tu questa opere non era un'opera che dite solo per sesso quelle cose le relazionavamo alle opere che c'erano nella quindi era anche come una pubblicità quel museo dove non andava nessuno però insomma noi ci interessava proprio creare questo 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 linguaggio questo vedete sono tutta una serie di comunicazione che viene fatta il vigini per quella mostra vedete questo vedete questo è princeler vista da parte del castello in alto vedete quella è una moschee quella è una moschee ci sono tipo venture moschee perché è una perché è una il Kosovo è diciamo identità palese la regione principale lì è quella quella musulmana vedete là andiamo a a a a a questa questa manifestazione perché secondo loro sta metastrata fra istambul e venezia e quindi oppure lì e poi il simbolo dell'altro stato biennale è quella specie di triangolo trapezio che vedete là che lì al vigini ha trasformato nella cosa dei Beatles che camminano non so poi questo vedete non è al vigini questi sono dei disegni di fumetti come anche questi qua li avevo invitato Marco Piumuccia e Matteo Pomanti che loro fanno questa rivista fanno di fumetti però non avevo invitato quei lavori loro diciamo d'arte perché io considero arte anche questo ovviamente c'è la scultura il quadro eccetera l'avevo invitato per il catalogo a raccontare a biennale anche io ho scritto il testo ovviamente ma io ho affidato a loro un racconto dentro il catalogo fatto con i loro fumetti cioè creati apposta per i loro fumetti e qua vabbè ci sono gli artisti quelli là quelli del personale che si riconosce insomma e così via i malolaci insomma eccetera questo è poi io che siamo venuti a guardare mi sono accorta che in questa città c'era questa associazione di donne musulmane però le donne che non c'è la cosa che c'è come i paesiani che portano chador le toni che sono vestite alla occidentale insomma c'era questa associazione di donne turche e tra le altre cose che facevano perché mi sono apporto da questa strada quando mi sono arrivato una delle prime cose che ho visto mi sono detto questi alberi con tutti questi rivestimenti di questi ricambi vedete qui qua sono dei particolari orchide che vuol dire orchidea si chiamano un po' orchidea sono solo orchidea e allora ho chiesto appunto da questi amici cosovali che mi hanno invitato a curarla l'oitrem baris e quattro cosa sono questi altri con questi ricambi ci rimane spiegati sono questa cosa qua che praticamente loro hanno cominciato già da diversi anni facevano questi ricambi e li avvolgevano a queste piante perché i libri e i manifesti li attaccano sulle piante con la sparagunta poi quando si tolgono rimane tutti questi punti attaccati si devono far guardare bene prima di questi punti che sono poi rimasti allora loro per impedire che venissero attaccati a questi manifesti c'è un pensiero poesiano scultura sociale un gruppo di persone difendiamo la natura insomma eccetera ma senza sapere neanche che fosse il posto proprio una cosa e quindi le trovano questo troppo figo ma chiaro questo è proprio una parte poesiana siamo fatta apposta fuori da fortuna ma loro le implicate nella mostra sono nel tataro qui c'è questi sono altri artisti quello lì è Tomaso Vinci è uno scrittore lui nasce come artista visivo ha fatto l'accademia di belle arti poi dopo ha cominciato a scrivere però lui continuano a disegnare a fare dei quadri a fare i tratti soprattutto essenzialmente fa dei ritratti che a me piacciono molto tutti attaccati sul muro tutti attaccati sul muro lui lavorava come assistente da Muzio Sperone insieme a Franco Romero sì sì lui lavorava come assistente da Sperone ha lavorato anche come assistente da Braille Smart ha scritto anche per Flash Art insomma lui ha cominciato a scrivere come qui di Codarte all'inizio ha pubblicato alcune recensioni su Flash Art poi manda a mano poi c'è l'art scrittore poi è diventata più famosa e più importante come scrittore insomma però a me mi interessano questi personaggi di frontiera no? quindi ho invitato questi sono tutti disegni e rappresentazioni di artisti e scrittori che erano tutti attaccati a parete e che potevano le persone stancarle e buttarle in questa vasca d'acqua così eccetera lasciando solo Boris perché la Revoluzione siamo noi insomma eccetera invece quest'altra artista è Ilira Soskic che è un'artista del Monte Nero che però ha vissuto in Italia per tantissimi anni amico porto amico di Cunelis ha fatto le mostre anche al Lattico la planita la planita e la galleria si chiama Silvana Stima dalla proprietaria che è moglie non un picco di un grande chirurgo neurologico mi parla comunque comunque quindi un artista molto bravo importante solo che non ha avuto molto fortuna perché comunque amico di lontani Cunelis infatti lui era poverissimo perché non vendeva non è che facesse però Cunelis lo stimava molto e gli ha dato la casa in cui abitare insieme alla moglie alla figlia poi quando Cunelis è morta è cambiato tutto è un impazzesco in Montenegro perché praticamente il figlio sai che poi Michelle che era questo compagno con Cunelis che stava sempre insieme non era sua moglie era moglie è effe come c'era un figlio allora non è senti ma erano parte da parte perché noi lo cantiamo noi perché loro sono i re di me insomma quindi anche la casa lì è stata tolti e non si può ritornare insomma e questo è un lavoro col pane vedi 89 2019 perché lui dal 99 ha cominciato a fare questi lavori su Malevich questo è un comitato di Malevich che in ogni posto che fa questo performance che lui fa molte lunghe performance fa proprio il lavoro sul pane col forno del paese della città prende il grano lo macina poi fanno i pani li infornano i numeri come lui dice e poi quello è quello fatto l'incossolo questo è un artista di Manosca con tutte queste con le scritte prese da sulla guerra sulle rivoluzioni prese da varie parti e messo su questi cartoni questa è una vecchia stazione degli autobus che non funziona più a proposito di fuori uso luoghi fabbriche questa qui molto velocemente è la mostra della città dell'arte quando il pistoletto ha aperto la città dell'arte la fondazione mi ha chiamato per fare la mostra di apertura e mi ha proposto questa mostra a casa di ma signor Recinto città dell'arte nasce come paesaggio italiano è incluso è incluso a base di territorio italiano uno dei progetti di territorio italiano è il Michelangelo Pistoletti che come progetto mi dà questo progetto che era il 92 progetto di città dell'arte quindi è uno dei progetti insomma diciamo realizzati come anche sono realizzati il lavoro di Callaccardi sulla Chieve di Santa Maria Novella queste stelle telaio di ceramica è stato realizzato il lavoro di Alfredo Pirri alla sede Arci di Roma via Monte di Pietralata che è una scritta almeno lunghissima è una frase da un anarchico calabrese sospetto non mi donerà il nome poi è stato realizzato anche il lavoro di Vinicius Cozzari su Rai 3 è stato realizzato tutti i lavori permanenti comunque questi qua il lavoro di Yerbin all'hotel ambasciatore di Boroni di Firenze che quello non c'è più perché come ad un certo punto la proprietaria ha venuto l'albergo e quelli hanno e quelli hanno e quelli hanno consolato praticamente e e dei rilievi che fanno questo lavoro di simulazione fanno queste ambasciate questi consolati fanno le bandiere con questo stato immaginario che loro si sono creati che si chiama noi gli stemmi le cose e loro avevano fatto questo consolato a Firenze in questione dell'ambasciatore che l'avevo quando tu arrivi a Firenze alla stazione se ci sulla destra sulla scala della destra di fronte c'è l'abbasciatore e quindi si aveva messo una placca con uno scritto il consolato noi suoi discorsi facevano i passaporti con le inaugurazioni insomma quello abbiamo fatto nel 94 è stato il secondo progetto realizzato il primo a San Cilignano con Soto Shimamoto con le bandiere sulle torri di San Cilignano avrei messo che Artara nasce l'anno dopo quindi non c'era ancora di parlare loro nessuno li conosceva e io era nato con Luciano Pistoi si era nato con Luciano Pistoi che mi aveva messo in contatto anche lui perché io avevo 10 anni avevo detto ma io devo fare una cosa in Toscana a San Cilignano tu conosci qualcuno? ma ci sono dei ragazzi che vengono sempre qua che vogliono una pina gallemia poi ti ripresa e vengono capito insomma eccetera quindi abbiamo fatto questa cosa dicendo la cosa interessante di questo consolato che sono tu vedi gli steli sono sembrano veri no? ti erano raccontati ai miei studenti ci facevano le lezioni e poi mi dice ma quando è andata a fine un giorno che uno studente mi fa ah ma il professore non c'è come non c'è? si mi fanno io mi chiamo dopo quando finisco la lezione mi chiamo di ma scusa ma cosa avete fatto? avete fatto la cosa mi fate fare delle figure con gli studenti che faccio la lezione all'HD no 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 mi dice no no non rimettiamo in particolare ma è successa una cosa stranissima che come? ecco allora praticamente c'era il G8 in quell'anno a Firenze e quindi era andata la polizia perché la polizia doveva controllare tutte le ambasciate e mettere delle macchine davanti a proteggere e quelli sono andati là e hanno detto ma scusa ma questo a noi non ci risulta la lista le consolate eccetera allora mi ha sentito a papà una donna bellissima tra l'altro che i carabinieri vanno andando vissa ma non hanno fatto così quindi non c'erano capire più niente quindi facevano passare tutto però lì gli ha raccontato gli ha spiegato insomma guarda si si però guarda deve togliere quello rimette perché noi possiamo mettere una macchina della polizia 24 ore su 24 per la settimana del G8 e quando Berluscona gli viene la presenza di garanzia per una cosa prima l'opera l'altra per un serato fido eccetera eccetera questa va bene stava a casa lì anche qua questa è una mostra che nasceva anche sui dei dei di pistoletto nel senso che non è che lui mi avesse detto lui mi ha detto mi fai la mostra e quella che ti pare però io andavo a lavorare uno spazio di pistoletto con l'unica mostra e c'era quella mia e poi la collezione in pistoletto che sono tutte le artiste dell'arte povera che mi hanno regalato le opere negli anni che si sono scampiate però vado in un posto dove c'è un artista che fa una india disciplinità nel lavoro arte, teatro, scrittura eccetera eccetera allora ho fatto questa cosa a casa lì che voleva dire io chiedevo a ogni artiste che ho invitato di coinvolgere un'altra persona o più persone insomma che però non doveva essere un artista doveva essere un'altra cosa e quindi per esempio questo è Cecil Exafa che ha fatto questo lavoro con lui ha coinvolto dice questa scultura cortale un po' fettiniana così lui ha coinvolto un gruppo di ex partigiani vecchi partigiani di Biella che con l'artista seduto intorno al tavolo con i fogli le penne le noccioline poi arrivano anche lì no? e discutero di politica di resistenza di queste cose di queste cose qua questo è invece un lavoro fatto insieme da Cucchi e Sozzas vedete questo è un lavoro fatto da Pistoletti con Cristina Pistoletto che era figlia di Pistoletto io non sapevo che ha messo questa figlia scoperta scoperta allora perché io conoscevo le tue gemelle insomma e quando le ho conosciute mi hanno presentato Piero una figlia di Colonia mettiamo nel 89 io la figlia di Colonia giravo incontro mai i pieroli mi fa ah ciao Giacina e stavo con queste tue gemelle che mi fa ah ti pregherò delle figlie di Pistoletto ah ma questo è proprio un vero artista anche lo specchio anche lo specchio pensavano specchio li ha fatta specchio e quindi non ho mai saputo l'esistenza di questa altra figlia che era stata con la prima moglie insomma che era anche una cantante liga insomma e quindi lui ha fatto questa opera che è ispirata al cappello di Reguiglione di Carli Stran questo disco poi la riproposte in altre volte ma la prima volta l'ha fatto per questa mostra qua dove sotto si metteva Cristina e cantava delle arie della Liga questa è Margherita Manzelli che ha fatto insieme a questa Antonella Pinola che è una regista ha costruito questo teatrino con tutti i vari suoi disegni dove poi noi si sono messe dentro il giorno dell'inaugurazione e facevano tutta una serie di movimenti cioè senza parlare non solo movimenti era una performance insomma perché poi staccavano anche i disegni mentre si muoveva vedete qua ci sono delle altre immagini ma questa ecco qua questo è il fuoriuso fuoriuso avviso di garanzia che è stato l'ultimo fuoriuso dove c'era anche Simone Camerlego perché questa è una mostra che qua ha un altro problema affrontato adesso qual è la casa di ci sono anche altri artisti c'era anche dobbiamo stringere questo è il viso di garanzia è l'ultimo fuoriuso poi Cesare un paio anni dopo è morto insomma e questo l'abbiamo curato insieme a Simone Cilia allora si chiama viso di garanzia perché veniva fatta nell'ex tribunale di Pescara e secondo me lo chiamavano la viso di garanzia che è un bel tipo la viso di garanzia però la viso di garanzia danno un senso positivo perché la viso di garanzia in Italia vuol dire che praticamente hai fatto qualcosa che non va bene ti arriva la viso di garanzia l'idea di lavorare sulle scuole sulle accademie perché anche lì ho osservato che in Italia cioè mentre all'estero i professori individuano quelli brani e li segnavano ai direttori di musei ma perché è anche un sistema più in Italia che era in grado di fare queste cose era Fabio che però non le faceva perché il problema era questo c'era i contatti veramente internazionali battute le litigate con Fabio di Tarzolo Palazzi era proprio su questo anche tu è proprio su questa cosa che Fabio non le invitasse a entrare nel mondo dell'acqua è vero? una sua idea una sua ideologia ecco quindi mentre all'estero quando dice Scuole Lustre tu pensi Agosti no? Thomas Roof che sono anche dei Belcher 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 che li hanno segnalati loro perché loro non è che avessero solo quegli studenti però ecco i più bravi li segnalavano agli rettori di musei eccetera questo è un po' come quella cosa del fatti con gli artisti quindi tipo due artisti di generazione diversa quindi ho abbiamo chiamato vari professori nelle varie accademie che noi conoscevamo insomma conoscevamo qualche rapporto insomma così a cui abbiamo chiesto di fare una pista di garanzia ma nel senso di segnalare uno o due studenti per la mostra e che esponessero insieme però però non abbiamo saposto il professore qua lo stende qua abbiamo poi messalato un po' praticamente che trattavano gli studenti come degli artisti ma non come studenti insomma e vedete qua sono tutti i nomi messi in ordine alfabetico dei vari artisti professori artisti studenti coinvolte nella cosa e anche qua abbiamo fatto per ogni gruppo cioè per ogni artista e uno o due studenti che avevo segnalato un professore o una professoressa della stessa accademia teore 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 professore di storia dell'arte professore di teore di teore dell'arte insomma eccetera tu chi te lo ha segnalato Simone? tu cosa stava dicendo che ricordi? Zuffi Lacanziani ha fatto la discussione per cui questo catalogo questo è un documento importante da un punto di vista che adesso hanno fatto la cosa al maxi tipo questi giorni la didattica dell'arte questo è tipo un manuale perché là ci sono non mi ricordo quando erano un centinaio tra artisti e professori farò forse anche qualcosa di più teorici artisti gli studenti che discutono di arte ognuno col proprio professore e la pare sulle idee dell'arte insomma eccetera eccetera ora che sia buono o non buono però il metodo per me è interessante perché coglieva un problema che ancora oggi è così questo è ancora oggi così ma non è tanto la colpa dei professori perché purtroppo il sistema dell'arte che si parla di sistema dell'arte che tutto nasce da una mancanza l'articipale del sistema dell'arte è quello che vuole il tuo libro no? la pare in una nazione dove il sistema dell'arte non c'è ancora un sistema vero e proprio no? anche se ci sono più musei eccetera eccetera e che è chiaro in teca segnalavano gli studenti ma in teca esponevano la pertutto il Vietnam musei qua e là qui in Italia cioè questo è un problema che è un problema perché ho insegnato che non so queste cose qua che i direttori di musei non frequentano le accadenti cioè non è che per una cioè in Germania in Francia è come obbligatorio non è che è scritto non è una cosa scritta ma è una cosa che è così cioè io so che l'accademia è un'istituzione eccetera eccetera io direttore del museo che sono anche io che sono devo andare all'accademia a vedere che succede se ci sono gli artisti bravi quindi parlare con i professori c'è un dialogo ma dire qua in Italia questa cosa non c'è praticamente intanto perché diciamo gli artisti famosi nessuno loro insegna e quando hanno insegnato hanno insegnato dall'estero infatti tipo un pistoletto a piena con il S.A.T.U.S.E.D.O.S.E.D.O.F. si non è c'è l'accademia insomma cioè senza voler sminuire hanno messo l'istituzione però c'è questo è un problema italiano capito cioè che tutto poi gli italiani non sono chiamati non vengono esporti dall'estero eccetera ma perché dall'estero ci vengono come una cosa che non si capisce che cosa è cioè tu invece ma è tutto chiaro ma il museo vedi dagli espressionisti all'ultimo giovane e quindi tu facci una storia dell'arte internazionale no? ma anche una storia dell'arte degli artisti italiani si chiedono ma non si parla tutti messi insieme no? in Italia non c'è una cosa così per cui tu vai ci vai al maxi c'è una una collezione di una struttura di questo tipo che puoi leggere e allora dici quindi ma questa è una cosa grave per l'Italia perché cioè voglio fare voglio fare ma non riesce a fare è come se questi politici questi non possono andare a vedere una teglia un po' più lungo e quindi questo ne risentono tutte ne risentono le scuole ne risentono tutto il sistema dell'arte questo è un piccolo tentativo fatto da me e Simone Simone e Ciglia perché c'è loro che vengono qui a fare questa mostra io ne ho fatte sei ecco ecco Bolino-Oliva e il treno quindi il doppio di Bolino-Oliva perché ne baghile perché ci vogliono due vintesanti vogliono fare la baghile anche se anche se anche se anche se comunque segnalare insomma per attenzione un problema che c'è ancora oggi insomma eccetera no? quindi questa è una buona inaugurazione con vari artisti questo è Enzo che salutiamo il lavoro che risponeva lì e lui un perista bellissimo questo è Moshen che è un artista israeliano che aveva segnalato Pedro Mazzei nella figura che si ne vuole perché Pedro Mazzei sono tre artisti con una coppia artistica e Mario Irochi invece avevano fatto una coppia di professori che invece di segnalare ognuno un artista o due quindi due avevano segnalato lui e un altro non mi ricordo il nome il cognome napoletano perché io non ci volevo le foto perché con me non ci sono mai foto in termini quasi e questa era sulla scala quando si arrivava questa è un'altra sala vedi quella che aveva Mazzei questo qua è Piero Calignano questo è questo è Davino Sciorilli questa doppia proiezione Accademia Urbino segnalata da Matteo Fato questa è questa è la mostra prima ancora nel 1997 poi sono passata anni che è una mostra che ti avevo chiamato perché questo catalogo questo immagino gigante che era così tipo quei libretti di preghiera che le nonne leggevano quindi mi ricordava sempre questa mia nonna questo libretto nero di Porto Rosso che sempre pregava questo libretto qua io ho letto questo qua che me lo ricordavo faccio male e allora avevo fatto questo e lì c'era anche Federico Fusi in questa in questa mostra qua dove avevo fatto erano mi ricordo dieci artisti ognuno una stanza ognuno doveva scegliere un tema ognuno doveva scegliere un colore quindi io ho fatto dipingere una stanza del tetroiuso di verde dei amici dei medici e lui aveva fatto con la terra proprio con la terra terra di siena tutto il muro e negli altri c'erano gli impianchini e poi gli impianchini del tipo di volontario tra cui Alessandro Arbottini che la prima volta che si presentava io ero conotti ancora con Biglini però parlando capì che era uno che c'erano dei numeri e lui e poi voleva fare il filo dove si è finito nel 97? Alex Fera ma ora è è che è lungo mare è il mestre degli autori ma ce l'hai ecco questo è la eh? io non devo vedere allora io ce l'ho un mare questo qua e lì dice vedete guarda qua si vedono tutti Carlo Accardi la visione la luce Enzo Fucchi l'anima Federico Fusi quella mutazione di mamari salto e così via e ognuno c'era un un critico curatore che dialogava si aperteva per esempio con Federico Fusi c'era Vittor Niziano questo importante curatore russo di Mosca nipote di Giovanni Niziano fondatore del Partito Comunista italiano che scappò durante il fascismo in Russia che poi si è sposata con noi poi si è rimasta togliata invece da noi dopo il fascismo e infatti la figlia di Giovanni Niziano quindi la mamma di Vittor poi è diventata parlamentare della Duma russa che è il Parlamento russo e così via poi in uno di queste c'era una adesso non le ricordo tutte ma per esempio la verità salvo qua i colori sono messi questi colori così non corrispondono ai colori perché per esempio magari questo l'aveva fatto tra i monginelli lì nasce l'idea del nero di salvo cioè salvo sceglie il nero come è la verità quella che discuteva per il catalogo con salvo che era la nuova beatrice e quindi io ho dipinto questo di nero poi c'era un quadro solo grande sarà stato un quadro salvo non ho mai fatto tanto quadro di grano poche volte però questo era un bel paesaggio era stato un 2 metri in una montagna e quando l'abbiamo adesso sopra io ho sempre amato salvo ma comunque però quando l'ho messo sopra il vesto nero era potentissimo cioè diventava come uno del box una cosa pazzesca e da lì poi mi ho ricordato quando ho fatto la mostra al museo che dicevo che dicevo questa mattina e quindi adesso ora non me ne ricordo tutti i critici che c'erano per esempio per la Zatole mi ricordo l'infinito aveva fatto di arancio lei aveva fatto dei disegni su fogli arancio e poi c'era chi discuteva con quelle piccole mi pare ecco dopo me lo vedo Amazzei Carla Cardi era il crudo sì sì vabbè pochi spalletti insomma adesso non mi ricordo tutti i critici i quali discutevano mi pare per esempio di Chiara Fertola adesso direttrice è diventata della gama di Torino con pistoletto eccetera eccetera vabbè insomma ok però poi da lì è nata una rivista e con quel catalogo lì che è un catalogo grande così piccolo così che ti metti in tasca la sera la sera venivavamo Frank se lo ricordo anche lui ha partecipato tante volte sia come artista che come perché da poi si faceva un po' tutto tutti facevano un po' tutto che non c'era una rivista dove si poteva parlare dove si poteva dire quello che si moriva insomma eccetera eccetera e allora ho visto la parola ma diceva che non c'è facciamola la chiamiamo perché come la mostra che stiamo facendo via la scritta perché basta qua abbiamo messo con lo slash e il punto interrogativo perché due forme di perché di forma interrogativa e di forma di risposta no? e poi diciamo lo schiacopettino questa è aperta perché praticamente era metà in inglese e metà in italiano la giravi e quindi questo qua e lo facciamo allora io quando ho fatto questa cosa qua ho cercato di coinvolgere varie persone ma non sono riuscito a coinvolgere nessuno perché nessuno cattiva cosa io volessi fare e quindi mi sono dovuto fare tutte le interviste ed era una cosa era una rivista di soli interviste chiacchierate perché nel senso ci mettevamo intorno a un tavolo un bicchiere di vino con il tè si schiacciava e si cominciava a parlare alla montagna e si registrava poi si sbombinava poi ti davano delle foto e le immagino delle cose qua e io ho fatto soprattutto il primo numero tutto da solo perché chiedeva delle persone spiegavano di fare questa cosa e nessuno mi diceva che si si però non lo facevano mai io però nel tempo l'ho fatto e poi dopo un paio d'anni questo quant'è? che è il 99 quindi il 97 il 99 siamo usciti con il numero 0 di solito il numero 0 è il numero di prova di poche pagine ma noi l'abbiamo chiamato numero 0 e non il numero e la prova è di 500 pagine 259 650 all'alto io quando l'ho fatto ho stampato con dei fogli che ho stampato a computer poi sono andato a tutti mio amico anche traghetto mio amico insomma tutti amici e insomma io ho fatto guarda questo qua ho venuto a vedere ah bellissimo questo è un lavoro bellissimo ma l'abbiamo pubblicato l'abbiamo fatto l'abbiamo fatto dei disegni da vendere per pubblicare insomma eccetera e poi con cesta non era possibile fare una cosa così però l'abbiamo fatto con un magazzino di Roma la galleria Mario Nicoletti che ha finanziato comunque ha trovato un po' il finanziatore un po' trovava soldi per fare insomma non abbiamo fatto 4 o 5 numeri poi dopo non abbiamo più retto perché comunque è una spesa costosa e da un certo momento in poi riesci a diventare una professione oppure non riesci più a stargli a stargli ieri perché appunto non era una fanzina erano 500 pacchi venivano tradotto insomma e così via però con l'edizione del 97 si inaugurò fuori uso giovani anche si chiamava fuori uso in provincia avevamo appunto in vita tutta la serie di giovani artisti e io poi siccome stavo facendo anche io l'amore Cherubini io siccome poi stavo facendo quell'altra mostra per non fare mi allargò troppo entrave là corrono solo tu però i nomi li abbiamo scelti tutti insieme infatti molti di quella mostra lì erano i nostri studenti di l'accademia di Prera soprattutto spendi i carotti non tutti ma una buona parte e questa stella mare se vedete che c'è la forma di un aereo vista là era un'ex colonia di quale non sono immagini così si chiamava mercato globale questo però vi ricordavo che questo lavoro di Paola Tire Paola Tire Paola Tire allora è molto malissima faceva primo o secondo anno all'accademia si misa là dentro che doveva fare sempre un modellino in realtà il governo governo di fare questa opera quindi Cesare nella sua follia e tutte le cose che gli possiamo dire che sono anche vere però ha permesso veramente delle cose che le hanno in un museo cioè le ho attrapate un camion perché poi un camion non è che arriva a lavorare con il camion lo inclino con l'aereo non finisce lì prima di inclinarlo devi scuotare di tutto l'olio perché si versa tutto perché arriva la polizia quindi c'è anche un lavoro costoso e anche di tempo insomma questa è la questa è la mitica Furious del 95 quella dove c'è la testa di prima che abbiamo fatto vedere prima che si chiamava Caravanzerradio l'arte contemporanea sottotitolo ovvero perché gli egisi erano cubisti che era il titolo così a cazzo nel senso cioè infatti gli americani gli stranieri questa è una mostra ci stavano tutti praticamente da Bosut Amstein e praticamente questi come loro sono sempre sono sempre noi mi dicevano perché mi chiedevano perché erano cubisti mi spieghi mi fai capire io ce l'avevo messo così che mi piaceva ma perché sono tutti di fiamma capito mi guardano il tasso e non così e Caravanzerragli perché questo architettore di Michelucci questo ex ricorificio ha una forma circolare come i Caravanzerragli quando si mettono in circolo nei deserti che avevano i Caravanzerragli quindi l'idea è così in dunque ma anche come si faceva eravamo tutti in là tutti volontari ci diventivano questo era un ufficio mobile un ufficio mobile perché non c'erano ancora i telefonini forse c'erano erano due erano quelli che c'erano così insomma e quindi avevano questo filo volante volantissimo che non so mai se è stato pagato la bolletta con la cosa della morte della morte in un tavolino e ero lì con i numeri indirizzi riferavano gli artisti insomma e c'era quella macchina di Cesare Marzo e abbiamo fatto solo quella mostra di quelli come per dire non è che ci vuole forse il museo quell'altro per fare le cose io le mostre le cose più belle le ho fatte morte fuori dalle musei fuori dalle istituzioni questo facevo addirittura il primo catalogo questo è il primo catalogo perché è un catalogo di progetti è tutto morto grande così questo è il nome degli artisti insomma così ed erano tutti dei disegni fatti dagli artisti perché l'opera siccome questa è una mostra che è differenza di queste tutte le altre che sono state fatte con opere che esistevano già questa qui le ho fatte tutte prodotte tutti prodotti in abruzzo e varie artigiane varie cose quindi non si poteva avere il catalogo quindi abbiamo fatto questo catalogo di progetti con tutti questi disegni delle frasi degli artisti le frasi di citazione che ho preso da Filosi Marx Enere che mi sembrava che funzionassero per l'artista poi dopo abbiamo fatto anche il catalogo dopo quando si è fatto l'artista questo vedete è uno spazio vuoto senza niente però questo è vedete ora quando siamo andati noi non era così questa è una foto che c'è tutto fuori dall'ottore abbandonata questo qua è una foto sempre di com'era perché poi un'altra cosa che abbiamo fatto oltre alle opere che c'erano dentro nel piano di sotto poi so che c'erano mostri di fotografia e poi c'era anche una loro sul cinema fatta da Epico Ghezzi e praticamente abbiamo fatto fare ogni artista abbiamo dato un pezzo di stoffa di tela e ognuno doveva fare un disegno una pittura che poi pensavamo come standardi perché che trovano nello standard non ci avevo pensato quelli là per esempio quello giallo e purchi per esempio quella a sinistra è montesano quella a destra rosso con tutta la scritta in cinese è David Hermons questo qui dopo David Hermons sono Irwin questo qua col cuore è Vinterbois quella a destra con i capelli grossi è Vanessa Zivoff Giorgio Cattani quello mi sa che è Cattelano quello lì insomma adesso non riesco a metterli comunque ovviamente non riuscivo a farli tutti perché non tutti vennero in tempo per farli però una ventina insomma questo è un paio di opere per esempio questa qui l'opera di Aldiana che c'è un tunnel di passaggio da una parte all'altra della dell'aurum che tu trovi l'altro io ho ragione mettere al posto questo tunnel perfetto e fare un positivo negativo perché se vedi da un lato lo vedi così sia dall'altro lato lo vedi in questo altro muro cioè maggioranza nera maggioranza bianca a seconda del punto di vista questa è la logra di Cosut è un particolare tutta una strada tutta di piena di nero con tutte queste scritte su dei pezzi di legno tipo così così spessi e su ognuno ce l'ha stampato con una la categoria di Cosut di quel carattere che lui si è inventato un nome da partire dalla logra d'Italia di un ministro tipo giuridico la data in cui aveva era stato ministro o era stato qualcosa nella politica quindi Berlinguergue cioè Caxi Tantimoro e quindi Marco Pannella insomma eccetera eccetera questa è la performance di Vanessa Bigloft una una delle prime praticamente perché nel 95 lei cominciò a fare prime nel 93 altrimenti delle ragazze adesso lei fa delle costi tutti i professionisti che pagano performance ma adesso oggi costa 200.000 euro una cosa del genere perché fa i casting ci sono i registi che finono ci sono delle spese come fare un film lì invece poi ci sono delle ragazze abruzzesi recuperate nelle volontariali poi c'erano dei grandi quadri anche che non qua non c'erano ancora che le ha messo dopo con il film della performance questo è David Edmonds che è un artista che non fa mostre fa pochissime mostre però io l'ho invito non si sa mai infatti non c'erano non pensavo che venisse che partecipasse cioè lui non fa neanche l'appendare cresce perché ci non ne frega niente e invece mi arriva una cartolina dopo otto nove mesi c'erano persone non ci pensavano niente più sì voglio partecipare fuori il muso poi anche quando è venuto noi andavamo a pagare l'aereo le cose non rispondeva mai l'altro dottore normalmente stavano estendo la mostra con tutti questi artisti tornavano in alberba la sera dopo che sono le due le tre le mattine si tornavano che si lavorava mi ricordava un primo Franco Fiorino 24 ore ma c'è il signore David Edmonds che mi ha avvisato chiaramente lui si era pagato l'aereo non arrivato perché noi a Moschetti devi venire questo è l'alberba non rispondeva mai però che ne dava e poi andò lì a fare questo lavoro insomma con i ragazzi con tutti noi insomma il lavoro consistente con quella molazza lì che è questo che ha impastato il tufo che gira impastato il tufo e poi ci sono dei come si chiamano come si chiamano quei radioloni radioloni che si usavano di breakdance boombox 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 con delle cassette dove c'era uno Pavarotti e uno James Brown con tutto un sistema di cioè oggi sarebbe più facile tutto elettrico allora tutto elettrico di rileghe che praticamente andava Pavarotti in questo modo girava come se mantenesse un ritmo e poi veniva Pavarotti come andava nell'altro come andava James Brown così si alterna c'era un'opera mazzesca poi lui per Davarotti ha fatto le sue spese o comunque per lui una sua amica di Roma con una violoncellista che suonava il violoncello all'inizio questa è una mostra veramente la chiamava una dottrombiennale perché c'erano tutti gli artisti che venivano da Venezia e venivano da Venezia questo qua invece il primo palanino che stava montando il suo lavoro il respiro che è un lavoro di 35 metri con tutti questi disegni tipici di palanino queste croci e con tutti questi vedete questo è un braccio quello è un braccio tipo un braccio lungo due o tre e mezzo poi le gambe il corpo poi c'era un respiro si sentiva proprio respirare quindi una generosità da parte palanino ecco poi se avete qualche lavoro che ne sono state provate una volta lui se l'è provato lui e l'ha portata le braccia le braccia le gambe lunghissime e il corpo e poi questi questi disegni quello che si vede oggi è il Cattano questo è Cattelan che è sempre stato furbissimo che avendo capito l'antifono eccetera lui ha fatto un lavoro questi manifesti che poi è stato attaccato al muro quando è finito un altro suonatore non rimaneva niente a manzo che il pagazzo le rendeva queste cose qui insomma eccetera questo invece è il mio primo fuoriuso poi finiamo perché siamo qua nel 94 che l'ho chiamato operatino ma non perché il primo fuoriuso perché questa è un'altra idea che io avevo l'altro dove vai? torno sulla costa ma sei in macchina? no ti porto io ti la scavo però ti la scavo ma è scena ma è scena ma è giacoglino allora questa è un'idea che avevo sempre quello lì perché frequentando gli artisti morto da lì io vedevo delle cose loro questo cos'è? questo è un quadretto che ho fatto quando ero dieci anni questo è un scultino che ho fatto quando ero dodici anni dodici anni qui erano un quartino dei quaderni in commercio ma non ho visto tutto questo disegno perché quindi quindi è rimasta sempre questa idea che devo fare qualcosa con queste che poi vi ho considerato come quelle prima no? che è sempre dire vediamo se l'artista ha una costante nel suo lavoro cioè che l'artista è già da bambino quindi vedete con questi parenti di coppia parenti così e uno era un forno tipo una tetta di coppia una tetta di coppia che galleggiano che è un po' espressionista non come le cose che fa che ha fatto dopo più ti fa pensare al professionista tedesco però che galleggiano in uno spazio perché conosce da ogni pubblico cioè il galleggiamento dell'immagine era una sua costante da sempre così paladino aveva questo quadretto cioè molto raffinato nel suo segno insomma è così tutti gli altri allora facciamo una volta la chiamiamo per la prima mi ispirò qua erano i pastelli di Giottofilla quando eravamo qui c'erano un bel disegno con queste immagini i pastelli ma c'è ancora adesso questa parola molto ridotta che è la storia che Basali racconta nel libro le vitte no? che Giotto praticamente un giorno viene incontrato dalla Cimabue che c'aveva niente da fare per la campagna di Firenze insomma nella Toscana e vede questo ragazzo disegnare la pecorena allora vede quest'idea che ognuno ha la sua pecorena il suo Cimabue e quindi poi sono andato alla fila a farvi dare i permessi di utilizzare queste immagini è stata una copertina storica sempre sì ecco questo per esempio la faccio vedere un paio vedete quello in là il Nagasawa è questo qua a destra del Pirroi qua adesso non si vede bene che non c'è l'indagine che l'attenzione a questa distanza però noi ritroviamo proprio i segni la spazialità dei nei lavori di questi quando avevano quando erano piccoli vincere qua c'avevano i segni della Sida per esempio Max Pieter aveva un quadro tipo impressionista una specie di prospettiva di quando aveva 30-14 anni però tu vedevi le costanti mi trovavano anche quando lui poi diventa artista come artista insomma questo voleva essere così poi c'è un prete vedete vi parlavo di quelle cose dei pallini il risauro dei pallini costante del suo lavoro nella scultura e poi gli ha questo pelle di Leopanto che lui avevo da quando era piccolo perché l'avevo consegata sempre come una sola d'arte quella è Mario Merz quella è la pittura degli anni 80 quella è la pittura degli anni 50-40 insomma va bene adesso però però vi faccio vedere va bene qua ci sono delle coste che ho fatto online che se potete andare a vedere andate su opl www.opl.it il luogo dell'arte ci sono delle coste che ho fatto online costruite tutte online questo vedete è un'altra che ho fatto varie visioni e ognuno un titolo che l'ho preso montato per la settimana dei diritti umani allora io ho preso i titoli li ho inventati ogni volta sperando le parole di libertà e allora in realtà sono costruite perché per esempio il primo è PER che è in italiano FOR che è sperato FOR inglese PER latino zoom tedesco sono tutti PER ognuno ha un diritto PER diritti della donna per dell'infanzia l'anno dopo PER PER c'è sempre l'italiano e poi cambiano gli altri e questi sono vedete gli A e l'Ucraino perché mi sono basato nel luogo dove ci sono i conflitti e quindi l'Ucraino vedete l'Ukuro che sono questi perseguitati dai cinesi in questa comunità dei cinesi FAR i dici il po' l'ebraico l'Ukuro insomma e così via e questo è l'ultimo anno scorso PER ISLAM vedete l'italiano il basco i maori il cana quindi il gallese e il norvegienese insomma e questi sono gli artisti che i miei vari ho messo in questa mostra che questa è una mostra online che si vede solo online infatti apporto questo è quello dell'ultimo avrei internet radio youtube che vi ho detto prima questo è il marciapiede dell'arte e te lo saprà quello online il marciapiede dell'arte sì questo marciapiede dell'arte è una cosa che mi sono inventato anche questo durante il covid che ho fatto una serie di studio music che magari prima o poi lo riprenderò online nei vari studi di artisti in tutto il mondo tutti lo potevano vedere potevano seguire la diretta e questi comunque ci sono tutti sui miei canali youtube che si può vedere perché la cosa io sono privilegiato e vado a vedere la missione degli artisti ma a molti di voi cioè non è permesso se sei amico se no ti apre lo studio però con le ragazze con le ragazze qui si 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 così tu puoi andare poi mitologie dell'arte come ho detto prima quelle con le testi della pietra e poi radioarte qua il nostro professor Fusi che ha questa radio insieme a sua moglie Martina di Scova Fusi che fanno questa radio condonate dove io faccio ogni tanto delle conferenze come questa qua un po' più corto ovviamente e però dove un po' più lunga abbiamo fatto roba di tre giorni e anche dove c'è anche come si chiama radio librate e poi c'è radio librate questa rubrica che mi sono inventato che è una rubrica dove parlo dei libri d'arte o intorno all'altro io invito delle persone che hanno pubblicato un libro e facciamo una caratterata insomma su quel libro e questa è una cosa non parte in servizio è una parte e lo sono inventato anche per costringermi a leggere perché facciamo sempre tante cose ma siamo impegnati che praticamente ci rimane sempre poco tempo per leggere però avendo un appuntamento così mi sono costretto insomma anche tra gli anni dei tempi dei tempi di lettura come facevamo quando ero in accademia in accademia oltre le lezioni frontali sono così io facevo ogni settimana presentavo anche un libro ogni volta un libro diverso che non erano libri di arte erano filosofia antropologia poesia letteratura qualunque che non era una cosa e gli studenti dovevano scegliere uno di questi libri perché se erano nel corso dell'anno presentavano venti libri che si potevano leggere e chiaro che se uno lo faceva tutto non andava un po' a suo vantaggio però dovevano scegliere una e portarne nell'esame quindi questo è un contino con Radio Liberati che si avrebbero ascoltati perché sono poi in podcast sono andate sull'earling sull'earling no ovviamente tutte e due la vegana che adesso qua molto veloce questa è di Warhol con mosti di Warhol questa l'abbiamo fatta tutte le pareti di questa carta argentata ispirando dalla Vectory poi avevano perché tu fai le mosti di Warhol se sei un uomo sei pieno di soldi riesci a fare la mostra definitiva su Warhol non sa che fare allora io ho messo tutta la carta da Parade poi è una delle cose più strane su Warhol non so come si vedono cioè Warhol il Belbet albergante aveva copertini della banana ma in realtà Warhol ha fatto i 200 copertini dei dischi anche musica classica come vedete anche loro danno a Bertè perché quelli davano al Factory di Warhol la chiamavano Spaghetti Queen perché ne cucinavano gli spaghetti per tutti e qua vediamo Roly Stone Saminelli Diana Rossi Chopin Mozart insomma eccetera 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 questa era l'opera finale nella mostra questa invece c'era un'opera diciamo originale nel senso di Warhol dipinta come anche da lui e là ci sono serigrafie però su Warhol il problema non esiste perché lui la produzione faceva parte del suo lavoro faceva parte quindi ci sono queste serigrafie autorizzate da Warhol e poi ci sono delle serigrafie che non sono autorizzate perché lui è morto però si portano a pubblicare e si vengono sono gli stessi sono gli stessi telai a cui praticamente la fondazione non ha potuto fare niente sono le cose che vengono chiamate gli After Warhol e sono uguale allora a me mi interessava questa cosa dell'opera d'arte dell'epola della disciplina tecnica e quindi ho messo a comprare insomma queste cose qua e poi invece di mettere le sedie quelle dei musei che noi abbiamo questa mostra qua l'ho tolta e ho messo l'islaio di Damanhurst questo è un'islaio che chiunque può comprare Damanhurst c'è questo sito che si chiama Hotel Peter dove vende le magliette le nazze e anche l'islaio e io ho comprato questo islaio e l'ho messo in libro con questa idea di perché l'islaio ha a che fare ovviamente con Warhol questa idea del relax no? e poi il catalogo vabbè che ho fatto solo un'opertina anche lì il catalogo ho fatto un catalogo dove c'è una parte dove c'è il mio testo eccetera con le foto della mostra delle opere e così via Warhol col Papa per esempio Giovanni Moro II e altre cose e poi c'è un'altra parte dell'età in cui ho scritto tutti gli artisti che hanno esposto nel mio museo chiedendo perché io come periodo tutti hanno un'idea su Warhol no? di farmi una pagina su Warhol e mi sono arrivata una settantina Taccata la mia alfabra quelle altre poche nessuno ne vengono alcuni sono molto amico perché loro c'erano proprio una pagina una pagina con questa ideologia comunque non l'ha fatta insomma per cui un catalogo d'artista perché ci sono progetti disegni su Warhol disegni fotografie comunque creati appositamente su Warhol quindi è un libro di artisti che non è un catalogo semplice insomma come questo quadro di pistoletto perché questo è un librone come questo non è quello di Warhol tipo 500-600 pagine ha miso un pistoletto che fanno? ha fatto migliaia di mostri ha fatto allora io ho fatto un catalogo l'ho diviso per 10 temi ho chiamato 10 con la loro a scrivere se ho condiviso un tema e poi ho chiamato tutte le luci del museo quelle che accompagnano rivistatori ognuno a scrivere un testo ora siccome le guide della gambe dove noi siamo stati prima a fare nel 2006 le guide di tutte le nazioni se guarda succede la gambe nella costruzione dei dati con le bandiere ci sono tre della nazione per cui noi eravamo in grado di fare la vista guidata in tante lingue fagnoli italiani ma in ebreo anche in giapponese in cinese in ucraino insomma eccetera eccetera e quindi questo testo questo catalogo continua perché c'è il testo in italiano e il testo della lingua della della nazione della nazione della guida della lingua madre quindi lo differa in tutta questa idea perché io lo faccio partendo dall'idea dell'opera dell'artista dell'artista per cui questo è un catalogo su questo letto che non è il solito cento pagine di parografie pubblicate mille volte ci sono anche le ottene lo stesso testo che diciamo che c'è anche quello che ho scritto io ma c'è tutta questa interpretazione multiculturale del mondo delle guide che sono quelle che interfacciano le persone al museo tutti i giorni insomma e poi questa era la mostra che si chiamava c'erano solo due tipologie di opere si chiamavano immagini in più e oggetti in meno che sono gli specchi e gli oggetti in meno questo è quello che ha fatto subito dopo gli specchi insomma mi piaceva questo titolo gli oggetti in meno questo è la mostra di Ontani il Malagamec in particolare vabbè questo è il pleno Anzio Bonagli io essendo nato come curatore per la strada per la strada poi mi sono inventato apprendere un curatore che non esisteva per esempio curatore è stato il primo per i giorni curatori in un altro 2003 che continua ancora ad essere fatto e anche da lì sono usciti tanti curatori e poi sono diventati i nodi insomma eccetera come che aveva avuto la seconda edizione e altri insomma da O'Hull la torre quella che ha fatto l'ultima l'ultima ha fatto Palermo una manifestazione a Palermo poi ha fatto altre e altre c'è pure quella cinese non mi ricordo il nome e poi è andata come curatrice a Guggenheim quindi questa diciamo l'idea di frequentare i giovani artisti e i curatori per aiutarli in qualche modo senza niente dovere perché io faccio sempre questi discorsi faccio ancora ma dobbiamo fare la riforma del sistema ma dobbiamo fare veramente come quella della canzone come quella dello sport perché quello di scoprire Maradona diventa miliardario capito? io con tutti i mali che ho scoperto dei curatori di un artista del sabino tra la bottiglia tutti questi qua darei miliardario invece uno passa passano sia all'altro ma non ci danno dei soldi tu vuoi questo? però mi devi dare un erro che sarebbe anche per esempio Cristiano Parsecchi che è il direttore generale di Prada da 4-5 anni e lui è andato alla GAMEK è stato con la GAMEK per 7-8 anni che poi non è andato a Venese da Pinot poi dopo se è andato da Pinot è tornato alla GAMEK con uno stipendio di 1.000 euro mentre chi pensava 20.000 euro all'anno quindi 12.000 euro al mese perché era attaccato poi era chiamato Prada ovviamente ma prima era chiamato in Torino Musei poi Prada insomma figurati che non gli chiamava la GAMEK sarebbe diventata ricchissima come è no? Bisogna fare queste riposte vabbè questa è la Fondazione Ratt Ratt con Elena Dramovic questo con Jimmy Duran questa è la mostra che aveva fatta a Palazzo Farnese che aveva detto prima però non ce l'ho immagine questa è che ha 84 questo è lo Smarizocchi come è Thomas Reba queste le opere di quei tempi Mastrangelo Santori Novale questo è Camporesi che vi ho imparato prima insomma mi piace sfumare il mio cinto questo è Pazienza 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 ci sarebbero anche degli altri Quando avrei capitalizzato, facciamo questa riforma, Alessar Picof, Palapì, Laro Pavarento, Pietro Casallo, Bertoccovi, Stefano Raimondi, Rabottini, Ciglia, Pistole e Pistoletto con lo specchio. Questo è Vincenzo Ebellis e il fratello Giuseppe, che sono due gocce d'acqua. Poi io quando li incontro, ciao Vincenzo, ma noi sono Giuseppe o viceversa, perché sono veramente ugualissimi. Uno va bene, sapete, è diventato direttore generale di Basilea e l'altro direttore di Sky Art. E questi vi saluto un massimo saluto. Grazie. Aspetta, aspetta Marco, si vede, 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 non bisogna forzare le persone, va bene così, con te non l'abbiamo fatta, con te non l'abbiamo fatta, con te non l'abbiamo fatta, con te, con me no, con me no, è il gesto, non è che lo scazzo, quando siete della formazione, anche con il professore, eccoci qui. Per voi avete fatto un po' di usa a sere, no? No, io l'ho fatto, mi sembra, con l'aula, ecco l'aula, ecco l'aula, anche l'aula ho fatto due o tre. Grazie. 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 Per voi. Per voi. Grazie. Allora, io volevo leggere il punto, vi saluto, noi ciao noi ci vediamo presto, ci vediamo presto. Ma noi ci vediamo per la fama, per la fama e 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 per la fama. Ma cosa, ma stai avendo, mi fermate? Sì. Ma questo è il marchio, si, ma si fa capire voi, ma tutti voi non capite voi. Ciao, scusa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Grazie a tutti.